I viaggi di Gio Damandavilla, volo 1 asterisco 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 i viaggi di Gio Damandavilla Volume I I viaggi di Gio Damandavilla volgarizzamento antico toscano ora ridotto a buona lezione con l'aiuto di due testi a penna per cura di Francesco Zambrini Voli Bologna Presso Gaetano Romagnoli 1870 Edizione di soli 206 esemplari per ordine numerati N188 Imola Tip Di Galeati e figlio via del corso 35 Indice agli illustri letterati C.A.V. Francesco di Mauro di Polvica e Dott.C.A.V. Giuseppe Pitre In ogni maniera di lettere eruditissimi a testimonianza di profonda stima e di grato animo Francesco Zambrini Al cortese lettore poche letture sono più gradevoli A parer mio A parer mio, delle narrazioni di viaggi, le quali, oltre al diletto che arrecano, tornerebbero e ziandio utilissime per le notizie che ci porgono de luoghi a noi sconosciuti, de vari costumi delle genti e delle svariate e strane regioni del mondo, se non vi fossero a larga mano tante favole mescolate, da isgradarne talvolta i più fertili romanzi che ci abbiamo. Radì son coloro, che di simili materie trattarono, che ne vadano al tutto esenti, che seco testo difetto abbonda nei primi nostri scrittori, è pur comunissimo e ziandione moderni, i quali fra alcune verità ci raccontano tante capricciose bugie, da penar molto a prestar fede infino a quello, che pur di prima giunta ci sia presenterebbe non inverisimile. Passandomi a fatto de moderni, de quali non è qui luogo tener ragione, toccherò brevemente de principali fra gli antichi, che, o scrissero in origine nel volgar nostro, o in esso traslaterono viaggi altrui, i quali seppure largheggiarono di menzogne, se per bene non sono aggiustati in geografia, in istoria, serrarono di nomenclature, e così va dicendo, serbarono tuttavia quella eleganza e proprietà di linguaggio, e quella ingenuità e semplicità di narrare, che in Darno o Radossi cercherebbero negli scrittori da poi il primo libro di simil fatta che noi abbiamo in volgare ed è più famosi è senza dubbio il milione di Marco Polo, il quale intraprese il suo viaggio nel 1272 o circa Quell'opera, tradotta dal francese nel nostro idioma, come prova il ch signor professore Cavadolfo Bartoli nella sua dotta prefazione anteposta alla ristampa che di quel laureo volume fece il Le Manihei nel 1863, riguardasi la più antica e la più importante tra le descrizioni di viaggi nell'età di mezzo, che ci abbiamo in volgare a cotesta, per cronologia procedendo, tien dietro il breve itinerario ai paesi orientali di Frariccoldo da Monte di Croce, religioso dominicano, che lo scrisse verso la fine del Sec XIII in lingua latina, volgarizzato poscia nel 1350, o in quel torno da anonimo Il Beato Odorico da Pordenone nel Friuli viene terzo per ordine di tempi, il quale ci descrisse un suo pellegrinaggio nel 1318 Vogliono alcuni che egli il dettasse in lingua volgare, e ne adducono buone ragioni, ma prove più sufficienti assai contraddicono alla prima asserzione, e inducono a credere che l'originale suo fosse propriamente dettato in lingua latina, e da questa tradotto da anonimo non molto dopo La qual versione fu poi resa di pubblico diritto in Pesaro per Girolamo Soncino nel 1513 col titolo di Odoriches de Rebus Incognitis, libretto oggi irreperibile, una parte fu da me posta fuori, secondo CAD Riccardiani, Magliabec E Palatini, nel 1866 Il quarto finalmente si è Giovanni da Mandavila, uno dei più copiosi fra gli antichi, che imprese i suoi viaggi nel 1322 Onde, quantunque ei non sia da riporre tra gli scrittori nazionali, tuttavia avendosi del suo libro una buona traslazione volgare, anzi un rifacimento e una larga parafrasi dell'originale Fatta, per mio avviso, sul finire del SEC 14 o al più sul cominciare del susseguente quindicesimo Parmi in certo modo debassi considerare quasi lavoro italiano Avvenendo per poco in tali casi come d'una pianta esotica trapiantata sul nostro suolo La quale, quantunque di provenienza straniera, pur col tempo Educata e allevata nel nostro clima, diventa indigena e di natura nostrale Onde io intendo collocarlo tra le descrizioni pressoché originali che abbiamo nella nostra letteratura Sicché mi confido, che nieno vorrà imputarmelo a colpa Giovanni Mandavila o da Mandavila dunque, da esse albano in Inghilterra, cavaliere dello Sperone d'Oro Intraprese i suoi viaggi nel 1322, insieme con altri amici, e visitò tante regioni d'Oriente Quante forse e più non si facesse altri Godè la protezione del soldano di Babilonia, che è a dire dell'imperatore del Cairo Perché a quei tempi il Cairo chiamavasi Babilonia Secondo che egli stesso ci narra alla pagina 101 di questo primo volume Ove apprendiamo che gli era conceduto di poter entrare a vedere tutte le cose sante di Gerusalemme Per la virtù delle lettere del soldano Nelle quale era speziale comandamento a tutti i suoi sudditi Che lo lasciassero entrare dove egli voleva Notevoli, fra le altre cose, sono le parole che il soldano gli disse Risguardanti i depravati costumi dei cristiani Che le donsi alla pagina 168 pur di questo primo volume Che voglio qui interamente riportare E però io vi voglio dire quello che mi disse una volta il soldano al Cairo Egli fece votare la sua camera ad ogni maniera di gente, di signori ed altri baroni, perché voleva parlare con meco di secreto Domandò mi, in che modo si governano i cristiani nel vostro paese Io risposi, bene, per la divina grazia E lui mi disse, che veramente non fanno Perché i vostri prelati non istimono il servire a Dio E gli ono dovrebbero dare esempio di ben fare alla comune gente E dovrebbero andare a templi a servire a Dio E gli vanno tutto di per le taverne giocando Vendo e mangiando A modo di bestie E così i cristiani si sforzano In ogni maniera che possono Di barattarsi e ingannarsi l'un l'altro E sono tanto superbi Che non si sanno vestire Né contentarsi mai Perché quando vestono corto E quando lungo Or larghi Or astretti E quando ricamati E quando intagliati Et in ogni modo si divisano con cinture e con librere E con truffe e con buffe E gli ono dovrebbero essere semplici e umili e mansueti e meritevoli e caritativi Siccome fu Gesù Cristo Nel quale loro credono Ma è fanno il contrario e a rovescio E sono tutti inclinati a malfare E tanto sono cupidi e avari Che per poco argento è vendono E figliuoli Le sorelle e le loro proprie moglie Per fare meritrice Essi si tolgono le moglie l'uno all'altro E non si mantengono fede Anzi non osservono la loro legge Che Gio Cristo ha loro dato Per la loro propria salute Così per li loro propri peccati Hanno perduta questa terra Che noi teniamo E il vostro Dio Si ce l'ha data e concessa nelle nostre mane Non tanto per la nostra fede Ma per li vostri peccati Perché noi sappiamo di certo Che quando voi servirete bene il vostro Dio Lui vi vorrà aiutare E noi non potremo contro a voi E ben sappiamo per profezia Che cristiani regneranno in questa terra Quando egli serviranno al suo Dio più divottamente Che non fanno ora Ma mentre che egli non stanno in così brutta vita E con tanti peccati Come è sono al presente Noi non abbiamo punto dubbio di loro Perché il loro Dio non gli aiuterà E allora gli adi mandai qualmente Sapeva così bene gli stati d'intorno De principi dei cristiani E il comune stato loro E lui mi rispose Che ciò sapeva per la gente Che mandava per ogni parte e in ogni paese In guisa di mercatanti di pietre preziose Di moscado e di balsamo E altre cose per sapere E il governo d'ogni paese Di poi fece chiamare nella camera sua E signori che prima aveva cacciati fuori E mostrò mi quattro di questi Che erano gran signori in quel paese E quali si mi divisarono così bene E il paese dei cristiani Come se fossino nati in detti paesi E parlavano franceschi nobilmente E similmente il soldano Di che molto mi maravigliai Ai lasso Quanta vergogna e quanto danno è a tutti I cristiani e alla nostra legge Che gente Che non hanno fede Né legge Ci vanno biasimando e ispregiando e riprendendo Quegli che per gli nostri buoni esempi E nostra accettabile vita Doverrebbero convertirsi alla fede di Gesù Cristo Sono per le tristizie nostre E nostri errori dilungati totalmente Ma noi siamo per gli errori nostri E per le nostre tristizie Estratti e dilungati totalmente Dalla vera o santa fede Onde non è maraviglia Se loro ci chiamano cattivi Perché è dicono il vero Ma dicono Che le saracini sono buoni e leali Però che egli ono guardano interamente Il comandamento del santo libro al Corano Che Dio li mandò per lo santo messo E profeta Mahometto Al quale dicono Che l'angelo Gabriello spesse volte parlava Mostrandogli la volontà di Dio Servì quindi al soldo il gran cane Tontotioult per ispazio di quindicesimo mesi Contro il re di Mautiaco Col quale avvia guerra E, dopo molti anni Ritornato allo stanco riposo Per cagione delle gotti antiche Compilò e mise in iscritto Le sue avventure nell'anno di Grazia 1357 Nell'anno tregesimo quinto Che gli si partì di suo paese Uno quest'opera Secondo che da lui medesimo sappiamo Fu scritta totalmente in volgare Perché molti intendono meglio in volgare Che in latino Via pagina 8 Or che cosa si intenda proprio qui per volgare è chiaro Da che volgare chiamavasi comunemente la lingua romanza Descrisse dunque il mandavila Cotesti suoi viaggi in lingua romanza Ciò è a dire in provenzale o francese In essi Tra le verità esagerate Mescolò tante di quelle fiabe Quante uomo può immaginare Tal che fa maraviglia come potesse crederle egli stesso E presumesse che altri avesse a dar loro fede Ma tra le strane Per dinotarne alcune Stranissima soprattutto E parmi la storia della figliola di Pocras Trasmutata in un dragone lungo Dugento torse Ogni torsa equivale a dieci piedi Quindi il dragone sarebbe stato lungo duemila piedi La novella della donna dello sparviere è pur singolare E la descrizione dell'arca di Noè Le chiocciole dell'isola di Talanoc La valle dei Giudei La caverna dei diavoli Le virtù degli alberi del sole e della luna La descrizione del paradiso terrestre L'origine del presto Giovanni e altre insomma sono tanto marchiane Che ripugnano Non dirò già alla critica Ma al senno comune Ed è sì vero Che lo stesso Mandavila teme Non altri possa mettere in dubbio le sue asserzioni Ed il palesa apertamente la ove dice Chi mi vuol credere Mi creda Se gli piace E chi non vuol credere Si lasci stare Anzi vi è più incalzando per guadagnar fede Altrove soggiugne Sappiate che quello che io ho scritto Si è la propria verità come se fossi il Santo Evangelio Benché saranno molti Che non lo crederanno Se giudichi da queste parole la buona fede E la persuasione intima di costui sulle cose narrate Qui e qua ci andiamo pure abbattendo e ziandio in brevi lezioni di fisica Di astronomia Di botannica Di geografia Di storia ecclesiastica Del vecchio e del nuovo testamento E così va dicendo Le quali ci danno a conoscere per poco in che umil grado erano le discipline scientifiche di che i tempi anche in Inghilterra Con tutto ciò è pur uopo confessare Che la lettura di questo libro eccita molta curiosità e diletto Effetti che produr dove anzi altressi nell'animo dei nostri antichi Come il comprovano le non poche stampe che se ne fecero e le svariate traduzioni in tutte le lingue d'Europa Quest'opera può dividersi in due parti Nella prima tratta l'autore dei luoghi santi e ci racconta quelle maraviglie stesse che ci narrarono altri viaggiatori suoi contemporanei Cioè Simone Sigoli, Leonardo Di Niccolò Frescobaldi, Giorgio Gucci, Niccolò da Poggi Bonsi E, più innanzi, Mariano da Siena, Jacopo da San Severino, Niccolò da Este e diversi altri Nella seconda parte, che è dieci tanti più dilettevole Introducendosi via maggiormente nelle province e nei regni orientali Passa al Cataio, all'Indie, in Persia, e così via come dice il libro E ci narra assai di quelle stesse maraviglie che troviamo celebrate nel milione di Marco Polo E più brevemente anche nel pellegrinaggio del Beato Odorico Qui pur ragionasi a lungo del gran cane con tanta copia e magnificenza ed entusiasmo Che il mandavila non la cede.A Marco Polo Sicché se il libro di Marco fu chiamato milione per le inaudite ricchezze raccontate di quello imperatore A buon dritto anche milione cognominarsi potrebbe questo del mandavila La quale magnificenza del gran cane non era certo maggiore all'altra del presto Giovanni Di cui afferma il nostro scrittore che alla sua corte ogni di mangiano più di 30.000 persone Sansa quelli che vanno e vengono Essendo pertanto questo libro così variato e pieno di meraviglie Compilato e messo fuori in tempi ne quali assai più leggermente che poscia si amava udirle e si credevano Bene non i stupiremo se con avidità era cerco e letto e se in più lingue fu traslatato e reiterate volte in ognuna messo a stampa Del secolo XV se ne annoverano fino a 27 edizioni e cioè 8 in francese 4 in latino 6 in tedesco e le altre in volgare Il milione di Marco Polo non è ne ebbe allora che sole 5 Avvegna che è Procedendone tempi Se ne conoscano a nostri di ben 58 In inglese pure assai ne furono prodotte nei secoli XVI, XVII e XVIII E fra le altre molto stimata si è quella di Londra del 1725 E l'altra eseguita a tempi nostri del 1839 Ciò non di meno quest'opera nel testo volgare è divenuta rara per modo Che in Darno oggi potrebbe si dai curiosi possedere La rarità sua pertanto mi fece venir vaghezza di proferirla nuovamente in luce E a tale uopo consultai diverse edizioni Che tutte vidi, qual più qual meno Sconciamente guaste e corrotte e piuttosto in dialetto che in illustre volgare italico All'infuori della Fiorentina edita nel 1492 Nella quale un po' più che nell'altre è rispettata la desinenza delle parole Quantunque essa pure non va da scevra da molti difetti e lacune Entratomi dunque allora nell'animo desiderio più vivo di nuovamente pubblicarla Secondo investigazioni fatte Seppi dall'Egregio signore Emilio Calvi Ufficiale nella Maglia Beck Damme a tale uopo incaricato Che due codici di questo volgarizzamento servavansi nelle biblioteche fiorentine Uno nella Maglia Beckiana suddetta Oggi nazionale Cartaceo Di piccola lettera Senza aver una data Ma, da quanto si può argomentare Di poco oltre la metà del SEC 15 Segna Clxxxv N221 L'altro nella Riccardiana Segna N1917 Pur cartaceo A due colonne Trascritto nel 1492 Come il copista medesimo dichiara infine con queste parole Io Bartolomeo di Benci da dico mano al presente provvigionato nella rocca vecchia del borgo San Sipolcro Ho scritto questo libro Cioè finito di scrivere questo di ventesimo di giugno 1492 a stanza di Raffaello di Michele di Corso Cittadino Fiorentino In quest'ultimo mancano le rubriche che sono nel Maglia Beckiano e nelle stampe Ed in vari luoghi diversi capitoli Oltre a ciò sembrami di dicitura più moderna Ed apparesce chiaramente che il trascrittore vi fece delle aggiunte Allargò la sintassi e i concetti E abbondò assai di glossemi Onde per tutto questo giudicai bene di attenermi al Maglia Beckiano Che feci diligentemente trascrivere dal prefato signor Calvi Quantunque nella ortografia men buono Come più antico e consentaneo all'età in cui volsi riputare appartenga il volgarizzamento Giovandomi tuttavia in pari tempo del Riccardiano Di cui feci trar fuori le principali varianti Allorché fui costretto dalla guasta lezione del testo che presi ad esemplare E perché il mio lavoro riuscisse meno imperfetto che possibile fosse Non trascurai e ziandio di tener sott'occhi un ediz Che io posseddo del 1488 E fu sopra la lettura di questa che minacque talento della presente pubblicazione Fatta qui in Bologna per Ugo de Ruggeria di Ii di Luglio Nella sua mentovata di Firenze per Ser Lorenzo de Morgiani e Tjof da Maganza 1492 Con le quali potei correggere qualche parola Che pur con l'aiuto de soli due cad MSS Non avrei potuto Or, conforme al mio costume, sapendo che cotesti sono libri che corrono soltanto per le mani degli eruditi e di coloro che fanno speciale professione di lettere Conservai interamente la grafia de cad Avvegna che è assai disuguale e poco garbata E con temperanza mi adoperai in chiose filologiche ed erudizione Mi limitai singolarmente a notare certe varietà di lezioni Secondo che più o meno sembravami necessario Non che gli errori manifesti non potuti correggersi né cotesti a penna Con le stampe, de quali alcuni eziandio ho fatto avvertito il cortese lettore con un sic tra parentesi, incastrata nel testo Nonostante tutte le prefate cure e sollecitudini Nuno reputi che io presuma di offrire un lavoro propriamente compiuto e senza mende Per far cotesto si conveniva correggere gli errori di storia sacra e profana che ci sono Quelli di astronomia, di geografia, si conveniva raddrizzare nomi proprii Di città, di province, di isole, di reami, contorti, contraffatti e imbarbariti in modo alcuni Da non potersene agevolmente venire a capo I quali intronati negli orecchi dei cani Come diceva il re di Gli farebbero spiritare Si conveniva infine cernere il vero dal falso e additarlo Io m era accinto da prima eziandio a questa fatica Ma visto poi che sarei andato troppo per le lunghe e ne avrei portato una gravissima fatica Senza adeguato compenso Me ne fuggì l'animo e ristetti Anche perché tutto ciò avrebbe cresciuto per modo la giunta Da oltrepassare di gran lunga la derrata Molto più poi che non pochi di cotali difetti sono comunissimi a tutti gli scrittori di quell'età Ed alcuni anche di facilissima emendazione In guisa che ciascuno, leggendo, potrà correggere di Per esse è stesso Di fatto chi non saprà volgere Etiopia in Etiopia Barimattia in Arimatia Robos in Robom Tecchia in Tecla ed altri così fatti Mio precipuo divisamento si fu dunque quello di riprodurre in luce e a buona lezione ridotto Per ciò che concerne in singolar modo la dicitura Un aureo testo, fatto assai raro ed anche inintelligibile nelle antiche edizioni Per le continue barbariche voci introdottevi e per la frequente guasta lezione Un libro, per mio avviso, scritto con uno stile piano, lucido, scorrevole, qual proprio si addice a storica narrazione E dove molti vocaboli si scoprono attinenti alle scienze che non vidi Già mai altrove, con frasi elegantissime, donde assai profitto può derivarne agli studiosi delle nostre classiche lettere Da così fatta persuasione mosso, non facendo gran capitale di certe mende Che vedonsi dal più almeno in tutti gli scrittori di quell'età Io non dubito.non questo libro debba incontrare nel genio della Repubblica letterata Se ciò accada, io mi chiamerò abbastanza appagato delle mie sollecitudini E andrò lieto per aver dato novella vita a un'opera Che già da secoli dimentica e quasi sconosciuta se ne giaceva Trattato delle più maravigliose cose e più notabile che si trovino nelle parti del mondo Ridotte e raccolte sotto brevità nel presente compendio dallo strenuissimo Cavalieri Asprondoro Giovanni di Mandavila Anglico Nato nella città di Santo Albano Il quale, secondo che presenzialmente ha visitato quasi tutte le parti abitabili del mondo Così fedelmente ha notato tutte quelle più degne cose che gli ha trovato e veduto in esse parte E chi bene discorre questo libro, harà perfetta Cognizione di tutti i reami, province, nazione e popoli, gente, costumi, legge, istorie e degne antiquitate con brevità Le quale, parte da altri non sono trattate E parte più confusamente da alcuni gran valenti uomini sono state toccate E a me già era fede Il profato autore in persona è stato nel 1000cc.xxii, in Jerusalem, in Asia minore, chiamata Turchia, in Armenia grande e nella piccola, in Tartaria, in Persia, in Siria ovvero Suria, in Egitto alto e nello inferiore, in Libia, nella parte grande di Etiopia, in Caldea, in Amazonia, in India maggiore, Nella mezzana e nella minore, in diverse sette di latini, greci, giudei, barbari, cristiani e infedeli e in molte altre province, come appare nel Trattato di sotto Trattato bellissimo delle più meravigliose cose e più nobile che si truovino nelle parti del mondo, scritte e raccolte dallo strenuissimo cavalieri Asprondoro, Giovanni Mandavilla francese 2 che vi citò quasi tutte le parti del mondo abitabili, ridotto in lingua toscana Con ciò si è cosa che la terra oltramarina, cioè la terra santa di promissione, fra tutte le altre terre sia la più eccellente e la più degna e donna sopra tutte le altre terre, e sia benedetta e santificata e consecrata del prezioso corpo e sangue del nostro Signore E su Cristo, i vigli piacque obumbrarsi nella Vergine Maria e pigliare carne umana e nutrimento, e detta terra calcare e circundare con suoi benedetti piedi, qui volle fare molti miracoli, predicare e insegnare la fede e la legge a Noi cristiani come a suoi figliuoli E in questa terra singolarmente volle portare scialeffi tre e strazi e sofferire per noi molti improperi E in questa terra singolarmente si volle fare chiamare re del cielo e della terra e dell'aere e dell'acqua, e universalmente di tutte le cose che si contengono in quelle E lui medesimo si chiamò re per i specialità de' di quella terra, dicendo, Rex sumiudeorum, perché questa terra era in quel tempo propia de' Giudei E questa terra s'aveva lui scelta fra tutte le altre terre per la più degna e per la più virtuosa e per la migliore di questo mondo Imperò che la è il cuore e il mezzo luogo di tutta la terra del mondo, siccome dice il filosofo, le virtù delle cose stanno nel mezzo In quella medesima terra volle il re celestiale usare la vita sua e essere di riso e vituperato da grudelli giudei E volle sofferire passione e morte per amor nostro e per riscuoterci e liberarci delle pene dell'inferno e della orribile e parpeccio al morte per lo peccato del nostro primo padre Adam e Eva nostra madre Però che verso lui non aveva meritato male alcuno, imperò che lui mai non disse male, né fece, né pensò E ben volle il re di gloria in questo luogo più che altrove sostenere passione e morte Però che chi vuole pubblicare alcuna cosa, a ciò che ciascuno lo sappia Egli la fa gridare e pubblicare in miso della città, a ciò che la cosa sia saputa e sparta da ogni parte Similmente il creatore del mondo volle sofferire per noi morte in Gerusalem, la quale è in miso del mondo A ciò che la cosa fossi pubblicata e saputa per tutto il mondo E il quale egli amò caramente per ricomperare gl uomini I quali lui aveva fatti ad immagine similitudine sua E questo fece per lo grande amore che lui aveva verso noi senza alcuno nostro merito Imperò che più cara cosa non poteva egli dare per noi che il suo santo corpo e il suo santo sangue La qualcosa offerse tutto per nostro amore Considerate un poco quanto fu l'amore Quando per salvar noi si misse all'aspra e cru del morte E mai non ebbe in esse radice d'alcun male o peccato E non di meno volse per lo grandissimo amore mettere il corpo suo alla morte per gli peccatori Pensi ognuno, quanto amore egli ebbe in verso di noi Quando colui che era senza peccato e senza colpa volse ricevere morte per le colpe nostre E certamente dè essere dilettevole e fruttifera quella terra che fu rigata del prezioso sangue di Giù Cristo Questa è quella terra, la quale il nostro Signore ci promisse per eredità E nella detta terra volle morire per soddisfare e per lasciarla eredità a suoi figliuoli E pertanto ciascun buon cristiano, il quale lo può fare Si dovrebbe grandemente affaticare in conquistare la nostra sopradetta eredità E cavarla fuori delle mani degli infedeli E a noi appropriarla Perché noi siamo appellati cristiani da Cristo Il quale è nostro Padre E se noi siamo Suoi legittimi figliuoli Noi dovremo volere la ereditate che Lui ci ha lasciata E trarla delle mani della gente strana a chi non s'appartiene Ma al di d'oggi la mala detta superbia e la cupidità e la invidia hanno totalmente E cuori dei signori terreni accesi e infiammati Che più attendono a lasciare essa eredità ad altri Che egli non fanno a recuperare e acquistare la loro propria eredità e peculio sopradetto E la comune gente Che hanno volontade di mettere cuore e corpo e loro avere per far questo conquisto Non possono sanza e signori sopra loro alcuna cosa Perché comunità sanza capo di signore È come una moltitudine di Pecore sanza pastore Le quale si spargono E poi non sanno che fare si debbino Ma se piacessi al nostro santo Papa Che a Dio piacerebbe bene che i principi terreni fussino in buona concordia e con loro alcuni comuni E volessino pigliare il detto santo viaggio d'oltramare E io sono certo che in breve termine sarebbe la terra di promissione racquistata e posta nelle mani dei veraci eredi di giù Cristo E perché gli è gran tempo Che non è stato passaggio generale oltre a mare E ancora perché son molti che si dilettono d'udire parlare di detta terra santa e di ciò pigliono piacere Io Giovanni da Mandavila Cavaliere Conciò sia cosa che io indegno sia Nato e nutrito in Inghilterra Della città di Santo Albano Il quale passai il mare l'anno 1000cc grado XXI Eldi di Santo Michele mi partì e andai nelle torre d'oltramare estettivi grandissimo tempo E ho veduto e circundato molto paese e molte diverse province e molte strane regioni e isole diverse E ho passato per Turchia, per Armenia piccola e per la grande Per la Tarteria, per Persia, per Soria, Arabia, per l'Egitto alto e basso Per Libia e per una gran parte di Etiopia, per Caldea, per Amazonia, per India minore, mezzana e maggiore E per moltitudine di diverse gente e diverse fede e Luoghi e di diverse fazioni Di tutte quelle terre e isole parlerò più a pieno che io poterò E dimosterrò una parte delle cose che vi sono Quando tempo sarà di parlarne Di quelle che io mi potrò ricordare Spezialmente per coloro che hanno desiderio o intenzione di visitare il nobile paese e città di Gerusalemme E i santi luoghi che sono qui vi d'intorno E così mostrerò il cammino quale poteranno tenere Imperò che io sono passato per molti e cavalcato per la grazia di Dio con buona compagnia E sappiate Che io ha ricomposto questo libro in latino per divisare più brevemente Ma perché molti intendono meglio in vulgare che in latino Io l'ho totalmente in vulgare quattro composto A ciò che ciascuno lo possa intendere E a ciò che gli signori e gli altri cavalieri e gentili uomini I quali non sanno latino e sono stati oltramare In tendino Se io dico il vero o no e se io erro in discrivere Per non ricordarmi o per altra cagione Che egli non mi possino correggere e migliorare Perché le Cose di lungo tempo per non le vedere Spesso leggermente tornano in oblivione E la memoria umana non può ogni cosa apprendere e ritenere Ora Col nome di Dio glorioso Colui che vuole andare oltramare Vi può andare per più vie Per mare e per terra Secondo il paese donde si parte Delle quali vie la maggiore parte tornano tutte a un fine E non intendete punto che io voglia dichiarare tutti i luoghi Cioè città Castelle e ville Per le quale si conviene passare Perché farei troppo lungo parlare Ma solamente da alcuni paesi e luoghi principali Per li quali si debba andare e passare Per la diritta via tenere Qui descrive il primo cammino d'andare al Santo Sepolcro Primamente chi si parte dalle parte occidentale Come di Inghilterra D'Orlandria Di Scozia o di Norverga Anco egli può andare Se vuole Per Alamagna e per Loreame d'Ungheria Che confina alle terre di Polonia e alla terra di Pannonia e di Flessia Lore d'Ungheria è molto possente E valente signore Tiene molto grande terreno Imperò che tiene Ungheria e gran parte di Schiavonia Di Comania e di Bolonia E tiene del Reame di Rossia Gran parte delle quale n ha fatto un Ducato Che dura in fino alla Dinflania e confina con Prascia La terra di questo signore si passa per la città di Cipro e per lo castello di Insebuce 5 e per Malavilla Che è verso la fine d'Ungheria E là si passa per la riviera del Danubio Questa riviera è molto grande E nasce nella Alamania sotto le montagne e verso Lombardia E riceve in lei 4 altri fiumi 6 e corre Pelmiso d'Ungheria e Pelmiso d'Ungheria e Pelmiso d'Arsia E entra 7 in mare così fieramente verso Oriente Che l'acqua mantiene il suo colore e risorge dentro nel mare senza mescolarsi con l'acqua marina per ventesima leghe E da poi 8 si viene a Bella Grana e si entra nella terra di Bolgaria E là si passa un ponto di pietra E il quale è sopra alla riviera di Marogia E passasi per le terre di Prontenardi E di là si viene in Grecia alla città di Astins e di Fina E alla città di Andrianopoli E di poi a Gostantinopoli La qual soleva essere chiamata Bisanzio Della chiesa di Santa Sofia Qui vi dimora comunemente l'O.M. Peradore di Grecia La è la più bella e nobile chiesa del mondo La quale si chiama Santa Sofia Della immagine di Iustiniano imperadore E dinanzi a questa chiesa è la immagine di Iustiniano imperadore di rame dorato E sta a cavallo, coronato E soleva tenere un pomo dorato e tondo nella mano Ma, già gran tempo, è caduto E dicono alcuni Che ciò significa che lo imperadore ha perso gran parte della sua terra e di sua signoria Perché lui soleva essere imperadore dei Romani e di Grecia e di Asia e di tutta la terra di Soria e della terra dei Giudei Nella quale è Gerusalemme E della terra d'Egitto Di Arabia e di Persia Maggiore Grecia e di tutta la minore Asia e di tutta la terra di Soria e dell'India nella quale è la città di Jerusalem Ma ora egli ha ogni cosa perduto, salvo che Grecia, che si tiene solamente Ma furono alcuni che gli volsono rimettere quello pomo in mano, né mai gliene poterono fare tenere Quel pomo significava la signoria, che egli aveva in questo mondo, il quale è ritondo, e l'altra mano tiene levata verso l'Oriente In segno di minacciare gli mali fattori La detta I magi in sta sopra a uno gran sasso di marmo In Costantinopoli è la croce del nostro Signore In Costantinopoli è la croce del nostro Signore Messeri e su Cristo con la vesta senza cucitura e la spugna e la canna con la quale gli fu dato bere fiele e aceto in sulla croce E alcune gente si pensono, che la metà di questa croce sia in Cipro in una badia di monaci E quella croce che è in Cipro è quella dove Dismas, ladrone buono, fu morto, ma ogni uomo non lo sa, ed è mal fatto che, per lo utile delle offerte, che ciò facciano, ovvero diano a intendere, che quella è la croce del nostro Signore Ma sappiate, che la croce del nostro Signore è di quattro Maniere di legno, siccome è scritto in questo verso seguente In Cruz Sant'Palma, Cipresus, Cedrus, Oliva Il pezzo che era dritto, da terra in fino alla cima, fu dicipreso, quello che era attraverso, nel quale erano chiavate le mani, era di palma, e il troncone, fitto dentro nella terra, cioè nel monte Calvario, il quale era perforato e incastrato per tenere il piede della croce, era di cedro, e la tavoletta di sopra al capo, La quale era lunga un piede emiso, dove era scritto in ebreo greco e latino, era di olivo La descrizione della croce E feciono gli giudei la croce di queste quattro maniere di legno, perché egli si credovano, che l nostro Signore dovesse tanto pendere in sulla croce, quanto il corpo potessi durare, e però feciono il piede di cedro, perché il cedro non si marcisce in terra né in acqua, e egli o no volevano che durassi lungamente Ancora si credevano gli perfidi giudei, che l corpo del nostro Signore Iesù Cristo dovessi putrefarsi emarcire, e imperò feciono il pezzo lungo della croce di cipreso, il quale è odorifero, a ciò che l effettore non aggravassi quegli che passavano Il traverso sopradetto fu fatto di palma, perché nel Vecchio Testamento, quando alcuno aveva vittoria, era incoronato di palma, e perché i giudei si credevano avere vinto Messergiù Cristo, gli feciono la croce di cotallegno E la tavoletta sopra al capo fu d'ulivo, la quale significa pace, siccome si dimostra nella storia di Noè, quando la colomba portò il ramo d'ulivo, lo qual significava pace fatta tra Dio e l'uomo Similmente si credevano avere pace dopo la morte del nostro Signore, perché dicevano, che fra loro avevano una certa discordia E sappiate che l nostro Signore, giacendo in terra, fu posto in sulla croce, e poi il dirizzorono insieme con la croce, onde così dirizzandolo sostenne grandissima pena E i greci e le cristiani, che stanno oltre a mare, dicono che l'albero della croce, il quale noi chiamiamo cipreso, fu del pomo del quale Adam gustò il frutto Della opinione d'alcuni cristiani del legno della croce E così hanno loro nelle loro scritture, che quando Adam si infermò, e disse al suo figliolo Seth che andassi al paradiso e pregassi l'angelo, che guarda il paradiso, che gli piacessi di mandargli dell'olio dell'arbore della misericordia per unire gli suoi membri per ricevere sanità, il quale Seth vu andò Allora l'angelo non lo volse lasciare entrare, ma ben gli disse di Adamo, che ancora non può avere dell'olio della misericordia Ma l'angelo gli dietre granella del frutto di quello medesimo legno, e dissegli, che gli mettessi in bocca al suo padre, che quando l'albore crescerà tanto, che porterà frutto, che in quello tempo sarà suo padre liberato Poi che Seth fu tornato, trovò suo padre quasi morto Allora subitamente gli mise quelle granella, che l'angelo gli aveva dato, in bocca, le quali nacquono dopo la morte d'Adamo, e credbono e feronsi tre grandissimi albori E di quegli fu fatta la croce, che portò il buono frutto, cioè Messergio Cristo, per lo quale frutto ad Ammeli discendenti da lui sono liberati e ristorati di perpetuale morte Se per loro non manca dieci della immagine della croce e chi la trovò Questa santa croce avevano gli giudei sotterrata nel sasso del monte Calvario, e qui vestette du cento anni e più Tanto che fu ritrovata per Santa Elena, madre di Gostantino, imperatore dei Romani Questa Elena fu figliola del re di Inghilterra, la quale a quel tempo era chiamata la Gran Bertagna, e questa donna la prese per moglie Gostantino per sua grande bellezza, e fu quando è fu in queste parte Della grandezza della croce Potete sapere che la croce del nostro Signore era lunga otto cubiti, il traverso era tre Cubiti e miso Una parte delle ispine, delle quali lui fu incoronato in sulla croce, e uno degli chiovi, e l ferro della lancia e molte altre reliquie sono in Francia nella cappella del re La corona è in un vassello di cristallo molto bene lavorato, perché uno re, gran tempo fa, comprò queste reliquie da giudei, le quali aveva lo imperatore impegnate per bisogno d'ariento che aveva Della corona delle spine Ma se alcuno dicesse, che quella corona è di spine, sappiate, che ella è di giunchi marini bianchi, e quali pungono come sproni acutissimi, e ciò dico, però che l'ho veduta e risguardata diligentemente per più volte E quella di Parigi è quella di Gostantinopoli, perché l'una e l'altra fu tutta una corona intortigliata e fatta di giunchi, ma questa è separata, e partita, e fatta due parte E l'una è a Parigi, l'altra si è a Gostantinopoli, e io ho una di queste preziose spine, che pare una spina Bianca, e fu mi donata per grande spezialtade, imperò che ve ne sono molte dirotte nel vasello, ove sta la corona, le quale si rompono quando il vasello si muta ed è portato a vedere a gran signori E sappiate che quando il nostro Signore fu preso la notte e fu menato nel giardino nascosamente, e fu esaminato diligentemente, e i vi feciono derisione e riprensione di lui E gli cattivi Giudei gli feciono una corona delle bianche spine d'uno albero molto spinoso che cresce nel sopradetto giardino e aveva gran foglie E gli messono le spine in verso la testa, e tanto duramente gliele compressono, che l'prezioso sangue cascò da ogni parte per la faccia e per lo collo e per le spalle Della virtù che hanno le spine delle quali fu fatta la corona al nostro Signore E quelle cotali spine erano bianche, imperò che la bianca spina ha più virtù, perché chi ne porta una bianca sopra lui Non teme né folgore, né saetta, né tempesta, né altro, e alla casa, ove è, il cattivo spirito non ardisce a prossimare In questo giardino lo rinnegò San Piero tre volte Da poi fu menato il nostro Signore dinanzi al Vescovo e Maestro delle Legge in un altro giardino, e Ivi fu di nuovo esaminato e schernito e vituperato E ancora fu incoronato ad un'altra corona di spina bianca, la quale si chiamava l'herbris, che era in quello giardino, la quale ancora aveva molte virtù, e delle sue foglie si fa buono colore verde Da poi fu menato nel giardino di Caifas, e Ivi fu coronato d'un rosaio salvatico E poi fu menato nella camera di Pilato, e il quale era giudice, per esaminarlo Ancora Ivi era incoronato di giunchi marini Ivi lo posono in sun una sedia e vestirollo d'un mantello di purpura, e se gli feciono una corona di questi giunchi E Ivi si ingino chiurono, sbeffandolo, schernendolo, e dicendo, Dio ti guardi, re dei giudei E questa corona fu quella la cui metade è a Parigi e l'altra metade è a Gostantinopoli insieme con la quale il nostro Signore fu posto in croce e morto Per la qualcosa si detenere questa corona più cara e più preziosa che niuna altra E l'asta della lancia ha lo imperatore della magna, ma il ferro si è a Parigi, e lo imperatore medesimo di Gostantinopoli dice avere il ferro della lancia Io l'ho veduto ed è assai più largo che quello che è a Parigi In Gostantinopoli giace il corpo di Santa Anna Item, a Gostantinopoli giace la madre di nostra donna, la qual Santa Elena fece portare di Gerusalemme Del corpo di Santo Giovanni Grisostimo Item, Ivi giace il corpo di San Giovanni Grisostimo, il quale fu arcivescovo di Costantinopoli Del corpo di Santo Luca Item, Ivi giace il corpo di Santo Luca Evangelista, perché le sue ossa furono portate di Bretagna, ove fu sotterrato, e molte altre reliquie vi sono D'uno vaso che si riempie per sé medesimo Qui è un vasello di pietra chiamata Quindos, il quale getta tutta via acqua, e sempre per esse è medesimo si riempie tanto, che va di sopra senza che alcuno vi metta alcuna cosa dentro Della città di Gostantinopoli Costantinopoli è molta bella città, di molto nobile, e bene murata e triangolata Egli è un braccio di mare, chiamato Elesponte, e chi lo chiama la bocca di Gostantinopoli, altri è il braccio di Santo Giorgio Questo braccio chiude le due parti della città, e più alto, verso il capo di questo braccio di mare Fu la città di Troia sopra la ripa dell'acqua in un molto bel luogo piano, ma la città appar poco per lo gran tempo che fu distrutta Delle isole che sono in Grecia In Grecia sono molte isole, siccome sono Calisere, Colcos, Ortigia, Tesbria, Mirea, Flazon, Melocopate e Lennose Ivi sono molti altri linguaggi e molti paesi, i quali tutti ubbidiscono allo imperatore, e gli pizzinzenati, gli comani e molte altre gente e paesi di Tracia e Macedonia Onde nacque Aristotile e dove giace Una città dove nacque Aristotile è assai presso della città di Tracia, è chiamata a Senigiren Ivi giace il corpo suo, e Ivi è uno altare sopra la tomba sua, ove ogni anno si fa solenne festa siccome fosse santo Ognuno di quelle gente insieme vanno a consigliarsi sopra di questa tomba, e pare a loro che per divina ispirazione gli venga posto innanzi il miglior consiglio E in questo paese sono molte alte montagne in verso la fine di Macedonia Del Monte Olimpio È una montagna chiamata Olimpio, la quale disparte Macedonia da Tracia, ed è così alta che trapassa le nuvole Del Monte Attalante dove è l'aere puro e netto E lì è un'altra montagna, chiamata Atlas Questa è tanto alta, come testimonia alcuni, che l'ombra sua si istende in sino all'isola di Lennosè, che è lontana alla Marina I316 Leghe, e nella sommità della montagna è l'aere così puro, che Ivi non trae vento, né altra cosa, e in però qui vi non potrebbe stare uccelli, né altri animali per la grande secchità de di detta montagna E dicono alcuni di queste parte, che i filosofi andorono sopra questa montagna e tenevano nelle mani una spugna bagnata in acqua, la quale odoravano per ricevere umidità, perché altrimenti non avrebbero potuto fiatare Anzi sarebbero venuti meno per difetto di fiato per l'aere troppo asciutto E sopra questa montagna scrivevano con le loro dita nella polvere, e in capo dell'anno tornati, trovavano le figure come loro avevano iscritto, sì che per questo appare, che la montagna si istende in fino all'aere puro Della bellezza di Costantinopoli Costantinopoli è la principale città dello imperatore, molto bella e bene ordinata, e Ivi è una bella piazza per giostrare e per giocare Ed è fatta a scacchi e a gradi d'intorno, sì che ognun può vedere senza impacciare il campagno E di sotto questi gradi sono le stalle undici dello imperatore e dentro sono tutti e pilastri di marmo Dentro nella chiesa di Santa Sofia, facendo, già gran tempo, lo imperatore sotterare un suo parente, fu trovato uno altro corpo, sopra del quale era una gran piastra d'oro, dove erano scritte lettere che suonavano Iesù Cristo nascerà della Vergine Maria, et io credo in Elo E contenea nella detta piastra, che quello corpo era stato quivi anni duemila, prima che Iesù Cristo nascessi, et è oggi la detta piastra nella tesoria della chiesa di Santa Sofia XII Del corpo di Hermes E dicono le gente, che questo corpo fu Hermes, il Savio Filosofo E quantunque i Greci siano cristiani, egli però deviano molto dalla nostra fede, perché dicono, che lo Spirito Santo non procede punto dal figliolo, anzi solamente dal padre E non obbediscono nulla alla corte di Roma né al Papa, e dicono che tanta possanza ha il loro patriarca, che è come il Papa nostro Come il Papa scrisse a Greci che volessino essere uniti E imperò Giovanni Papa XX II gli scrise, come la cristianità doveva essere unita, e che egli ono dovrebono ubbidire al Papa, il quale è diritto vicario di Giù Cristo e di Dio, al quale i Dio dona infinita potenzia di legare e di sciogliere, onde è dovrebono a lui ubbidire Della risposta che è fecciono E li Greci gli mandorono a dire assai diverse risposte, e, tra le altre cose, egli dissono, Potentiam tuam summam circa tuos subditos firmiter credimus, Superbiam tuam summam tollerare non possumus, Avaritiam tuam satiare non intendimus, Dominus tecunquianobis cum est Dominus E altra risposta non potè lui avere da loro Queste parole latine per più intelligenza de vulgari così suonano, la tua potenzia, circa alito e subditi, firmamente credemo, la tua somma superbia non possiamo levare, sic, la tua avarizia non intendiamo saziare, sia il signore teco, perché con noi è dello errore dei Greci contro alla consecrazione del sacramento I tem, fanno il sacramento dell'altare di pane lievito, e dicono, che noi erriamo di farlo col pane non lievito, perché il nostro signore lo fece alla cena di pane lievito, e nel giovedì santo egli no fanno il loro pane lievito per memoria della cena, essi lo seccano e poi lo conservano tutto l'anno, e di questo ne danno agli infermi in luogo del corpo di Cristo, E gli ono non fanno punto d'unzione nel battesimo, né ali infermi, ma nota che ora si conformano con noi nel modo del consecrare, e Dicono che non è punto purgatorio, e che l'anime non hanno punto d'allegrezza infino al di del giudicio Uno altro errore E dicono, che fornicazione non è peccato mortale, imperò che quella è cosa naturale, e che nisuno uomo né femmina se debbe maritare altro che una sola volta Un altro errore E che sono bastardi quegli figliuoli di quegli che si maritono più d'una volta, e sono generati in peccato, e disfanno il matrimonio per piccola cagione E gli loro preti si maritono, e dicono, che usura non è punto peccato mortale, e vendono i benefici della Chiesa, siccome altrove si fa, che gli torna gran danno e vergogna, imperò che ogni simonia è riprovata, onde che la Santa Chiesa è maculata, e così mancando lei nelle buone opere, e il mondo non può aver buono stato Di molti altri errori dei greci E dicono i greci, che nella quadragesima non si deve cantar messa altro che l sabato e la domenica, e il sabato non digiunono in nion tempo dell'anno, sebbene in tal di fussi la vigilia di Pasqua o di Natale E non permettono, che li latini cantino ali i loro altari altro che una messa, e seppure la cantassino, e greci di poi lavono l'altare d'acqua benedetta, e dicono che non si deve cantare altro che una messa e il di insununo altare, e dicono che elle nostro Signore non mangiava mai, anzi fece astinenzia di mangiare E dicono che noi pecchiamo mortalmente a farci radere la barba, perché la barba è segno dell'uomo e dono del nostro Signore, e quegli che si fanno radere, il fanno per più piacere al mondo e alle femmine E dicono, che noi pecchiamo a mangiare delle bestie che erano vietate nel Vecchio Testamento, come de porci e delle altre bestie che non rugò meno il pasto, e dicono che noi pecchiamo a mangiare carne presa nella settimana di quadragesima, e anche perché noi mangiamo carne il mercoledì E dicono che noi pecchiamo a mangiare uova e formaggio il venerdì, e che è scomunicato ognuno il quale si contiene di mangiare carne e il sabato Di ciò che fa lo imperatore Item, lo imperatore di Costantinopoli fa il patriarca con l'arcivescovo e vescovi e dalle degnità e li benefici, e si gli toglie e gli priva quando gli trova cagione E questo è signore del temporale e spirituale in suo paese E se voi volete sapere l'alfabeto de Greci voi lo potete vedere qua di sotto 13 E quantunque tale cose non appartenghino allo amaestramento del viaggio Non di meno appartengono alla antipromessa dichiarazione Cioè di costumi e di ragione e differenzie d'alcuni paesi Imperò che questo è il primo paese vario e discordante in fede e in lettere dal nostro paese di qua Pertanto io l'ho qui di scritto, perché molte gente pigliono di letto d'udire cose nuove Chi vuole andare a Costantinopoli per la terra di Turchia, si va verso la città di Nisa, e passasi per lo porto di Cinento XIV Il quale è bene alto di lungi da Nisi a una lega e miso Del corpo di Santo Nicolò Chi va per mare, per lo braccio di San Giorgio, per lo mare verso le parte dove giace il corpo di Santo Nicolò verso molti altri luoghi 15 Dell'isola di Sivo, Sic dove cresce il Mastice Prima si va all'isola di Chio In detta isola cresce il Mastice in piccoli albuccelli e cresce a modo di gromma di ciriegio Dell'isola di Patemos dove scrisse Santo Giovanni l'Apocalisse Da poi si va per l'isola di Patemos I vi scrisse Santo Giovanni l'Apocalisse E potete sapere che quando il nostro Signore sostenne passione Santo Giovanni ora d'età de' anni trentredi E dopo la passione stette in questa vita anni sedicio E il centesimo anno passò di questa vita Della città de' di Efeson dove Santo Giovanni passò di questa vita sedici Da Patemos e si va ad Efeson La quale è molto bella città ed è appresso del mare E qui vi passò di questa vita San Giovanni E fu posto in terra dietro all'altare E qui vi è fatto una bella chiesa Perché i cristiani solevano tenere questo luogo Ma tuttavia nella tomba di San Giovanni non è altro che manna Imperò che l suo corpo fu trasportato in paradiso E al presente tengono i turchi la città e la chiesa e la Meijajer Parte di Asia minore E però è Asia chiamata Turchia E sappiate che mentre che San Giovanni viveva Si fece fare la fossa E lui medesimo vu entrò dentro vivo Imperò dicono alcuni Che non è morto Ma che si riposa in sino al di del giudicio E veramente ha lasciato una grande maraviglia Perché visibilmente vi si vede molte volte di sopra Alla sua tomba scrollare e muovere la polvere Non altrimenti che se vi fossi sotto un uomo vivo E il quale la muovesi Si che ogni uomo che li vede Si maraviglia molto Della città di Maiolica Da Efesson si va per molte isole di mare Fino alla città di Paterham Dove nacque Messer Santo Nicolau E di poi si va alla città di Maiolica Nella quale egli fu eletto vescovo Qui vi nascono molti buoni vini Di là si va all'isola di Creti La quale donò lo imperatore Già è gran tempo A Genovesi XVII Dell'isola di Colcos e dell'isola di Crete Della quale fu signore Ipocras Di poi si passa per l'isola di Colcos E per l'isola di Lingo Delle quale isole Ipocras fu signore e principe E dicono alcuni Che in quell'isola di Lingo V è ancora la figliola di Ipocras In forma d'uno grande dragone Il quale si mostra di lunghezza Dugento Torse Secondo che dicono XVIII Io non lo vidi mai E quegli dell'isola la chiamano La donna del paese E abita appresso d'un castello vecchio E vedessi due volte l'anno E non fa male ad alcuno Chi non fa già a lei noia Come la figliola di Ipocras Fu trasmutata d'una bella fanciulla In un orribile dragone E così D'una bellissima fanciulla Fu trasmutata e cambiata In un orribile dragone Per una dea detta Diana E dicono Che la ritornerà ancora in suo stato E questo sarà quando si troverà Uno cavaliere tanto ardito Che abbia ardimento di baciarla per la bocca Ma Poi che sarà tornata infemina Ella non viverà lunghamente Non è ancora lungo tempo Che un cavalieri di rodi Forte e ardito Disse Che lui voleva andare a questo dragone E montò sopra a uno corsiere E andò infino al castello E entrò dentro nella cava E il dragone cominciò a levare il capo contro a lui Quando il cavallo lo vide così brutto Per paura A malgrado del cavaliere Il straportò sopra a un sasso E di quello saltò in mare per tal modo Che fu perduto il cavaliere Item Un giovane Il quale nulla sapeva di questo dragone Uscì di nave e andò all'isola Infino al castello E entrò nella cava E andò tanto innanzi Che trovò una camera E vide una fanciulla Che Pettinandosi Riguardava in uno specchio E intorno a lei era assai tesoro Costui si credette che Costei fossi una meritrice Che là dentro stessi a servire e compagni E i vistette tanto Che la fanciulla vide l'ombra di Costui nello specchio E incontanente andò in verso lui e domandò lo che voleva E lui rispose che voleva essere suo amico E la gli dimandò Se lui era cavaliere E lui rispose Che non Addunque Disse ella Voi non potete esere mio amico Ma andate da vostri compagni e fatevi fare cavalieri E la mattina io uscirò di qua dentro E verrò innanzi a voi E voi verrete a baciarmi per la bocca E non abbiate punto di paura Però che io non vi farò alcun male Che quantunque vi parrò brutta a vedermi Non di meno non è altro che incantamento Ma io son fatta come voi mi vedete E se voi mi bacerete Arete questo tesoro e sarete mio marito e signore di questa isola E sopra ciò si partì da lei E andò alla nave da suoi compagni E fecesi fare cavalieri E poi tornò la mattina innanzi alla fanciulla per baciarla E quando la vide uscire della camera in così orribile forma Ebbe tanta paura Che subito ritornò Fuggendo Verso la nave E ella gli andava dietro Ma quando ella vide che costui non ritornava Ella poi cominciò a baiare e gridare dolorosamente E ritornò si indietro Subito il cavalieri murì E da quello di in qua non fu cavalieri alcuno Che, vedendola, subito non morisse Ma quando vuanderà un cavaliere così ardito Che ardisca baciarla Egli non morrà e ritornerà la fanciulla nella sua forma E sarà signore del paese 19 Item Dopo si va all'isola di Rodi La quale tegniono i cavalieri di San Giovanni Questa isola La qual già lungo tempo tolse lo imperatore 20 Solleva quell'isola essere chiamata Colcos E ancora così la chiamano molti signori E San Paolo scriveva a quegli di questa isola A Colocenses Questa isola si è appresso Gostantinopoli VIII Leghe Passando per mare In Cipro nasce buon vino il quale il primo anno è rosso E poi diventa bianco Da questa isola si va in Cipro Dove è il vino forte e possente Il quale il primo anno è rosso E poi l'anno secondo diventa bianco E quanto è più vecchio Diventa più chiaro e di migliore odore E passasi Andando verso Cipro Per lo golfo di Sotalia Qui mette la cagione perché abisso questa città di Sotalia con l'isola E fu per un orribile peccato Qui solea esere una buona isola e una buona città Che si chiamava Sotalia E questa isola con la città si perderono per la follia d'uno giovinetto Il quale amando una fanciulla bella e pulita Murì di morte subitana E fu posta in un sepolcro di marmo E l'e giovane Pel grande amore Si condusse la notte ad aprire lo sepolcro E possesi a giacere con la fanciulla In capo di ottavi mesi a costui venne una voce E disse Vattene alla tomba della fanciulla E apri e guarda ciò che tu hai in lei ingenerato E guarda bene che tu non resti Che se tu non vivai Ti verrà male E il giovinetto vu andò E aperta la tomba Subito uscì fuori una testa brutta e sfigurata a guardarla La qual subito che ebbe riguardata la città e i paesi Allora subissò ogni cosa infino in abisso E qui è molto pericoloso passaggio E da Rodi a Cipri sono bene vcgrado M, ossia leghe lombarde 21 E chi volessi potrebbe andare in Cipri senza andare in Rodi Lasciando Rodi da Costa Dell'isola di Cipri Nicosia e Famagosta Cipri è molto bella isola e molto grande E i vi sono i i grado Principali città A Nicosia è uno arcivescovo E terzo vescovi nel paese I vi è Famagosta Uno dei principali porti del mondo Dove arrivano cristiani Saracini e greci ed ogni nazione Similmente e genovesi I vi è una montagna Che si chiama Egiptia Dove sono monaci neri La croce di Dismas E qui vi è la croce di Dismas Com'è detto di sopra Dove giace il corpo di Santo Girolamo E dove giace Santo Ilarione In Cipri giace Santo Ieronimo Di cui li cristiani fanno gran festa E nel castello d'amore giace il corpo di Santo Ilarione E il qual fa il reguardare degnamente Appresso a Famagosta nacque Santo Barnaba Apostolo In Cipri si caccia con papioni E quali si asomigliono a leopardi E seguitono molto le bestie salvatiche E sono alquanto maggiori dei lupi E sono più fieri che cani E cacciasi ancora con cani dimestichi Ma le papioni sono più forti I vi è molto più caldo che non è di qui Di Cipri si va per mare verso Gerusalemme E verso altri luoghi che tengono Saracini E passono al tempo buono di vento in uno giorno naturale Del porto di Tiro Il porto di Tiro E il quale è al presente chiamato Sur È l'entrata di Suria I vi soleva esere una bella città dei cristiani Ma i Saracini l'hanno distrutta la Meijajer parte E curiosamente guardano il porto Si per paura dei cristiani Quanto possono per utile che hanno di lor passaggio Di là sanderebbe più ritto al porto Sansa entrare in Egitto Ma più volentieri si va in Egitto Per pigliare riposo e vittuvaglie necessarie Degli roloni, granchi E della fonte di che parla la Santa Scrittura 22 I vi, in sulla riva del mare Si trova molti roloni e granchi I vi è la fonte della quale parla la Santa Scrittura Fansortorum, puteus acqua rum viventium In questa città disse la donna al Nostro Signore Beato sai il venter quitte portavit E tu vera, que su existi I vi perdonò il Nostro Signore alla femmina Canania Innanzi a tiro soleva essere la pietra Sopra la quale stava il Nostro Signore predicando E sopra a questa pietra fu edificata La chiesa di Santo Salvatore verso Oriente Di Saffon, Sidonai, Barutti, Sidona e Dammasco È da otto leghe, sopra il mare Saffon, ovvero si riputa di Soddomensi I vi soleva dimorare il profeta Elia I vi risuscitò il figliuolo della vedova E da Saffon alla città di Saidan è sei leghe E da questa città fu Dido che edificò Cartagine in Africa E al presente si chiama Sidoni Nella città di Tiro regniò a Geno padre di Dido Da Saidan a Baruti si è X leghe Da Barati a Sidonai è tre giornate E da Sidonai a Damasco quinto leghe Chi vuole andare più di lungo per mare E più approssimarsi a Gerusalem Vada in Cipria al porto del Giaffo E questo è il più propinquo porto alla città di Gerusalem E non è altro che una giornata emiso Che sono sedicesimo Leghe Del Giaffo che edificò Jaffe Questa città è chiamata Giaffo per un figliuolo di Noè chiamato Jaffe Il quale la edificò Ma al presente è chiamata Jaffe E sappiate Che questa è la più antica città del mondo Però che innanzi al diluvio fu edificata Di Andromades Giugante Ancora li pare dove fu appiccato le catene di ferro Delle quale in prigione stette legato un gran gigante Detto Andromades innanzi al diluvio E il quale aveva una ischiena lunga piedi XL I tem Chi giugne al sopradetto porto di tiro Chi vuole va per terra in fino a Gerusalem E chi vuole vi da tiro in fino alla città di Daconin 1D E soleva chiamarsi a Contolomanda E già fu una città dei cristiani Ovvero di Sicilia Assai bella Al presente è molta guasta E viensi in fino a dei Campermare E si vi sono ottavo Leghe Lombarde E di Calabria in fino alla città E di Aicam per mare sono 1000 ccc grado Leghe Lombarde E l'isola di Crete è nel Miso della via I tem Appresso alla città di Aicam Verso il mare Sono sta 10 cgrado ventesimo Inverso il mare dalla destra parte Inverso il mezzo di E il Monte Cannello Ove dimorava Elia profeta Qui fu trovato il primo ordine dei frati carmelliti E il monte non è però molto grande né alto Ma a piede di quel monte soleva essere una buona città di cristiani Che si chiamava Caifas Imperò che Caifas la edificò Ma ora è quasi tutta guasta Dalla sinistra parte del Monte Carmelo È una villa chiamata Safa E in quel luogo giace il corpo di Santo Jacopo e di Santo Giovanni E nel luogo dove Nacuono è una bella chiesa Del Grande Monte Chiamato la Scala di Iri E da lì in fino al Grande Monte Chiamato la Scala di Iri Sono sta 10 grado I tem Qui appresso corre una piccola riviera Chiamata Belconi Qui via presso è una fossa Via Moni chiamata E è tonda e largaci grado Cubiti La quale è piena di granelle bianche lucente Delle quale si fa vetro bello e chiaro Qui viene la gente a torre di quelle granelle per mare con nave E per terra con carri E quando questa fossa è vota La mattina si trova piena come era di prima E dentro a questa fossa sempre è vento e rumore e rimescola le dette granella Maravigliosamente E chi mettessi alcun metallo in questa fossa fra le granelle Quello metallo si convertirebbe in grane ovvero in vetro E chi mettessi vetro fatto di Quelle granelle Si convertirebbe in granelle come era in prima Questa si è una bella città e popolata E alcuni dicono che quella fossa è uno spiraglio di mare eranoso I tem Dal luogo sopradetto si va alla città di Palestina in iii grado Giornate Questa città fu di Filistei Ora è chiamata Gaza Questa è una bella città Ricca e appopolata E alquanto di sopra di questa città portò il forte Sansone le porte sopra uno alto sasso Come Sansone amazò e Filistei al palazzo E, quando fu presso a quella città Amazò S.S. stesso nel palazzo del re insieme con molte migliaia di Filistei E quali avevano accecato, e toso e prigionato E perché si schernivano di lui Però fece rovinare il palaggio sopra loro Di Cesaria e del castello dei Pellegrini Di Ascalon, del Giafo E come in Babilonia di Mora e il Soldano E di là si va alla città di Cesaria e poi si va al castello di Pellegrini E poi a Scalona E poi al Giafo E poi a Gerusalem E chi vuole andare per terra Primamente va verso Babilonia Ove comunemente dimora il Soldano Per impetrare grazia da lui d'andare più sicuramente per lo paese E per andare in Monte Sinai Si vi innanzi che si vada in Gerusalem E poi, ritornando per Gerusalem Si va per Ganza in verso il castello di Tiro Da poi s'esce di Soria e entrassi negli deserti Dove il Nilo è tutto sanguinente Dura questo deserto settimo Giornate, ma tuttavia truovasi a Bergo di giornata in giornata Ove si trova vittovaglie opportune per l'uomo In sua lingua chiamano questo deserto Alilesh E uscendo fuori di questo deserto S'entra in Egitto Da lor chiamato Canopat 23 in suo linguaggio E altri il chiamano Agli Elfini E truovasi prima una bella città Chiamata Balcem E sta nella fine del Reame E di là si va a Babilonia al Cairo In Babilonia è una chiesa di nostra donna Dove ella dimorò settimo Anni Quando ella fuggì della terra di Giudea Por timore del re Erode Qui vi giace il corpo di Santa Barbera Vergine Qui vi stette Iosef da poi che fu venduto da fratelli Qui vi fece mettere Nabucodonosor nel fuoco e tre giovinetti In ebreo chiamati Anania Aseria e Missael Si come testimonia Salamone Ma Nabucodonosor gli appellava Sidraq Missaq e Abdenago Che suona Dio glorioso Dio virtuoso Dio sopra ogni reame E questo fu per lo miracolo che si vide Stando loro nel fuoco ardente Qui vi dimora il soldano nel suo cala elic Cioè al Cairo Perché qui vi comunemente è la sua sedia In un bello castello grande e forte E sta sopra a un sasso E in quel castello stanno sempre Standovi il soldano Per servire lui e per guardia del castello Seimila persone o più Le quali vivono tutte della corte del soldano di tutto quello che gli fa bisogno Io lo debo ben sapere Perché io fu gran tempo suo soldato contro ali i ordini e nelle sue guerre Egli M. Arebbe altamente meritato Siccome grande principe terreno Se io avessi voluto rinnegare il mio creatore giù Cristo Di ciò io non avevo volontà per tutto quello che egli M. Avessi potuto promettere né donare E sappiate Che il soldano è signore dei suoi reami che ha acquistati e appropriati per forza Come del reame di Canopate Del reame d'Egitto e del reame di Gerosolimitani Ove David e Salamone erano re Del reame di Allappeni Della terra di Emat e del reame di Soria Ove è capo la città di Soria Di Damasco E del reame di Arabia Che fu d'uno dei tre re Che andorono a presentare al nostro signore quando nacque E molte altre terre tiene in sua possanza E appresso a ciò si è Caliope 24 Che è una grande cosa E il soldano in suo linguaggio è sopra ii grado Re E nel paese della Soria è sollevavi esere via soldani E al presente non venesse non e uno Che è in Egitto Il primo soldano fu Zaratone Che fu di media E fu padre del soldano il qual prese il calife di Egitto E uccisselo e fu soldano per forza E poi fu soldano Saladino Nel tempo del quale il re Riccardo d'Inghilterra Con molti altri Guardorono il passaggio di Rocasse Che il soldano non poteva passare Da poi Saladino regnò suo figliolo Orlandino E poi suo nipote E poi l'imam Maluchi E quali erano come schiavi in Egitto Feciono la loro possanza ed elessono uno di loro Uno soldano Il quale si fece nominare Melchisela Nel tempo di costui entrò nel paese il re di Francia Santo Aluigio E con lo soldano combattendo Fu preso e messo in prigione E di poi fu morto questo soldano da suoi servi medesimi E quali da poi elesono un altro Chiamato Turpino per farlo soldano Costui da poi liberò Santo Aluigio Perché egli si riscosse E poi un altro si regnò dei suoi mamaluchi Chiamato Cazzas Costui uccise Turpino per esere soldano E fecesi nominare Melachamec E da poi uno di questi mamaluchi Per aver la signoria Fecesi chiamare Melchie Nel suo tempo entrò il buono re Adovardo di Inghilterra in Soria E fece grande danno a Saracini Poi fu questo soldano imprigionato in Damasco dal suo figliolo Il quale doveva regnare di poi lui E fecesi nominare Melchisez Ma un altro possente uomo Chiamato Elfiel Cacciò lui fuori del paese e fecesi soldano Costui prese la città di Tripoli E distrusse di molti cristiani dell'anno di Grazia 1299 Ma poi fu imprigionato da uno altro Che voleva esere soldano Ma costui fu subito morto E di poi fu il figliolo De Elifini soldano E costui si fece nominare Melchiazerac Costui prese la città da Acom E incarcerò tutti i cristiani Poi fu lui imprigionato Da poi fu suo fratello fatto soldano E fu nominato Gintelboga E fu preso E imprigionò lo nel castello di Monte Reale E fecesi soldano per forza E fu costui tartaro Ma gli malmaluchi gli discacciorono del paese E feciò un altro soldano del paese Chiamato Lichim E costui si fece nominare Melechimanser Il quale 25 giocando un giorno a scacchi E il cavaliere Con chi lui giocava Cruciato con lui Prese la spada del soldano che gli era preso E con quella spada lo uccise Da poi furono in grande discordia per fare un soldano Ma finalmente si accordorono che fussi fatto Melchimanser Il quale Viterga aveva posto in prigione a Monte Reale Costui regnò gran tempo e governò si saviamente e sanamente Si che il primo genito dopo lui fu eletto soldano E fu nominato Melechinade Il quale uccise il suo fratello secretamente per aver la signoria E fecesi nominare Melechinam Davuroni E costui era soldano quando mi parti del paese Item Sappiate Che L soldano può trarre del paese d'Egitto Pure solamente di quelli che stanno a sua provvidigione Più di 200 migliaia d'uomini d'arme E di Soria e di Turchia e di altri paesi Se ne può cavare più di 500 migliaia Sanza la comune gente del paese Imperò che questi stanno tuttavia apposta su approvvigionati Sanza gli ammiragli che gli governa Ma la comune gente del paese è sanza numero E ciascuno cavaliere ha di provvigione 6.000 fiorini l'anno Ma egli è di bisogno che ciascun di loro tenga 2000 cavagli e uno camello E sono gli ammiragli spersi per le città e per le ville Li quali ammiragli governano questa gente L'uno 400 L'altro 500 Chi più e chi meno E tanto ha di provvigione uno ammiraglio solamente Come tutti e soldati a lui sottoposti E però quando il soldano vuole mettere suso un cavaliere o uno altro uomo 26 Egli lo fa ammiraglio Ma quando viene una carestia E cavalieri sono poveri E vendono e cavagli e l'arme loro Item Lo soldano ha ii grado Femmine Una cristiana e tre non cristiane L'una in Jerusalem L'altra in Damasco e l'altra due in Ascalona Ma le si trasmutono all'altre terre E l soldano le va a visitare quando gli piace Queste ii grado Sono sue moglie Delle amiche n a lui quante ne vuole Perché lui si fa venire innanzi delle più belle e più nobili del paese E quelle che gli piacciono le fa guardare onorevolmente E quando vuole giacere con una amica Lui se ne fa venire molte innanzi Tutte ben guardate Manda ovvero getta l'anello del suo dito a quella che più gli piace Prestamente quegli a chi appartiene la mena a bagnare E poi a vestirla e adornarla molto nobilmente E così fa ogni volta che gli piace E di notte l'ha Conducono alla sua camera innanzi al soldano Non viene nieno forestieri Imbasciatore che non sia vestito di drappo d'oro Ovvero di camozzato A modo che saracini vestiti sono E conviene che così tosto Come egli non lo vedono o alle finestre o in nessuno altro luogo E sia chi si vuole Conviene che si inginocchino e bacino la terra Imperò che questa è l'usanza di tutti quegli che gli vogliono parlare E mentre che gl imbasciadori parlano con lui La gente del soldano stanno intorno a loro con i spade e con lance in mano A modo che per ferire a ogni ora Quando gli dicessino cosa che dispiacesse al soldano E per ognuno forestiero richiede cosa alcuna al soldano che non gliela conceda Purché ella sia cosa ragionevole e che non sia contro alla sua legge E similmente fanno gli altri principi Però che egli dicono Che nieno debbe venire innanzi al soldano Se non per migliorare E alla partita de esere più lieto che nella venuta al suo cospetto E sappiate che questa babilonia Della quale io ho parlato Dove dimora il soldano Non è già la grande babilonia Dove fu trovato la diversità delle lingue per lo divino miracolo Quando la grande torre di Babal fu cominciata Le mura della quale torre erano già fatte alte i 13 grado Stadi La qual si è nei grandi diserti di Arabia Sopra il cammino dove si va in verso Caldea Ma già è gran tempo che nieno ardisce andare né approssimare a questa terra Perché ella è diserta e abbandonata E qui vi d'intorno non abita altro Che grande moltitudini di dragoni E di serpenti e altre bestie velenose Secondo che gli uomini dicono di quel paese Della grande babilonia La quale edificò Nebrot I re Questa città aveva di circuito intorno alle mura C grado XL Leghe 27 Siccome si può stimare e comprendere E quantunque si chiami la terra babilonia Non di meno qui erano ordinate molte case e abitazioni e gran palazzi E conteneva la detta terra gran paese di circuito Come ho detto Perché la torre teneva per quadro dieci leghe Questa terra edificò Nebrot I re Questo fiore di quel paese E costui fu il primo re del mondo E fece fare una immagine al nome di suo padre E costringeva tutti i suoi soggetti ad adorarla E similmente fece Nino Di suo padre Così cominciorono GL idoli La detta torre Insieme con la città Era ben posta in un bel paese e piano Il quale si chiama ancora il piano di Senziar Le mura della terra erano alte cc cubiti ed erano grosse l cubiti E Sibu era una fiumara di Euphrat Pelmiso della città Ma Dario re di Persia gli tolse il fiume e distrusse la città e anche la torre Come il re Dario partì il fiume in 4.600 rivoli piccoli per lo giuramento CH Egli aveva fatto a dispartirlo Questo Dario repartì il fiume in I.I.I. grado M.E.V.C. grado Piccoli rivoli Però che aveva giurato che gli spartirebbe il fiume per forma Che una femmina lo potrebbe passare senza spogliarsi 28 Imperò che gli aveva perduti di molti cavalieri I quali Volendo passare il fiume Si affogorono E da Babilonia Dove dimora il soldano Per la via diritta tra Oriente e Settentrione Verso di questa grande Babilonia È quasi XL Giornate e la Meijair Parte del viaggio sono diserti E questa grande Babilonia non è punto né in dominio né in potenzia del soldano Lo imperatore di Persia tiene la grande Babilonia Anzi è sotto la signoria dell'OM per adore di Persia La terra di Persia si tiene un signore Il quale è uno degli più alti e più nobili che sia nella parte di là Ed è signore dell'isola di Catai e di molte altre isole ed una gran parte d'India E confina la sua terra con la terra del prete Giovanni Costui tiene tanta terra Che esso non sa i confini Ed è assai maggiore e più potente Sanza comparazione che non è il soldano Di possanza E dello stato di questo signore Io ne parlerò più appieno Che io non ho parlato della terra e del paese del soldano Della città di Meccia dove giace Macciometto I tem è la città di Meccia la quale i pagani chiamano Iactalo dove giace Macometto molto onorevolmente in un tempio Il quale i saracini chiamano Mocchia da Babilonia minore dove sta il soldano Infino alla città di Meccia sono giornate trentredi E sappiate che il reame di Arabia è molto grande paese Ma troppi diserti vi sono E in quegli diserti non si può abitare per difetto d'acque Perché questa terra è tutta renosa e sescia e sterile Onde non vi può esere veridità de 29 né dolcezza d'acqua In però vi sono tanti serpenti e diserti E, se vi fosse fiume o fontana La terra sarebbe buona come in altri luoghi E sarebbe tutta popolata e abitata come altrove Arabia dura da e confini del reame di Caldea Infino a confini d'Africa E dall'altra parte confina con la terra dei Dumea Verso le confini di Betron Nel reame d'Alida si è la degna città di Cartagine Fondata per Dido, amica Denea Il qual signoreggiò in Italia e Mesopotamia E si tene con questi diserti ed è un gran reame Di Aaron padre d'Abraham, Sik, e Defien Che fu gran teologo E in questo paese si è la città d'Aaron Ove dimorò il padre d'Abraham E dove Abraham si partì Per comandamento dell'angelo Di questa città fu Efien Il qual fu un gran dottore in teologia E un altro si fu chiamato Teofilo Il quale nostra donna lo salvò dal nimico E Mesopotamia dura dalla riviera d'Africa Fino al fiume di Tigras e Bereninta Però che tra questi due fiumi è in Misobabiglionia Poi Caldea, poi Arabia Caldea è un gran paese Nel quale paese, in Baldac sopradetto Solleva dimorare il Calipo E il qual soleva essere come imperatore d'Arabia E papa e signore intemporale e spirituale E era successore di Macometto e di sua generazione Questa città di Baldac era chiamata Sutbib Nabucdonosor la edificò E qui stette Daniel profeta E qui vide molte divine visioni E qui fece la esposizione dei sogni Ancora sappiate che anticamente solevano essere tre califi Quello di Arabia e di Caldea dimorava in Baldac E al Cairo, che è al lato di Babilonia Dimorava il calife d'Egitto In quel medesimo castello dove dimora il soldano Dal soldano in qua non sono più califi Imporò che da l'ora in qua Il soldano ha usurpato quel nome E fassi lui chiamare califo per tutti gli altri I tem, sappiate, che in Babilonia minore Dove dimora il soldano Si è la città del Cairo Con molte altre grandi e belle città E sono poste l'una appresso all'altra Babilonia sta appresso alla riva di Saiyan Altrimenti nominata Nilo 30 Del quale scrive Lucano E il quale viene dal paradiso terrestre Come il Nilo cresce e discresce Questa riviera del Nilo ogni volta che l sole entra nel segno del cancro Comincia a crescere e tuttavia va crescendo Mentre che il sole è in cancro e in Lione E cresce alle volte tanto Che si alza 20 cubiti o più E allora fa gran danno alle vigne Onde spesso viene nel paese gran carestia per troppa umidità E simile Quando la riviera è troppo piccola V è carestia per difetto d'umido Quando il sole entra nel segno della vergine Scende a poco a poco il fiume Infino a tanto che entra il sole nel segno della libra Questa riviera viene correndo dal paradiso terrestre Permiso o gli diserti d'India Poi entra sottoterra Per lungo e gran paese corre sottoterra E poi esce fuori d'una montagna che si chiama Alok La quale è tra India e Etiopia Di lungi dall'entrata di Etiopia 30 giornate E quella tal montagna circunda Etiopia e Mortagia E va di lungo Costeggiando la terra di Egitto Insino alla terra dello imperatore Che è nella fine d'Egitto E qui vi si sparge in mare E intorno alla detta riviera Vi stanno molti uccelli chiamati Ibis Del paese d'Egitto Ed è la cagione perché qui vi sono uomini astronomi Egitto è un lungo paese e stretto perché non si può distendere per mancamento d'acqua Sì che tutto il paese è tanto lungo dalla riviera Quanto l'acqua può bagnare la terra e adacquarla E tanto il paese è largo Perché qui vi piove nulla o poco E lì non possono avere acqua Se non da quella riviera E perché in quel paese non piove Se non rade volte Però l'aere è puro e chiaro E però qui vi sono di buoni astrolagi Però che non trovano nuvole che gl'impaccino Item La città del Cairo è maggiore che quella di Babilonia Ed è posta alquanto di sopra alla riviera Sopradetta verso e diserti In Egitto sono due parti Alta e bassa L'alta verso Etiopia E la bassa verso Arabia In Egitto è la terra di Ramasa e quella di Yesem Egitto è un forte paese per cagione dell'aspre montagne che con gran fatica si passano In Egitto, in verso oriente E' il Mar Rosso Il quale dura in fino alla città di Cascone E verso occidente è la terra di Libia La quale è terra secca e sterile perché ella è troppo calda Et è la terra chiamata Sacch Et è verso mezzo di Dietiopia e verso Bisa e verso il diserto E dura fino a Siria E così è il paese forte da ogni canto Egitto è di lunghezza bene quindicesimo Giornate e più di largo tanto Delle isole d'Egitto e degli Nubiani che nascono neri come mori E tra Egitto e Nubia sono bene dodicesimo giornate del diserto Sono i Nubiani cristiani Nascono neri come mori per la grande calidità del sole I Tem, in Egitto sono via province L'una è chiamata Sez L'altra Damaser L'altra Resit La quale è una isola fatta per lo Nilo L'altra Alla Prandia L'altra La terra di Damiata Damiata soleva esere molta forte città Ma perché i cristiani la conquistorono due volte E Saracini la conquistorono due altre volte La disfecciono e edificorono un'altra città più lontana dal mare La quale è chiamorono Damiata nuova Sicchiorani uno dimora nell'altra Damiata Qui vi si è uno dei porti d'Egitto e l'altro d'Alessandria La quale è molto forte città Ma ella non ha punto d'acqua Salvo quella del Nilo Che vu è condotta per vie sottoterra E hanno le loro citerne sotto l'acqua 31 In Egitto sono poche fortezze Imperò che il paese è forte per esse è stesso Dentro i diserti d'Egitto Già gran tempo fu uno valente romito Il quale scontrò uno gran mostro Il quale di sopra aveva forma d'uomo Infino al bellico con terzo gran corna nella testa E di sotto aveva figura di capra Qui fa menzione d'uno monstro Il quale trovò il romito nel diserto Questo buono remito domandò il mostro per parte di Dio chi lui era E l monstro gli rispose e disse Che egli era creatura mortale E che Dio l'aveva così creato E che egli dimorava in quel diserto Procacciando il sostegno della sua vita E pregò il mostro lo eremita Che volesse pregare per lui quello Dio E il quale Per salute la umana generazione Discese del cielo e nacque di vergine E passione e morte sostenne Come noi sappiamo E perché noi viviamo e siamo sostenuti Ed è ancora Questo monstro con le corna In Alessandria per lo gran miracolo Qui vi in Egitto è la città di Eliopoli Che si chiama la città del sole 32 E in questa città è un tempio fatto a modo di quello di Gerusalemme Ma in quanto alla divinità non è somigliante Il prete del detto tempio ha per scritto il tempo d'uno uccello chiamato Fenice E mai non è stato altro che uno al mondo E sappiate che la natura del detto uccello si è Che in capo di cento Anni viene in sullo altare di quello tempio a bruciarsi E il prete Quando vede il tempo E lui gli apparecchia sopra all'altare spine e zolfo vivo e altre cose che presto s'accendono E questo uccello si viene a ardere e fa sene cenere Di poi il primo di si trova nella cenere uno vermine E lo secondo giorno si trova l'uccello fornito E l terzo giorno si vola via E in questo modo si rinuova ogni volta in capo di cento Anni E sappiate che al mondo non è altro che uno di quella ragione uccelli E certo questo è gran miracolo di Dio E si può bene assomigliare questo uccello a Dio Imperò che Dio non è altro che uno E perché il nostro Signore risuscitò il terzo di E questo uccello si vede spesse volte volare nelle parti di Arabia e intorno a questo luogo E non è già più grande che una aquila E ha una cresta sopra la testa più grande che non ha il pagone Come è fatta la fenice E ha il collo giallo Di colore d'uno oro bilucente E ha il dosso indo E ha le ali di purpura colorite E ha la coreggia rossa pel traverso E il collo rosso Ed è bello da vedere al sole Però che luce molto nobilmente In Egitto sono giardini che rendono frutto due volte l'anno I vi si trova di begli smeraldi e assai Imperò che qui vine gran mercato E quando una volta piove in Egitto Tutto il paese sempie di ratti Item Al Cairo si mena a vendere comunemente uomini e femmine d'altra legge E fassi di loro come qua si fa di bestie menate al mercato Del Cairo e delle cose che vi sono Qui è una stanza comune nella città Quale è piena tutta di piccoli pertugi E tutte le femmine della villa portono uova di galline ed anitre ed oche E metton le indetti pertusi E gli guardiani della casa Che sono diputati a ciò Metton le dette uova in isterco di cavallo Sanza gallina o altro uccello E in capo di due settimane o d'un mese tornano le femmine E pigliono i loro polli e gli nutricono Di che il paese è molto abbondevole E questo fanno di verno ed estate In detto paese E in alcuni altri luoghi di là Si trovano per l'ascensione pomi lunghi E chiamansi pomi di paradiso E sono di buon sapore E chi gli taglia in due parti per traverso Sempre vi trova dentro la figura di Santa Croce Ma egli non si marciscono fra sette giorni E in però non se ne può portare in altro luogo Ed è tipo mi son buoni e dolci E trova si ben di questi pomi più di cento in su Nulla brocca trentatré E hanno gran foglie lunghe un gomito e quasi un piede larghe E qui son pome ed Adamo che hanno un morso dal lato Siccome Adamo morse il pome E qui vi sono fichi Che non hanno foglie sopra e rami E sono chiamati fichi di faraone Come si coglie il balsamo E dove nasce E come non fruttifica se non si lavora per mano dei cristiani E come si conosce I tem Appresso il Cairo Fuori della città È il campo dove nasce il balsamo E viene di piccoli albucegli Che non sono più alti che alla spalla d'uno comunale uomo E assomigliasi il legno di questi alberi alle vite salvatiche E in questo campo sono due fonte Delle quali ne fece una il nostro signore co' suoi piedi Sendo piccolo Quando giocava co' gli altri fanciugli Questo campo non è così ben serrato Che non si possa bene entrare Salvo che nel tempo che si ricoglie il balsamo Però che allora è guardato per modo Che niono vi potrebbe entrare Questo balsamo non cresce in altro luogo che in questo E le piante che sono trapiantate altrove crescono E mai non fanno frutto E tagliasi la brocca dell'albucello con uno legno acuto Ovvero con uno osso acuto Perché che gli tagliassi foglie con ferro Ne corromperebbe la virtù o natura E le foglie di quelle non rendono odore nì uno E saracini chiamano questo legno cabtblaso E l frutto che alquanto s'asomiglia alle cube Egli il chiamano gubalze E dicono e saracini Che il balsamo lavorato da cristiani fruttifica E mai non fruttifica se fossi lavorato per altri E questo hanno loro più volte esprimentato E altri dicono Che l balsamo cresce in India Nel diserto dove Alessandro parlò agli alberi del sole e della luna Ma io non l'ho veduto perché io non vi fu tanto innanzi Però che vi sono troppi pericolosi passaggi a andare E sappiate che colui che non si intende bene del balsamo Deve ben guardare come lo compera Perché di leggeri può essere ingannato Però che alcuni vendono una gomma terbentina Con la quale mescolano alquanto del balsamo per dare odore Alcuni cuocono il legno Col frutto del balsamo In olio E dicono Che quello è balsamo Altri fanno distillare chiodi di gherofani e di spigonardo E altre spezie odorifere E chiamano quello liquore Balsamo In modo che ne sono ingannati molti gran signori Che si credono avere balsamo E hanno nulla Però che i saracini e il contra fanno per ingannare i cristiani E questo ho io veduto e provato E ancora gli speziali Il sos fisticano 34 da capo Dove è ancora piggiore Ma a ciò che voi non siate ingannati Vi insegnerò come voi il potrete provare e conoscere il vero balsamo Voi dovete sapere Che il balsamo naturale è bene chiaro e di colore citrino e ha forte grande odore Essi 35 l'è spesso o rosso o nero e l'è sos fisticato Item Se voi mettete un poco di balsamo in sulla palma della vostra mano e tenetela verso il sole Se sarà buono e fine Voi non potrete tenere né sofferire la mano in verso il calore del sole Item Pigliate un poco di balsamo in su Nuna punta di coltello e toccatene il fuoco Se arde è buon segno Item Mettete un poco di balsamo in una scodella Dove si ha latte di capra Se gli è buono Subito il latte si rappiglia Item Mettete un poco di balsamo in un piattello d'ariento o in uno piccolo bacino pieno d'acqua chiara E poi muovete e mescolate forte l'acqua Che se l'balsamo è vero e perfetto L'acqua di nulla si conturberà E se l'balsamo è sos fisticato L'acqua inturbidirà E Sendo il balsamo fine Caderà al fondo del vaso al modo che fossi a riento vivo Perché il balsamo fine Due volte più pesa che il sos fisticato Ora Da poi che io vu ho parlato del balsamo Io vi parlerò delle cose che sono di là da Bambelonia oltre al fiume di Neer Verso il diserto Tra Africa e Egitto Qui sono i granai di Youssef I quali lui fece fare pel governo delle biade per supplire agli anni di carestia E sono di pietra molto ben murati Delli quali due sono grandi e alti a maraviglia E gli altri non sono così grandi né si alti Ciascun granaio ha una gran porta per entrata E sono alquanto alti da terra Perché la terra è guasta e cascata da poi che i granai erano fatti Qui vi dentro stanno molti serpenti In questi granai Da lato di fuori Sono molte lettere intagliate di diversi linguaggi E alcuni dicono che queste son tombe Che vuol dire sepolture antiche di gran signori Ma questo non è vero Perché comune fama è per tutto il paese E da presso e da lungi Che questi sono i granai di Youssef E così è il parere di tutti quegli del paese E hanno loro croniche per altre regione 36 E se queste fossino sepolture L non sarebbero vot dentro E non sarebbero porte per entrare Ne non sarebbero di tanta grandezza e oltesa Per la quale ragione non è da credere Che ciò siano tombe Qui vi in Egitto sono diverse lingue e diverse lettere Altrimenti che non sono altrove E si ve le descriverrò Come sono fatte e a che modo egli le chiamano A ciò che voi sappiate la differenza tra questi 37 Prima chi proceda più oltre Io vivo di notare il viaggio dove si va diritto a Babilonia Dove dimora il soldano E il quale è all'entrata d'Egitto Imperò che molte gente vanno in prima là E poi al monte Sinai E poi ritornino per Gerusalemme Come altre volte vuò detto Perché egli fanno prima il più di lungi peregrinaggio Poi ritornano per lo più breve Quantunque il più breve sia il più degno Cioè Gerusalemme Perché nieno altro peregrinaggio può comparare a quello Ma per più sicuramente e acconciamente fornire il lungo e il breve Si va prima al più lungo E poi al più presto Ma chi volessi andare a Babilonia per altra via E più breve che queste parti occidentali Che io ho di sopra ricordate E così d'altre parti propinque a quelle Vassi per la Francia e per la Borgogna e per Lombardia Non è bisogno di nominare le città Nelle ville di questo camino Però che il camino è assai netto e sicuro E conosciuto da molte nazioni e gente Per quante vie s'entra in mare per andare in Gerusalemme Molti porti sono Per li quali s'entra in mare Alcuni entrono a Genova e alcuni a Vinegia Questi passano per mare Per lo Adriano Chiamato il Golfo di Vinegia E il qual divide da quella banda Italia da Grecia Altri vanno a Napoli Alcuni a Roma e da Roma a Brondusio Per questi luoghi s'entra in mare E per più altri luoghi Dove son porti E vassi in Toscana per Campania Per Calabria e per Sicilia La quale è grande isola e molto buona In questa isola di Sicilia è un giardino verde E fiorito da ogni stagione Si diverno come di state Questa isola circunda bene Cicicigrado L Emilia Dell'isola di Sicilia E di certe maniere di serpe Che conoscono e figliuoli Legittimi da Bastardi E del Monte Mungibello Al contrario 38 tra Sicilia e Italia Non è altro che un piccolo braccio del mare E il qual si chiama il Farro di Messina Sicilia si è tra il mare Adriano E il mare di Lombardia E da Sicilia in Calabria Non sono altre che Ottavo Leghe Lombarde In Sicilia è una maniera di serpenti E qua conoscono e figliuoli legittimi da Bastardi Perché i padri loro Che vogliono vedere la pruova Lasciano andare le serpe intorno a detti figliuoli E se gli mordono Sono bastardi E se non gli danno noia Sono legittimi e di legittimo matrimonio nati E questo fanno molti per vedere Se hanno figliuoli legittimi o no Item In quella isola è il Monte Etna Il quale sempre arde E chiamasi Mungibello e Vulcano Ove ardono due fuochi E gettono diverse fiamme e diversi colori E per la mutazione di queste fiamme Sanno le gente del paese Quando sarà carestia e buona derrata Freddo e caldo Umido e secco E universalmente conoscono a che modo si governa il tempo di Italia E questo vulgano sono XXV Miglia E dicesi che questa bocca è dell'inferno Della via che va per lo porto di Pisa Item Chi va per Pisa Come alcuni vanno Trova uno braccio di mare Per lo qual si va agli altri porti di che i confini E montasi in mare E passasi per l'isola di Giof La quale è dei Genovesi E di poi s'arriva in Grecia Al porto della città di Miroto E al porto di Vallona Verso il porto di Duraso E il quale è del duca di Duraso E da altri porti Per questa banda Si va infino in Costantinopoli Della via che va dall'isola di Rodi all'isola di Crete E da Crete all'isola di Cipro Poi si va per acqua infino all'isola di Rodi e all'isola di Crete E dall'isola di Crete all'isola di Cipro E così da vineggia a Costantinopoli Si va per la via diritta per mare E te vi circa mille e ottocento ottanta Miglia E poi da Costantinopoli si va a Rodi per mare E te sei centosessanta Leghe E da Rodi in Cipro si fa cinquecento Leghe Da Cipro Andando tutta via per lo mare Si lascia Jerusalem con tutto il paese dalla parte sinistra E giugliesi infino in Egitto E arrivassi al porto di Damiata Il qual solea esere bello e forte Dalla entrata d'Egitto da Damiata Si va in Alessandria Che di sopra il mare E in questa città fu dicollata Santa Caterina E qui vi fu martorezzato San Marco Evangelista E qui vi fu seppellito il corpo suo Ma lo imperatore Lione fece portare a Vineggia le sue reliquie E qui vi è ancora una chiesa bellissima di San Marco Tutta imbiancata senza pittura E così sono tutte le altre chiese che sono di cristiani imbiancate di dentro Però che e Saracini l'hanno imbiancate per guastare le immagine e le storie dei santi che erano dipinte Questa Alessandria è lunga circa XXX Stadi Ed è larga decimo stadi E è bella e nobile città Qui vi è il Nillo entra in mare E in questa fiumana del Nillo si trova molte pietre preziose e assai legno aloe Il quale è una sorte di legno che viene dal paradiso terresto E adoperasi in diverse medicine E è assai caro D'Alessandria si va a Bambillonia Dove dimora il Soldano La quale è di sopra la diritta riviera del Nillo 39 E questo è il più breve cammino che si faccia per andare diritto a Bambillonia Perseverando Io vi mostrerò la via di Bambillonia al Monte Sinai Ove giace il corpo di Santa Caterina Partendosi da Alessandria è bisogno passare il diserto d'Arabia Per lo quale Moise vuandò e condusse il popolo di Israele E passasi al lato al fonte che fece Moise per la mormorazione del popolo non trovando acqua per bere E poi si passa per lo fonte di Marac Di cui l'acqua era prima amara Ma i fanciugli di Israel gittorono dentro un legno E di poi trovorono l'acqua dolce e buona per bere Poi si va alla valle di Elim Nella qual valle sono dodici fonti E qui vi erano piante che portavano dattili Le quale trovò Moises e Alesh e gli fanciugli di Israel E da questa valle al Monte Sinai non è più che una giornata E chi vuole andare per altra via di Bambillonia Si va per lo mare rosso E il quale è un braccio dello mare oceano Per questo mare rosso passò Moise a piedi secchi e il popolo di Israel Quando erano perseguitati da faraone re d'Egitto Questo mare può essere largo circa v Leghe Qui si somerse faraone con tutta la sua gente che si trovò con lui Perché si chiama mare rosso Questo mare non è punto rosso più degli altri mari Ma in alcuna parte v è rena rossa E per questo chiamasi mare rosso Questo mare corre infino a confini d'Arabia e di Palestina Per questo mare si va più di quattro giornate Poi si va più innanzi per il diserto per infino alla predetta valle di Kelim E di là si va al Monte Sinai E sappiate che per questo diserto niuno può andare a cavallo Perché i cavalli non possono ben bere e mangiare E però si passa con camegli E quali trovano da bere e da mangiare Perché mangiano rame d'albori e di bosco E sofferiscono da bere due o tre di E quando è trovano da bere Buono per tre di E questo non potrebbero fare e cavalli Del Monte Sinai Ove Moise parlò con Dio Da Babiglioni al Monte Sinai sono dodicesimo Giornate e più e meno Secondo il camminare E conviene portare per questi diserti le vittuaglie opportune Ed è chiamato il Monte Sinai Perché è rosso e ardente Perché Miusas più volte su questo monte Vide il nostro Signore in forma di fuoco E così il vide nel bosco 40 del Rubo E il qual gittava fiamma e non ardeva Qui via piede il Monte Parlava Miusas a Dio Qui via una badia di monaci Bene edificata con le porte di ferro Per timore delle bestie salvatiche Questo è un gran convento E fanno li monaci bene a pellegrini E sono a modo di eremiti E non beono vino se non ne di solenni E sono molti divoti e poveri Spezialmente facendo penitenzia e astinenzia assai Della chiesa di Santa Caterina e della sepoltura sua Qui è la chiesa di Santa Caterina Ove sono molte lampane ardente E glanno assai olio d'oliva per ardere e per mangiare E hanno per divin miracolo Imperò che i corbi e le cornachie e gli stornegli E gl altri uccelli d'intorno si ragunono insieme una volta l'anno E vanno là come se andassino in viaggio E ciascun di loro porta oliva Ovvero un ramo d'olivo A modo che volessino offrire E qui vi lo lasciano E di questo e monaci ne fanno olio Che è gran miracolo E poi che gl uccelli Che sono universalmente senza ragione Vanno a visitare il corpo di questa gloriosa vergine Certo bensì dovrebò gli uomini affaticarsi di cercarla I tem Dentro all'altare della detta chiesa E' il luogo dove vide Moisis il nostro signore nel rubo ardente E quando i monaci entrano in questo luogo si si scalzono Perché il nostro signore disse a Moise I scalzati Perché il luogo dove tu stai è terra santa Questo luogo chiamano i monaci Bolzelrel Che vuol dire Ombra di Dio E dal lato dell'altare grande sono tre gradi Sopra li quali è la sepoltura di Santa Caterina La quale è dall'abastro Dove giaciono l'ossa del suo corpo E l proposto dei monaci mostra le reliquie a pellegrini E percuote l'ossa con uno strumento d'ariento E esce ne alquanto olio a modo di sudore E il quale non si asomiglia a olio né a balsimo Anzi è più nero E di questo alquanto ne donono a pellegrini Perché non ve ne gran quantità de Da poi mostrono il capo della detta santa col sudario Nel quale fu inviluppato il suo santo corpo infino al monte Sinai E poi mostrono il rubo il quale arde senza consumarsi E nel quale il nostro Signore parlava a Moise E molte altre reliquie Come si estingue la sua lampeda quando il proposto muore Item Quando il proposto della Chiesa muore Subito si estingue la sua lampana E quando i monaci hanno eletto un altro che sia valente e senza peccato La lampana per divina grazia si accende per lei medesima E ciascuno di loro ha una lampana e conoscono quando alcuno di loro debba morire Però che il lume si tramuta e fiorisce E se non è degno di lume Rimane morto E altri dicono Che colui che canta la Messa dei Morti Dopo la Messa Trova in sull'altare il nome di colui che deve essere proposto E di ciò io li domandai E non mi vollono rispondere alcuna cosa Infino a tanto che io dissi Che non mi dovessino ascondere le grazie di Dio e le gran cortesie che gli faceva Ma che dovrebbero pubblicare per fare le gente più di vote E a nascondere fanno male Secondo il mio parere Imperoche e miracoli Che Dio ha fatti e fa continuamente Sono testimoni della sua possanza Come dice David nel Psalmo Mirabilia testimonia tua Dominic Allora egli ono dissono Che tutto ciò avveniva spesse volte Né più da loro possetti avere E sappiate Che in questa badia non entrò no mosche Né mosconi Né pulce Né altre brutture per miracolo di Dio e di nostra donna Imperò che tante e diverse maniere di mosche ci soleva esere E davano tanto fastidio Che i monaci volevano abbandonare il luogo E già erano usciti di fuori E montati in sul monte per partirsi del luogo E allora la nostra donna li venne incontro E disse loro Che ritornassino Che più non vi troverebbero mosche Né altre brutture E così ritornerono i monaci alla badia E mai più non vidono simile brutture Item Innanzi alla porta è la fonte dove Moise percosse nel sasso e uscìne fuori acqua E per questa badia si ascende per molti gradi al monte di Moise E qui vi si trova prima una chiesa di nostra donna La dove incontrò i monaci che fuggivano per le mosche 41 Della cappella di Elia profeta che si chiama Orem Dal più alto di questo monte medesimo è la cappella d'Elia profeta E questo luogo si chiama Orem Del quale la santa scrittura parla E tambula vit in fortitudine cibi il liususque ad montem di Orem E qui vi dal lato è la vite che piantò San Giovanni E chiamasi Arzinescafis E alquanto di sopra è la cappella di Moises E il sasso dove Moises scampò la paura Quando vide il nostro Signore a faccia a faccia E in quello è dipinta la forma del suo corpo Imperò che si percosse così forte nel sasso Che tutto il corpo si vi ficcò dentro Qui vi appresso è il luogo dove il nostro Signore diede a Moise Gli x comandamenti della legge E vi è la caverna ove dimorò Moise xl Di nel digiuno E morì innanzi che entrassi nella terra di promissione Ma non si sa dove fussi sopellito Da questo monte si passa a una grande valle Per andare a un altro monte assai più alto Dove Santa Caterina dagli Angioli fu sopellita Item In questa valle è una chiesa di xl Martori Dove spesso si canta la messa E di questa valle Che è molto fredda Si monta la montagna di Santa Caterina La quale è molta più alta di quella di Moise I vi Ove fu Santa Caterina sepulta Non è chiesa né cappella Ma ella vi fu già e fu distrutta Si che ora non vu è altro che uno monticello di pietra di rito Nel luogo dove fu posta Santa Caterina E quello è il proprio luogo Dove il nostro signore die x comandamenti a Moise Del luogo dove fu sopellita Santa Caterina E dove la vergine fu sopellita Dicono Che tutto è un luogo Ma essi dè intendere Che non è un luogo Ma più luoghi Ma è in un paese Perché lo monte e l'altro è chiamato Sinai Ma una grande via è tra l'uno e l'altro E tra loro è una gran valle e profonda 42 Come si debba torre commiato dai monaci E poi Quando sono visitati questi santi luoghi Si debbe raccomandare a prieghi dei detti monaci E torre commiato da loro E gli donano a pellegrini I quali debbono ritornare verso Gerusalemme Vi toaglie per mangiare e per passare E diserti di Soria E quali durano tre giornate o più Ancora sappiate Che in quegli diserti abitano molti arabi Che si chiamano bedoini e ascopi Queste son gente di cattiva condizione E non hanno case Né mansione 43 Anzi stanno sotto tende e tra bash Che fanno di pelle di cammelli ed altre bestie E quando i glanno mangiato E vanno cercando dove possino trovare acqua Come è sempre nel mare rosso e altrove Perché questo diserto è molto difettoso d'acqua E si avviene che rade volte trovano acqua E dove una volta trovano acqua L'altra volta non la trovano E per questo non vi fanno case Questa gente Murate Egli non mangiano pane Salvo alcuni che stanno appresso ad alcune buone ville Che alcuna volta vanno là a mangiare E questi tali cuocono le loro carne e pesci in sulle pietre al sole Questi son forti battaglieri e sono senza numero Essi cantono volentieri dietro alle bestie in pastura E di nulla si curano della loro vita E però non temono il soldano Né alcuno altro principe E are buono ardimento di guerreggiare con esso lui Se gli facessi cosa che gli dispiacesi E molte volte hanno fatto guerra col soldano E massimamente nel tempo che io ero con lui Del modo come s'arma questa gente Costoro portano in battaglia una gran targa E invilupponsi la testa e l'ecollo in un grande lenzuolo bianco E in questo modo son bene armati E egli son cattivi Malvagi e brutti e di perversa vita Della villa di Bersabe Ove dimorò Abraham E quando sono passati questi diserti che si viene verso Jerusalem Allora si vede Bersabe la quale soleva essere molta buona e dilettevol villa E ancora qui vi sono di molte chiese In quella villa dimorò Abraham gran tempo Lo quale fu patriarca Questa villa edificò Bersabe Moglie D'Uria Della quale il re David generò Salamone E il quale dopo David regnò XL Anni sopra e dodicesimo Tribi di Israel Da Bersabe si va alla città d'Ebron per due buone leghe La quale altrimenti si chiama la valle di Mambre E altri la chiamano la valle del pianto e di lacrime Perché in questa valle Adam si pianse Cigrado Anni la morte del figliolo suo Eibal Ucciso da Cain suo fratello Ebron soleva Esere la principal città dei Filistei E i vi abitavano giganti E qui fu la città sacra dotata della tribù di Iuda Et era così libera Che i vi riceveva ogni malfattore d'altrove In Ebronio sue e alafe e li compagni Vennono primamente per esplorare la terra E il modo di guadagnare la terra di promissione Qui vi in Ebron regnò prima David sette anni e mi iso E in Gerusalemme regnò trentredici Anni e mi iso Qui vi sono tutte le sepolture dei patriarchi Di Adam, Abraham, Isaac e Giacobbe E delle loro moglie, Eva, Sarah e Rebecca E lì, nel descendere del monte e sopra questo È una bella chiesa quadrata a modo d'un bel castello E questa guardono e Saracini molto bene E è riputato questo luogo di gran riverenzia Pe santi padri che vi giacciono Qui vi non lasciano entrare cristiani Ne giudei Se non hanno di grazia speziale dal soldano Perché tengono i cristiani come cani E dicono che non debbono punto Entrare in così santo luogo Chiamasi questo luogo Ove giacciono Doppia spelunca Perché giacciono l'uno sopra l'altro E Saracini chiamano questo luogo Nella loro lingua Eria fomba Che vuol dire luogo di patriarchi E le giudei lo chiamano Arbok Della casa d'Abraham In questo medesimo luogo era la casa d'Abraham Qui sedea in su l'uscio Quando egli vidde tre E uno adorò Di ciò testimonia la santa scrittura Dicendo Treis vidit et yunam adoravit Qui ricolse Abraham gli angioli nel suo ostello In questo luogo abitò Adamo e Teva Poiché furono cacciati di paradiso E assai appresso di questo luogo E una cava nel sasso Ove dimorò Adamo e Teva Poiché furono cacciati del paradiso terrestre Qui generò figliuoli Ivi fu Adamo creato e formato Secondo il detto d'alcuni Perché questo luogo si soleva chiamare Il campo di Damasco Però che era della signoria di Damasco E di qua fu traslatato Siccome si dice Nel paradiso delle delizie E di poi che lui fu cacciato del paradiso In quel giorno che fu cacciato In quello giorno aveva peccato Qui vi comincia la valle di Edbron La quale dura in fino a Gerusalemme Ivi comandò l'angelo a Adam Che lui giacesse con la sua donna E si ingenerò Oseez Della cui generazione nacque Il nostro Signore Dona spezie di terra Che si mangia in luogo di spezie In questa valle è un campo fuori dei quale si cava una materia di terra Che trae al rosso E chiamasi Campbell La quale si mangia e portasi a vendere in luogo di spezie E mai si può tanto cavare di largo e di fondo Che a capo dell'anno truovasi piena la fossa per divina grazia E da Edbron alla sepoltura di Loz Figliuolo del fratello d'Abraham Sono due leghe Assai appresso di Edbron è il monte di Mambre Dal quale la valle piglia nome Qui vi è uno albero di canna Che i saracini lo chiamano Dirp Il quale era in fino ad Abraham E chiamasi albore di Sez E dicesi che questo albero era in fino al cominciamento del mondo E sempre portò foglie verde in fino alla morte del nostro Signore in sul legno della Allora incominciò a seccare Il simile feciò no tutti gli altri alberi che si trovorono al mondo O che si secorono Ovvero la midolla dentro si marchì E da poi in qua sono rimasi gli alberi secchi Onde ancora oggi molti se ne trovano Della profezia Che un Signore d'Occidente guadagnerà la terra di promissione con lo adiutorio dei cristiani Questi hanno una profezia Che un Signore, Principe d'Occidente Guadagnerà la terra di promissione con l'aiutorio dei cristiani E farà cantare la messa sotto quell'albero secco E poi questo albero porterà bianche foglie e frutto per divin miracolo Per lo qual miracolo molti saracini si convertiranno e eziandio giudei alla fede cristiana E per questo è riputato quel legno di gran riverenzia e molto caro è custodito E quantunque essi ha secco e senza rami Non di meno è virtuoso Però che chi ne porta un poco sopra di esse è liberato dal morbo caduco E il suo cavallo non si può riprendere 44 E ha molte altre virtù per le quale è tenuto prezioso Da questa città Debron si va conciamente in un mezzo dia Bethlehem per bella via piana e dilettevole Che d'ora vuleghe Della città di Bethlehem e del sito suo e del Campo Fiorito E perché si dice Campo Fiorito? Bethlehem è buona città, piccola e stretta Fortificata intorno di buone fosse E soleva esere chiamata e frata Siccome dice il salmista E chi audivi musì iu emina freita E è nel fine della città Verso oriente Una bella chiesa e la più graziosa del mondo E ha tre torre e uno campanile molto sottilmente fatto Dentro alla chiesa sono Sedliogrado Colonne di marmo E infra questa chiesa e la città è il Campo Fiorito Ed è chiamato il Campo Fiorito Perché essendo una damigella incolpata a torto di fornicazione E dovendo essere arsa in quella piazza E postovi spine e altre legnie E andava la fanciulla piangendo e pregando il nostro Signore che come ella era innocente Così gli piacessi d'aiutarla e farne dimostrazione presente e il popolo E' acceso il fuoco E lei entrata Subitamente tutto il fuoco si spense E i rami che erano accesi Tutti si convertirono in rosai rossi E quegli altri rami che non erano ancora accesi Si convertirono in rosai bianchi Tutti caricati di rose Che prima non s'erano mai veduti i rosai rossi in quel paese Si che talmente 45 fu da Dio la fanciulla liberata E però quella piazza Per questo A nome Campo di Fiore Fiorito Del luogo dove nacque Cristo Item Dal lato del corpo di questa chiesa Dalla destra parte discendendo per dodicesimo Gradi E' il luogo dove nacque il nostro Signore Adornato molto nobilmente di marmo Ben dipinto d'oro ed azzurro e molti altri bicolori Del presepio del nostro Signore E dove casco la stella dei tre magi Qui via presso a tre passi è il presepio del bue ed è l'asino Dove Gesù Cristo nacque E' il via presso è il pozzo dove cascò la stella 46 La qual condusse i tre magi re Cioe Guasparre Baldassarre e Marchionne E giudei Altrimenti gli chiamano in ebreo questi tre re Appollim A nome ed Amasus E greci gli chiamano Galgalat Malgalat e Sarafi Questi reofferirono al nostro Signore oro e incenso e mirra E i vi non vennono per giornate Anzi vennono per divin miracolo Però che egli ono si trovorono a una città in Giudea chiamata Kassar La quale è di lungi da Betalem e le i Giornate E egli vennono in tredicesimo Giorni Ed era il quarto di che avevano veduta la stella Quando essi scontrarono in questa città di Kassar E così di questa città furono in Betalem in ottavo grado Di E questo fu gran miracolo I tem Di sotto alla chiesa per diciottesima gradi Dalla parte destra È l'ecarnaio degli innocenti Dove giaciono l'ossa loro Innanzi al luogo dove nacque il nostro Signore È la sepoltura di Santo Jeronimo Il quale fu cardinale e traslattò la Bibbia E l salterio d'ebraico in latino Di fuori della chiesa è la panca sopra la quale si stava Quando traslattò le dette opere E appresso a questa chiesa A sei torse è una chiesa di Santo Niccolò Dove nostra donna si riposò dopo il parto Perché ella aveva troppo latte nelle poppe E qui vi Sopra le pietre di marmo rosso Ancora sono le macchie bianche per lo latte Sopra di quello sparto La maggiore parte delle abitazioni di Betalem sono cristiani I vi intorno alla città sono di belle vigne Delle quali i cristiani fanno abbondanza di vino Perché e Saracini non lavorano vigne Però che non beono vino Perché nel libro della sua legge Chiamato Alcorano Dato a loro per Macometto E per altri chiamato Melatus E in un'altra lingua Armeli Proibisce il vino In questo libro Macometto mala disse Ognuno che bie e vino e tutti quegli che le vendono Per cagione che una volta gli fu apposto Che, essendo lui ubriaco Uccise uno eremita il quale molto amava E però mala disse il vino e chi ne bie e chi ne vende Ma questa mala dizione torna sopra di lui Siccome dice David profeta Et in vertice mipsius iniquita seius descendet I tem, i saracini non tengono porci Ne mangiono carne porcina Perché dicono Che l porco è fratello dell'uomo E che Dio il vietò nel Vecchio Testamento E hanno a dispetto ogni uomo che ne mangia E il simile nella terra d'Egitto e di Palestina E gli ono non mangiono carne di porco Ne di vitella Ne di bue Salvo se non sono così vecchi Che non possino lavorare Non perché gli sia vietata Ma perché è ne hanno poca E gli nutricono e voi solamente per arare la terra Di quella città di Bethlehem nacque David E il quale è B.L.C. Moglie Delle quale la prima fu nominata Mikol E a via C.C.C. Grado Kang Kyu Bain E da Bethlehem a Gerusalem non è più che due leghe De Bethlehem Andando in Gerusalem A Meisa Lega è una chiesa Dove gli angioli annunziorono a pastori La natività del nostro Signore In questa via è la sepoltura di Rachel madre del patriarca Iacob La quale dopo il parto di subito murì E Ivi Iacob suo marito la sotterrò E pose Iacob XII Grande pietre sopra lei In significazione che aveva avuto XII Figliuoli In questo cammino Di lungi da Gerusalemme e Isalega A parve la stella ai tre re E quali avevano variata la via per Erode In questo cammino son molte chiese Per le quali si va infino in Gerusalemme Città santa e ben posta fra le montagne E non vuè riviere Nè fonte Ma vi è l'acqua per condotto verso Edron Come fu chiamata Gerusalemme La quale prima si chiamava Jebul Jerusalemme anticamente Infino al tempo di Melchisedes Fu nominata Jebul E da poi Infino al tempo del re David Fu chiamata Salem Il quale David compose questi due nomi insieme E chiamò la Jebusalem Da poi venne Salamone Il quale la chiamò Gerusalemme Da poi fu chiamata Gerusalemme E nel reame di Siria Il quale regno ha molte province Con grande ricchezze Il simile è della terra dei Giudei E è chiamata Giudea Perché Giuda Maccabeo fu signore di quel paese E quel diverso oriente confina col paese di Arabia Verso il Misodi Come la terra d'Egitto verso Occidente Con il grande mare verso Bisa Col reame di Siria E col mare di Cipro I tem In Gerusalemme soleva essere un patriarca E per lo paese molti arcivescovi e vescovi Delle città che sono intorno a Gerusalemme Intorno a Gerusalemme sono queste città Cioè Brun A dodicesimo Leghe Bersabè A ottavi Leghe Gerico A sei leghe A Scalan A diciassette Leghe Giaffo A sedici Leghe Ramata A tre leghe Betlem A due leghe 47 All'incontro di Misodi Si è la chiesa di Santo Carita 48 Il quale fu abate in quel luogo Il quale morendo fu grandemente pianto da suoi monaci E ora son dipinti a modo che pianghino Che è cosa piatosa a risguardare Questo paese di Gerusalemme è stato nelle mani di diverse nazioni E molte volte ha portato il paese penitenzia per lo popolo che vi abitava Perché il paese è stato nelle mani di diverse persone e nazioni Come sono Giudei Assiri Persi Medii Turchi Tartari I Dio non sostiene lungamente il regno de malvagia gente Né di traditori Né peccatori in questa santa terra Sia qualunque si voglia E hanno tenuti gl infedeli questa terra per il spazio di Cigrado e XXX Anni Se a Dio piacerà egli ono non la terranno lungamente Delle chiese e luoghi che sono in Gerusalemme E dovete sapere Che quando è l'uomo in Gerusalemme Fa il primo pellegrinaggio alla chiesa del Santo Sipolcro La quale è fuori della città in verso le parte di Biso Ovvero Settentrione Ma ella è male governata insieme con la città Ed è assai bella chiesa Ritonda e aperta di sopra E intorno coperta di piombo E in verso occidente è una bella torre Alta e fortissima Per mettere campane dentro E in miso della chiesa è uno tabernacolo a modo d'una piccola casella Con uno uscio piccolo e Basso E questo tabernacolo è lungo ottavo Piedi e largo vu piedi E non è gran tempo Che il Santo Sipolcro era tutto iscoperto Sì che si potea toccare e baciare Ma perché ognuno che vu andava voleva avere un pezzo di pietra E per questa cagione l'ha fatto il soldano murare Sì che al presente non si può toccare e baciare Ma nella sinistra parte del tabernacolo O d'altezza d'uno uomo È una pietra grossa come il capo d'uno La quale si è del Santo Sepolcro E questa pietra baciono i pellegrini In questo tabernacolo non è alcuna finestra Ma vedessi con lampane D'una lampana che sempre arde inanzi al Sepolcro Santo La quale il Venerdì Santo si accende da per sé stessa E del Monte Calvario E dove fu trovato il capo d'Adamo E di molte altre cose che i vi sono Item È di una lampana che arde sempre innanzi al Sepolcro Ma il Dì del Venerdì Santo si spegne E poi per sé stessa s'accende il Dì della Resurressione A quell'ora propria che è le nostro Signore risuscitò Item Dentro alla Chiesa Dalla destra parte Appresso del corpo della Chiesa Si è il Monte Calvario Dove fu posto il nostro Signore in sul legno della croce Quello monte è un sasso bianco E in alcuno luogo mescolato di rosso E il detto sasso è feso E quella fenditura è chiamata Golgota E qui vi è dove gocciolò il prezioso sangue delle piaghe del nostro Signore Quando egli fu posto e confitto in sulla Santa Crocie E montassi a quello Golgota per gradi Cavando dentro a questa fenditura fu trovato il capo d'Adamo Dopo il diluvio di Noè In significazione che Adam cogli altri patriarchi dovevano essere liberati in questo luogo medesimo E sopra questo sasso fece Adamo sacrificio al nostro Signore I vi è uno altare Inanzi al quale giace Gottifredo di Buglione e altri re cristiani Che hanno signoreggiato Gerusalem E i vi appresso Dove fu crocifisso il nostro Signore È scritto in greco Oteos basileoni Simon per se una o ragazze Sotias giis Che vuol dire in latino Ic deus est rex ante saecula noster Qui operatus est salutem in medio terre Amen Et in vulgare suona Questo Dio è il re nostro Il quale ha operato nel miso della terra Amen 49 Item Sopra il sasso dove fu fatta la croce È scritto nel sasso Sii ai os ai en esti is basi storpiste o stoiste smosi i 50 Che vuol dire in latino Quod vides est fundamentum totius fidei ius mundi E in vulgare suona E in vulgare suona Quel che tu vedi Si è fondamento di tutta la fede di questo mondo Quando il nostro Signore fu morto Era detta D'anni trentredici E mesi sesto E la profezia di David dice Che doveva esere D'anni xl Dove dice Quadraginta anas proximus fui generationi uicic E totalmente Parrebbe ad alcuno Che la profezia non fosse vera Ma l'uno e l'altro è vero Però che si faceva allora l'anno di x mesi De quali marzo era il primo E dicembre l'ultimo Come Giulio Cesare ordinò l'anno di dodicesimo Mesi Che prima non era se non di x Ma Giulio Cesare Imperatore dei Romani Vi fece aggiungiere due mesi Cioè gennaio e febbraio E ordinò l'anno di dodicesimo Mesi Cioè ccc grado lxv Di sanza il bisesto Secondo il corso del sole E così tengono i cristiani Sì che essendo l'anno dodicesimo Mesi Lui non avrebbe se non trentredici Anni e tre mesi Ma dell'anno di x mesi aveva xl Anni Come dice il profeta Item Appresso al monte Calvario Dalla mano destra È uno altare Dove è una colonna Alla quale il nostro signore Fu flagellato e legato Delle colonne che piangono La morte di I.S.U. Cristo E i vi dal lato Sono i i grado Pilastri di pietra Che sempre docciono Acqua 51 E dicono alcuni Che le piangono La morte del nostro signore E appresso di questo altare È uno luogo Sotto terra xl Gradi a basso Dove fu trovata la vera croce Per l'ontelletto di Santa Elena Laddove proprio e giudei L'avevano celata E i vi Ove fu trovata la vera croce È furono trovate L'altre due croce dei ladroni E Santa Elena la fece provare Sopra un corpo morto Il quale Come ebbe la croce Sopra di esse È del nostro signore Subito risuscitò E i vi appresso È il luogo dove E i i i grado Chiovi del nostro signore Furono riposti De quali e ne ebbe Due confitti Nelle mani E due ne piedi Come Gostantino Fece fare il morso Del suo cavallo Del ferro De chiovi santi E della vittoria Che di ciò ebbe Ed uno di questi chiovi Ne fece fare Gostantino Imperatore Un morso Per portare in battaglia E per virtù Di quel ferro Lui vinse Tutti i suoi nemici E guadagnò Tutta la terra D'Asia minore Cioe De turchi Arminia piccola E grande Di Suria Di Jerusalem Di Persia Di Arabia Di Mesopotamia Del reame Delle Alpe D'Egitto Alto e Basso E tutte l'altre regione Infino Etiopia E India Minore Che a quel tempo Erano de cristiani Quasi tutte E in questi confini Erano molti eremiti De quali parla Il libro Della vita De santi padri E ora Son tutti De saracini E de pagani Ma quando A Dio piacerà Come pe peccati De cristiani Questo paese Fu preso Così per la prudenzia Loro si si riguadagnerà Con l'aiutorio Di Dio Item Nel miso Della terra È un compasso Dove Yosef di Bari Mattia Appoggiò Il corpo Del nostro Signore Poiché L'eve levato Di croce Egli lavò Le sue piaghe E dicesi Che questo compasso È proprio Nel miso Del mondo Nella chiesa Del santo Sepolcro In verso Bisa È il luogo Dove il nostro Signore Apparve a Maria Dopo la resurrezione E ella pensava Che fosse un ortolano Dal cordone 52 In questa chiesa Del santo Sepolcro Solevano Esere calonaci Dell'ordine Di santo Augustino E avevano E avevano Un priore Ma il patriarca È a loro Signore E di fuori Della chiesa A man destra Discendendo 18 gradi Disse il nostro Signore Alla sua Madre Muglier È chi Filius Tuus E mostrò Gli santo Giovanni Evangelista E di poi Venne a San Giovanni E disse È chi Mater Tua E queste Medesime Parole Disse In sulla Croce Qui si Fa menzione Di molti Luoghi Santi E di Gran Divozione E per Questi Gradi Montò Il nostro Signore Quando portò La croce Sopra Sè E di Sotto A questi Gradi È una Capella Ove Cantono Messa Preti Indiani Ma non Secondo La nostra Legge Ma Secondo La loro Che Ogni Volta Che Fanno Il sacramento Dell'altare E gli Ono Lo Fanno Di Pane Dicendo Il Pater Nostro Con Alcune Altre Orazioni E le Parole Del Sacramento Perché Egli Non Fanno Alcune Delle Addizione Fatte Pel Papa Ma Assai Divotamente Cantono E Via Presso È Il Luogo Dove Per Lo portare Della Croce Essendo Il Nostro Signore Istracco Si Riposò In Verso La Chiesa Del Santo Sepolcro È Più Debole La Città Che Non È Altrove Per Il Gran Piano Che È Tra La Chiesa E L Muro Della Città E Fra La Valle Di Iosafat La Quale Entrò Il Nostro Il Signore Il Di Pasqua D'Olivo In Sun Uno Asino E Quando Vole Lui Andare Al Tempio Le Porte S'aprirono Verso Lui E Ora Appare Ogni Passo Dell'asino In Tutti I Luoghi Degradi Che Sono Di Pietre Durissime E Innanzi Alla Chiesa Del Santo Sipolcro Sono Cicigrado Torse 53 Inverso Il Miso Di È Il Grande Spedale Di Santo Giovanni Dal Quale I Cavalieri Di Rodi Hanno L'or Principio I Vi Dentro Dal Palaggio Di Questo Spedale Sono Cicigrado I 13 Pilastri Di Pietra E Nel Muro Del Palaggio Oltre A Questi Ve Ne Sono L'Io Grado Che Sostengono La Chiesa Chiamata Nostra Donna Maggiore E I Vi Aslai D'Appresso È Un'altra Chiesa Chiamata Nostra Donna Latina E I Vi Maria Cleofe E Maria Magdalena Si Scapigliorano Quando Il Nostro Signore Fu Posto In Croce E Di Là Dalla Chiesa Del Santo Sepolcro Verso Oriente È Una Bellissima Casa Ritonda Alta Coperta Di Piombo Ed Intorno Vi Sono Grandissime Piazze Sanza Case Ed È Tutta La Piazza Lastricata Di Marmo Bianco E I Saracini Non Vi Lasciano Entrare Né Cristiani Né Giudei Però Che Dicono Che Così Brutta Gente Non Debono Entrare Né Toccare Così Fatto Luogo Ma Ma Io V Entrai E Altrove Dove I Volli Per La Virtù Delle Lettere Del Soldano Nelle Quali Era Speziale Comandamento A Tutti E Suoi Sudditi Che Loro Mi Lasciassino Entrare Dove Che Io Volevo E Generalmente A Fare Quello Che Io Volevo Salvo Cosa Che Fussi Contro Alla Reale Degnità Del Soldano E Della Sua Legge Dell'Onore Che Fanno E Saracini Alle Lettere Del Soldano Ai Suoi Comuni Servidori Che Vogliono Da Lui Grazia Egli Non Gli Dona Altro Che Un Segno Che Porta Inanzi Al Petto Al Qual Segno E Saracini Fanno Gran Riverenzia Non Altrimenti Che Come Noi Facessimo Al Corpo Di Cristo Ancora Sanza Comparazione Feciò No Maggiore Riverenzia Alle Lettere Che Io Avevo Però Che Gli Ammiragli E Signori A Che L'Erono Mostrate Prima Che Le Ricevessino Si Inginocchiavano Poi Le Toglievano E Mette Vole Sopra La L'Or Testa E Poi Le Leggevano Inchinati Con Gran Riverenzia E Poi Sofferivano Di Chiubidibono In Questo Tempio Era Carlo Magno Quando L'Angelo Gli portò Il Prepuzio Del Nostro Signore 54 E D D La Circoncisione Di Poi Carlo Lo Portò Alla Cappella De Ris Di Lungi Dali Sette Leghe E Di Poi Carlo Calvo Lo Fece Portare A Poitieros E Dopo Fu Portato A Chartra Sappiate Che Questo Non È Il Tempio Che Qui Discrive Quanto Durò Il Tempio Di Salamone Il Tempio Che Fece Salamone Non Durò Se Non Me Cigrado E Due Anni Perché Tito Figliolo Di Vespasiano Imperatore Di Roma Avendo Tenuto Lungamente L'assedio Contro A Gerusalemme Per Distruggere E Giudei Però Che Avevano Morto Il Nostro Signore Sanza Licenzia Dello Imperatore Preso Che Ebe La Città Arse E Distrusse Il Tempio E Uccise Undicimila Centinaia Di Giudei E Gl Altri Prese E Si Gli Vendeva XXX Per Un Danaglio Cristiani Cristiani In Odio E Quando Ebono Quasi Fornito Il Tempio Per Divina Volontà Venne Un Tremuoto Che Guastò Ciò Che Egli Avevano Fatto Di Poi Adriano Imperatore Che Era Di Quegli Di Troia Rifece La Città Di Gerusalemme Col Tempio In Quella Medesima Forma Che Prima L'aveva Fatto Salamone E Non Voleva Che Giudeo Ne Altri V Di Morasi Salvo Che Cristiani Questo Imperatore Fece Murare E Serrar La Chiesa Del Santo Sepolcro Appresso Alla Città Che Prima Era Di Lungi Di Fuori Della Città E Vole Mutare Il Nome Di Gerusalemme E Chiamò La Elia Ma Questo Durò Poco I Tem Sappiate Che Saracini Fanno Gran Riverenza A Questo Tempio E Dicono Che L Molto Santo Esi V Entrono Scalzi Spesso Inginocchiandosi E Quando I miei Compagni E Io Vedemo Questo Allora Ci Scalzamo Pensando Che Piuttosto A Noi Si Conveniva Che Agli Infedeli Di Ciò Avemo Gran Compassione Qui Descrive La Forma Del Tempio Questo Tempio È Una Nobile Casa Tutta Ritonda Ed Grado E Altrettanto Lunga E Alta Cubi Tcc Grado XLV E Coperta Di Piombo E Intorno Pilastri Di Marmo In Miso Del Tempio È Uno Staggio 55 Alto 13 Gradi E Ad Intorno Di Buoni Pilastri Questo Luogo Chiamano Santa Santorum I Vi Non Entrono Alcuni Se Non Prelati Che Devon Fare Il Misterio Del Sacramento Ovvero Il Sacrificio E Quando Ciò Fanno I Sta Il Populo Intorno Partito In Diverse Stanze Secondo La Loro Usanza Però Che Tutti Venono A Fare Sacrificio Questo Tempio Ha Quattro Entrate E Sono Le Porte Di Cipresso Bene Intagliate E Dentro Le Porte D'Oriente Disse Il Nostro Signore Iesu Cristo Qui E Gerusalem E Inverso La Parte D'Uno Orto Dentro Alle Porte È Una Fontana Ma Non Corre Della Qual Parla La Santa Scrittura Onde Dice Vidi Aquame Gredientem De Templo E Dall' Altra Parte Del Tempio È Uno Sasso Il Quale Solleva Esere Chiamato Monachina Poi Fu Chiamato Betel Dove L'arca Di Dio E Le Reliquie De Giudei Erano Riposte Questa Arca Insieme Con Le Reliquie Tito Fece Portare A Roma Dopo L'astruzione De Giudei Qui Si Fa Menzione Delle Reliquie De Giudei Che Erano Nell'arca In In Questa Arca Erano Le Tavole De X Comandamenti E La Verga Di Muise Con La Quale Divise Il Mare Rosso Quando Il Popolo Passava A secco E Con Questa Verga Percosse Il Sasso Del Quale Uscì Acqua E Della Quale Acqua Fece Assai Miracoli E Era Dentro In Questa Arca Uno Vaso D'oro Pieno Di Manna E Di Vestimenta Ornata E Il Tabernacolo D'Aaron E Una Tavola Quadrata D'oro Con Dodicesimo Pietre Preziose E Una Bossola Di Gaspis Verde Con I Grado Gli Unidoro Sopra E Quali Erano I Grado Cherubini D'oro Lunghi Dodicesimo Spanne E Li Movimenti De Segni Del Cielo Con Un Tabernacolo D'oro E Trombe D'ariento E Uno Pane D'orzo E Tutte Le Reliquie Che Erano Innanzi La Natività Del Nostro Signore I Su Cristo Sopra Questo Sasso Di Betel Dormiva I Quando L Angioli A Scendere E Discendere Per Una Scala E Disse Vere Locus Siste Santus Est E Tegone Scevam Qui Vi Tenne Iacob Uno Angelo Tanto Che L'Angelo Gli Mutò Il Nome Di Iacob In Israel In Quel Medesimo Luogo Vide De Vito Uno Angelo Che Tagliava Il Popolo Con Una Spada Poi Misse La Spada Nella Guaina Tutta Sanguinosa E Sopra Questo Sasso Fu Il Nostro Signore E Predicò Al Popolo E Di Questo Tempio Cacciò Il Nostro Signore Quegli Che Vendevano E Compravano Sopra Sopra Questo Sasso Si Nascose Il Nostro Signore Quando E Giudei Lo Volono Lapidare Il Sasso Si Si Aperse E In Questa Fenditura Si Si Nascose E Qui Allora Discese Una Stella Per Illuminarlo E Sopra Di Questo Sasso Imparò La Nostra Donna Il Suo Salterio E Vi Perdonò Il Nostro Signore Alla Femmina Che Era Presa In Adulterio E Qui Vi Fu Il Nostro Signore Circonciso E Qui Vi Annunziò L'Angelo A Zacheria La Concezione Del Suo Santo Figliolo Santo Giovanni Battista E Vi Fermamente E Primamente Offerse Melchisedes Pane E Vino In Significazione Del Futuro Sacramento Sopra Questo Monte 56 Si Lasciò Cadere David Pregando Il Nostro Signore E L'Angelo Che Aveva Veduto Tagliare Il Popolo Che Dio Avessi Misericordia Di Lui E Del Popolo E L Nostro Signore Esaudì Il Suo Priego Onde David Vole I Viedificare Il Tempio Ma Il Nostro Signore Gli Le Vietò Per Uno Angelo Però Che Aveva Commesso Tradimento Che Per Cupidità Della Moglie Duria E Fece Uccidere Il Buon Cavaliere E Però David Diede A Salamone Tutto Quello Che Aveva Provveduto Per Fare Il Tempio E Così Salamone Lo Edificò Poi Pregò Il Signore E Salvatore Che Ognuno Che In Quel Luogo Di Buon Cuore Pregassi Il Nostro Salvatore Fussi De Suoi Giusti Preghi Qualunque Fussino Esaudito E Aiutato E Consigliato E Così Dio Gli Concedè Del Nome Del Tempio Di Salamone E Per Questo Il Chiamò Salamone Il Tempio Di Consiglio E Aiuto Di Dio E Di Fuori Della Porta Del Tempio E Uno Altare Dove E Giudei Solevano Offerire I Lortori 57 E Ora E Saracini Sopra Quello Altare Hanno Fatto Uno Riguolo Per Vedere L'ore Del Dì A Una Bocca Che Vuè Dentro L'altare E In Questo Tempio Fu Morto Zaccheria E Sopra Alla Cima Di Questo Tempio Fu Portato Il Nostro Signore Per Esere Tentato Dal Nimico E All'entrata Del Tempio Verso Occidente Nella Porta Spaziosa Passando San Giovanni E San Piero Feciono Per La Grazia Di Dio E Il Rattratto Andare E Uscire Del Tempio E La Immagine De Absalom Molto Bella In Una Piazza Grande E Piana In Questo Tempio Solevano Di Morare E Cavalieri Che Si Chiamano Del Tempio E Questo Fu Il Fondamento Del Suo Ordine Sì Che In Questo Tempio Dimoravano E Al Tempio Del Signore Vi Stavano Gli Chierici Da Questo Tempio In Verso Oriente C Grado Ventesimo Passi O Circa Nel Canto Della Città E Il Bagno Del Nostro Signore E In Questo Solleva Entrare L'acqua Del Paradiso E I V Dal Lato E Il Letto Di Nostra Donna E I Via Presso E La Sepoltura Di Simeone E Fuori Del Chiostro Del Tempio Verso Bisa È Una Chiesa Assai Bella Di Santa Anna Madre Di Nostra Donna Ivi Fu Concetta Nostra Donna E Inanzi A Questa Chiesa È Un Grande Albero Che Cominciò A Crescere Quella Notte Medesima E Di Sotto A Questa Chiesa Discendendo Per 13 Gradi Giace Ioachino Padre Di Nostra Donna In Una Sepoltura Di Pietra E Ivi Di Sotto Solleva Giacere La Sua Moglie Ma Santa Elena La Fece Portare A Gostantinopoli In Questa Chiesa È Una Fonte A Modo D'Una Citerna Chiamata Probatica Pescina La Quale A Quinta Entrate In Questa Fonte Si Solleva Bagnare Ogni Infermità Ivi Liberò Il Nostro Signore Il Paraletico Che Era Stato Infermo Anni Trense Dicio A Cui Disse Tolle Grabatum Tu Metambula E Ivi Dal Della Crudeltà Di Erode E Della Vita Sua Qui Vi Assai Appresso Era La Casa D'Erode Che Fece Uccidere Gli Innocenti Questo Re Erode Fu Cattivissimo E Crudelissimo Perché Fece Prima Uccidere La Moglie La Quale Molto Amava E Per Lo Grande Amore Che Le Portava Da Poi Che Udì Che L'era Morta Diventò Pazzo E Stette Pazzo Gran Tempo E Di Poi Tornò Nel Primo Senno E Poi Fece Uccidere Due Suoi Figlioli Grandi Nati Di Quella Sua Moglie E Poi Fece Uccidere Un'altra Sua Moglie Con Un Figliolo Nato Di Lei E Di Poi Fece Uccidere La Principale Sua Moglie E Sua Madre Propia E Simile Voleva Fare Del Suo Fratello Ma Egli Murì Dinanzi A Lui Di Morte Subitana Questo Erode Fece Quanto Male E Potè Fare Essendo Ammalato A Confini Della Vita Sua Lui Mandò Per La Sua Sorella E Per Tutti Gli Altri Signori Del Suo Paese E Quando E Furono Venuti A Lui Tutti Gli Fece Imprigionare In Una Torre E Disse A Una Sua Sorella Che Sapeva Bene Che Nuno Farebbe Pianto Della Sua Morte E Che Lui Voleva Che La Giurassi Subito Che Fussi Morto Facessi Tagliare La Testa A Tutti Quegli Che Lui Aveva Imprigionati A Ciò Che Alla Sua Morte Tutto Il Paese Facessi Grandissimo Pianto E Lamento E Così Fece Erode Il Suo Testamento E Così Murì Ma La Sorella Non Gli Attenne Cosa Alcuna Imperò Che Morto Erode Lei Liberò Costoro E Mandogli Alle Loro Stanze E Narrò Loro L'ordine A Lei Dato Per Erode E Non Gli Venne Fatto Come Crede Come E Furono Tre Erodi Ma Sappiate Che Fra Questo Tempo Furono Tre Erodi L'uno Dopo L'altro E Furono Di Gran Nominanza Per La Loro Crudeltà Quel Che Fece Uccidere Gl Innocenti Di Quello Ho Parlato Quello Ascalonit Che Fece Tagliar La Testa A Santo Giovanni Battista Fu Erodo Antipater E Imprigionare Santo Piero Item Più Oltre Nella Città Si è La Chiesa Di Santo Salvador E I V È Il Braccio Sinistro Di Santo Giovanni Grisostimo E La Major Parte Del Corpo Di Santo Stefano E Dall'altra Parte Della Via Verso Misodi Andando Verso Il Monte Di Zayan Si è La Chiesa Di Santo Jacopo Dove Fu Di Collato E Da Questa Chiesa Insino Al Monte Zayan Sono CXXV Passi E V È Una Bella Chiesa Di Nostra Donna E Qui Vi Dimorò E Qui Vi Passò Di Questa Vita In Questa Chiesa Solleva Esere Una Badia Di Calonici E Di Qui Fu Portata Nostra Donna Infino Alla Valle Di Iosafat Qui Vi È La Pietra Per La Quale Passò Nostra Donna Per Andare A Bethelem Item All'entrata Di Monte Zayan È Una Cappella Nella Quale Il Santo Si Polcro Fu Coperto Quando Iosef Vi Misse Dentro Il Nostro Signore Questa Si è La Pietra Che Vidono Rivolgere Le Quattro Marie Quando Loro Vennono Il Di Della Resurrezione Al Monumento E Trovoro L'Angelo Che Le Disse Che L Nostro Signore Era Morte A Vita Onde L'Angelo Disse Sul Rexit Non Esti Inc Qui Fa Menzione Di Molti Luoghi Santi E Devoti Qui Nel Muro Alato Alla Porta È Una Pietra Della Colonna Alla Quale Il Nostro Signore Fu Flagellato Però Che Qui Vi Fu La Casa Danna Che A Quel Tempo Era Vescovo De Giudei I Vi Fu Cristo Battuto Flagellato Ferito E Vilmente Trattato In Questo Luogo Medesimo Il Rinnegò San Piero Tre Volte Inanzi Che Legallo Cantassi E Qui Vi È Una Parte Della Tavola Sopra La Quale Cienò Il Nostro Signore Cos Suoi Apostoli Quando Dette Loro La Propria Carne E Il Proprio Sangue In Forma Di Pane E Di Vino E Di Sotto Da Questa Cappella Per Tren Tredici Gradi È Il Luogo Dove Il Nostro Signore Lavò E Pie A Suoi Apostoli E Ora E V Il Vaso Ove Era L'acqua Che Qui Vi Da Lato A Quel Vaso Fu So Pellito Santo Stefano E V È L'altare Ove Udì La Nostra Donna Gli Angioli Cantarmessa Qui Primamente Da Poi La Resurrezione A Parve Il Nostro Signore Agla Apostoli Sendo Le Porte Serrate E Disse Loro Pax Vobis E Più Inanzi Nel Monte Zayana Parve Il Nostro Signore A Sant Tommaso Apostolo E Se Gli Fece Tocare Le Sue Piaghe L'ottavo Di Dopo La Resurrezione In Su Che Il Ora Conove Il Certo Sant Tommaso E Disse Dominus Meus It Deus Meus In Quella Medesima Cappella Appresso Dell'altare Grande Stavano Gli Apostoli Eldi Della Pentecoste Quando Lo Spirito Santo Discese In Forma Di Fuoco Qui Celebrò Il Nostro Signore La Pasqua Con Suoi Apostoli Qui Dormì San Giovanni Sopra Il Petto Del Nostro Signore I Su Cristo E Dormendo Vide Molti Segreti Del Nostro Signore Del Monte Sion Dove Erano Soppelliti David Salamone E Molti Altri Re Il Monte Di Zayan E Dentro La Città E La Città È Più Forte Da Questo Canto Che Altrove Però Che A Pied Il Monte È Un Bel Castello Forte Che Fece Fare Il Soldano Nel Monte Zayan Furono Sepolti Il Re David E Il Re Salamone E Molti Altri Re Di Gerusalem E Vi È Il Luogo Dove E Giudei Volono Gittare Giù Il Corpo Di Nostra Donna Quando Gl Apostoli Lo Portavano A Soppellire Nella Valle Di Iosafat E Vi È Il Luogo Ove Pianse San Piero Teneramente Da Poi Che Gl E Be Rinnegato Il Nostro Signore Qui Fa Menzione Di Molti Altri Luoghi Santi E Divoti Dalla Cappella Sopradetta A Una Gittata Ad Una Pietra È Un'altra Cappella Dove Il Nostro Signore Fu Giudicato A Morte E I Vi Assai Presso È La Casa Di Caifas Da Questa Cappella Per L'Andare Dici Grado E Venti Passi Verso Oriente È Una Cava Profonda Di Sotto Alla Fossa Che Si Chiama La Galilea Del Nostro Signore I Tem I V Si Nascose San Piero Poi Che Rinnegò Cristo I Tem Tra Le Monte Di Zion E Il Tempio Di Salamone È Il Luogo Ove Il Nostro Signore Risucitò La Giovinetta Nella Casa Di Su Padre Di Sotto Al Monte Di Zion Verso La Valle Santana Chiamata Natatoria Siloe I V Presso È Il Battesimo Ove Fu Lavato Il Nostro Signore I Vi Fece Vedere Il Nostro Signore Il Ceco E Vi Fu Seppelito Isai A Profeta I Tempio Dietro Alla Natatoria Siloe È Una Immagine Di Pietra Anticamente Lavorata Che Fece Fare Assalon E Così Si Chiama La Immagine D'Assalon Ed Dove Giuda S'impicò Disperato Perché Aveva Fatto Tradimento Contro Al Nostro Signore Ma Sappiate Che Questo Non è Quell'albero Proprio A che Sapicò Giuda Ma È Uno Rinasciuto Di Quelle Medesime Radice Del Primo Anco Qui Dal Lato V Era La Sinagoga Dove Lo Vescovo De Giudei E Gli Farisei Ragunavano E Tenevano Il Loro Consiglio E Qui Vi Fu Dove Giuda Gittò I Trenta Danari In Loro Conspetto Dicendo Che Egli Aveva Peccato A Tradire Il Nostro Signore I Vi Allato Fu La Casa Degli Apostoli Filippo E Jacopo Alfeo Dall'altra Parte Del Monte Zion In Verso Misodi Oltre Alla Valle Al Gittare D'Una Pietra Si A Keldemach Che Vuol Dire Campo Di Sangue Qui Vi Furono Trovati E XXX Danari De Quali Fu Venduto Il Nostro Signore In Questo Campo Sono Molte Sepolture De Cristiani Però Che I Vi Si Sollevono Soppellire E Pellegrini E Sono I Vi Molti Oratori E Cappelle E Romitorii Ove Sollevano Dimorare Eremiti Di Là In Verso Oriente A Cicigrado Passi V E Il Sipolcro Dell'Ospedale Di San Giovanni Dove Si Sollevano Metter L'ossa De Morti I Tem Da Gerusalem Verso Le Parte D'Occidente Ha Una Lega È Una Chiesa Dove Nostra Donna Si Scontrò E Salutò Elisabeth Sua Cugina Madre Di San Giovanni Battista Che Erano Tutta Due Gravide E E Allora San Giovanni Si Mosse Nel Ventre Della Madre E Fece Riverenzia Al Suo Creatore Il Quale Lui Non Aveva Ancor Veduto Di Sotto L'altare Di Detta Chiesa È Il Luogo Dove Santo Giovanni Nacque E Da Quella Chiesa A Una Lega È Il Castello Di Emmaus Qui Vi Ancora Si Dimostrò Il Nostro Signore A Duo Discepoli Dopo La Resurrezione I Tem Della Parte Di Gerusalem A Cicigrado Torse È Una Chiesa Dove Solleva Esere La Cava Del Lione Di X X Martori E Quali Raguno E Lione Per Volontà Di Dio In Una Notte E Del Monte Gioia Dove Giace Samuel Profeta E Di Sotto A Questa Chiesa A XXX Gradia Basso Furono Soppelliti XXI Martori Nel Tempo Del Re Cosdro 58 I Quali Ilione Ragunò Tutti In Una Notte Per Volontà Di Dio E Nascose In Terra I Tem Da Gerusalemme L Monte Di Gioia Due Leghe Molto Bello Luogo E Dilettevole E Dilicato I V Giace Santo Samuel Profeta In Una Bella Tomba E Chiamasi Quello Monte Di Gioia Perché Dona Letizia Al Cor De Pellegrini Che Vanno Per Questo Monte Perché Di Qua Vegono Prima La Santa Città Di Gerusalemme Di Monte Oliveto E Anche La Valle Di Iosa Fatta Presso Le Mura Della Città Come Io Vu Ho Detto Di Sopra Nel Miso Di Quella Valle È Un Fiume Che È Una Piccola Riviera Che Si Chiama Il Torrente Di Sedran E Sopra Questa Riviera Giaceva L'albero Della Croce A Modo Di Passaggio E Via Presso È Una Fossata Ove È Sotterato Ora Il Piede Della Colonna Ove Fu Primamente Flagellato Il Nostro Signore Però Che In Più Luoghi Lo Flagellorono E Vilanamente Il Trattorono Della Chiesa Di Nostra Donna E Del Tempo Che Aveva Quando Muri I Tem Nel Mezzo Della Valle Di Iosa Fatta È La Chiesa Di Nostra Donna Sedlio Grado Gradi Sottoterra E Aveva Nostra Donna Anni Tr Tredi Quando Passò Di Questa Vita È Da Lato Di Nostra Donna È Uno Altare Dove Il Nostro Signore Perdonò A Piero Tutti I Suoi Peccati I V Da Lato In Verso Occidente Di Sotto È Uno Altare È Una Fonte Che Viene Dal Fiume Del Paradiso E Sappiate Che Questa Chiesa È Molto Bassa Sottoterra E Quasi Tutta Sottoterra Ma Perché Gerusalemme È Stata Più Volte Distrutta E Le Mura Abbattute La Valle È Ripiena Di Terra E Così La Terra È Alzata E La Chiesa Abbassata E Però È La Chiesa Bassa E Questo È Ben Credibile E Alcuni M Hanno Detto Comunemente Che Da Poi Che La Nostra Diorno Per Essere Stessa È Caduta E Ancora Dicono Che Sanza Dubbio È La Cresce Tuttavia E In Questa Chiesa Di Nostra Donna Solevano Esere Monaci Neri Che Avevano Uno Abbate Assai Appresso Di Questa Chiesa Si È Una Cappella Al Lato E Si È Chiamata Get Scemani I V Fue Nostro Signore Baciato Da Giuda I Fu Suoi Discepoli Quando Andò A Adorare Inanzi Alla Sua Passione E Pregò Dicendo Pater Mi Si Possibile Est Transeata Mecalixiste E Quando Tornò Trovò I Discepoli Addormentati E Nel Sasso Dentro La Cappella Si Vegono Ancora E Segni Del Dito Del Nostro Signore A Che Modo Lui S' Appoggiò Con La Mano Al Sasso Quando E Giudei Lo Vogliono Pigliare E Di La Inverso Amiso Di Al Gittare D'una Pietra E Una Cappella Dove Il Nostro Signore Gittò Gocciole Di Sangue E Assai Presso Alla Tomba Del Re Iosafat Dal Quale La Valle Piglia Il Nome Questo Iosafat Fure Di Questo Paese E Fu Convertito Per Un Romito E Fu Valente Uomo E Fece E Di La A Uno Tratto D'arco Verso Misodi E La Chiesa Ove Santo Jacopo E Zaccheria Profeta Furono Sepolti I Tem Al Di Sotto Di Questa Valle È Il Monte Oliveto Ed È Così Chiamato Perché Ivi Sono Molti Ulivi Questo Monte È Più Alto Che Non È La Città Di Gerusalem E Però Di Questo Monte Si Può Vedere Quasi Tutte Le Contrade Di Gerusalem E Tra Questo Monte E La Città Non È Altro Che La Valle Di Iosafat La Quale Non È Molto Larga Da Questa Montagna Salì Il Nostro Signore In Cielo Il Dì Della Ascensione E Ancora Si Vede La Forma Del Suo Pie Sinistro Nella Pietra Ivi È Una Bella Chiesa Ove So Leva Esere Una Badia Di Monaci Regolari Qui Si Fa Menzione Da Alcuni Luoghi Santi E Di Qui A Ter Sedicio Passi Si È Una Pietra Sopra La Quale Il Nostro Signore Solleva Sedere E Predicare Le Sette Opere Della Misericordia Dicendo Beati Popars Spiritu E Vi Insegnò Agli Apostoli E Il Pater Nostro E Con Lo Proprio Dito Lo Scrisse Nella Pietra E Assai Appresso È Una Chiesa Di Santa Maria Egiziaca E Ivi Giace Ella In Una Tomba E Di La In Verso Oriente A Tre Tratti D'arco E Bet Fage Ove Il Nostro Signore Mandò San Piero E San Jacopo Per Trovare L'asina Il Di Pasqua Fiorita Ivi Salì Sopra L'asina E Sese Del Monte In Verso Oriente È Un Castello Chiamato Bazeinia Ivi Dimorava Simone Lebroso Ivi Dette Albergo Al Nostro Signore Ed I Poi Fu Battezzato Dagli Apostoli E Chiamato Giuliano Il Quale Da Poi Fu Fatto Vescovo E Questo Santo Giuliano È Quello Che È Da Molti Cristiani Chiamato Per Buono Albergo In Questo Luogo Perdonò Il Nostro Signore A Maria Voi Piedi Con Le Proprie Lagrime E Con Li Propri Capelli Gli Rasciugue E Pianse E Suoi Peccati Qui Il Nostro Signore Risucitò La Zero Quatriduano Il Quale Era Fratello Di Maria Maddalena E Di Marta Ivi Dimorava Maria Cleofe Serva Del Nostro Signore 59 Questo Castello È Di Del Monte Oliveto È Il Luogo Ove Pianse Il Nostro Signore Sopra Gerusalemme Dal Lato È Il Luogo Ove Nostra Donna A Parve A Santo Tommaso Dopo La Sua Assunzione E Donogli La Sacra Sua Cintola E Questo Luogo È Assai Presso La Pietra Dove Il Nostro Signore Sedeva Spesso A Predicare E V Proprio Come Si Dice Sarà Il Giudicio Cioè Il Di Del Giudicio Item Appresso Al Monte Oliveto È Il Mare Di Galilea Dove Gli Apostoli Erano Ragunati Quando Maria Maddalena Li Venne Annunziare La Resurressione Del Nostro Signore Nel Miso La Via Tra Il Monte Oliveto E Quel Di Galilea È Una Chiesa Dove Gli Angioli Annunziarono A Nostra Donna La Morte Propia Item Da Bettania A Gerico Si A Quinto Leghe Ieri Cosoleva Esere Una Bella Città E Buona Ma Ella Fu Distrutta Sì Che Ora Non È Altro Che Una Piccola Villetta Gli Oso È Prese Questa Città Per Divino Miracolo E Per Comandamento Dell'Angelo Maladisse Chiunque La Edificherà Di Questa Città Fuzzacheo Quello Che Salse Sopra Seccomoro Per Vedere Il Nostro Signore Però Che Per La Sua Piccolezza E Noel Potea Vedere Fra Le Altre Gente Di Questa Città Scampò Raab La Qual Fu Femmina Comune Solamente Con Quegli Del Suo Lignaggio Perché Ella Si Aveva Nascossi E Scampati Di Morte E Messaggi Di Isreal E Diciò E Ne E Il Merito Come Dice La Scrittura Qui Recipit Profetam In Nomine Mio Merced E Macipiet Così Fece Ella Perché Ella Profetizzò A Questi Messaggi Dicendo Novi Quod Dominus Tradiderit Vobis David Terraman E Così Poi Salaman Figliuolo Di Naysan La Tolse Per Moglie E Fu Valente Femmina E Serva Di Dio Item Chi Vuole Andare Da Bettania Al Fiume Giordano Si Va Per Una Montagna Diserta Ed E Via Presso A Una Giornata Del Monte Dove Digiuno Il Nostro Signore E Fu Tentato E Da Bettania In Verso Oriente Si Va Alla Gran Montagna Dove Il Nostro Signore Digiuno XL Di Sono Sei Leghe E Sopra Questa Montagna Fu Portato Il Nostro Signore E Vi Fu Tentato Dal Nimico Dicendo Di Cutla Paesisti Peins Fiant In Quel Luogo Medesimo Sopra Il Monte Solleva Esere Una Bella Chiesa Ma Fu Abbattuta E Abbandonata E Ora Non È Altro Che Uno Eremitorio Abitato Da Una Maniera Di Cristiani Chiamati Giorgini E Sopra Questa Montagna Abitò Abraham Gran Tempo E Però È Chiamato Il Giardino D'Abraham Tra L Giardino E La Montagna Corre Un Piccolo Fiume D'acqua La Qual Solleva Esere Amara Ma Per La Benedizione D'Eliseo Profeta L'acqua Diventò Dolce E Buona Per Bere A piedi Questa Montagna Verso Il Piano È Una Gran Fontana Che Entra Nel Fiume Giordano Da Questa Montagna Infino A Gerico Andando In Verso Al Fiume Giordano Non Vuè Altro Che Una Lega Item Sopra Il Camino Di Gerico Sedeva Il Ceco Che Gridava Giù Figliuolo Di David Miserere May Il Quale Incontanente Ricevette La Vista Item Di Lungi Da Gerico Due Leghe È Il Fiume Giordano Appresso A Una Lega È Una Chiesa Di Santo Giovanni Battista Dove È Battezo Il Nostro Signore E Via Lato È La Chiesa Di Geremia Profeta Da Gerico Infino Al Mare Morto Sono Tre Leghe Intorno A Questo Mare Morto Cresce Assai Allume Tra Gerico E Questo Mare È La Terra De Gadi Qui Solleva Crescere Il Balsimo Ma Uno Califo Fece Levare Gli Albu Cegli E Portarli In Bambilonia E La Ancora Si Chiamano Le Vite De Engadi E Da Uno Lato Di Questo Mare Discendendo Da Arabia È Il Monte Di Anobitani Dove È Una Cava Chiamata Carva Sopra Questo Monte Balat Figliuolo Dote Per Maledire Il Popolo Di Israel Della Natura Del Mare Morto E Della Lunghezza Sua Questo Mare Morto Divide La Terra Di Giudea Dalla Terra Di Bagata Sessanta A Quella D'Arabia L'acqua Di Questo Mare È Amara Molto E Salsa E La Terra Che È Bagnata Di Questa Mai Più Non Fa Frutto E La Terra Che Vu Ed Intorno Spesso Si Muta Di Colore Questa Acqua Gitta Fuori De Suoi Termini Pesci Di Spalto A Modo D'Uno Cavallo Grosso E Questo È Per Ogni D E In Ogni Parte D'Intorno Da Questo Mare Infino A Gerusalem Sono Cc Grado Grandi Stadi Questo Mare Dura Di Lungi Settimo Corso E L XXX Stadi Ed Largo C Grado L Ed È Chiamato Mare Morto Perché Non Corre Mai Perché È Uno Stagno Che Né Uomo Né Animale Può Morire In Questo Mare E Questo È Stato Più Volte Esprementato Perché Alcuna Volta Vi Sono Stati Vivi Grado E Vi A Giorni Uomini Che Non Hanno Potuto Morire Però Che Questo Mare Non Ritiene Cosa Veruna E Non Si Può Bere Di Questa Acqua E Chi Vi Mettessi Ferro Essi Starebbe A Galla Di Sopra E Chi Vi Mettessi Piume Andere Buono Al Fondo E Tutte Questo Cose Sono Contra Natura E E Allato A Questo Mare Sono Di Molti Alberi Che Portano Pomi Bellissimi E Molto Coloriti E Paiono Maturi Ma Chi Gli Taglia E Rompe Pel Miso Non Vi Trova Altro Che Cenere In Significazione Che Per La Giustizia Di Dio Le Città E Le Terre Ar Sono Di Fuoco Infernale Alcuni Chiamano Questo Mare Il Lago Di Alfacide Alcuni Il Fiume Del Diavolo E Alcuni Il Fiume Puzzolente Perché L'acqua È Brutta E Purosa E Poi In Questo Mare Si Abissorono Per La Giustizia Di Dio Quinto Città Cio Sodoma Gomorra Aldama Selo In E Segar Per Lo Peccato Soddomitico Che Tra Loro Regnava Ma Segar Pe Priegi Di Lotto Fu Lungo Tempo Difesa Quanto Sopra Una Montagna E Quando Il Mare È Tranquillo E L Tempo È Chiaro Si Begono Sotto L'acqua Le Mura Della Città In Questa Città Stette Un Tempo Lotto E Vi Fu Inebriato Dalle Sue Figliuole E Poi Dormì Con Esse E Generò Due Figliuoli No Abbe Aman E La Cagione Perché Le Figliuole Inebri Orono Il Padre Loro Fu A Ciò Che Giacesse Con Loro Però Che Loro Non Vedevano Altro Uomo Che Suo Padre E Credendo Che Tutto Il Mondo Fussi Sobissato Come Erano Quelle Città Come Fu Nel Tempo Del Diluvio Di Noè Vollono Giacere Con Suo Padre Per Ristorare E Moltiplicare Il Mondo Ma Lo Non Sarebbe Giaciuto Colle Figliuole Se Non Fussi Stato Inebriato La Montagna Che Sopra Di Seger Era Chiamata In Quel Tempo I Dam E Poi Fu Chiamata Sir E Poi I Dumea I Tem Dalla Parte Destra Di Questo Mare È La Moglie Di Lo Z Diritta A Modo D'una Pietra Di Sale Perché Ella Si Guardò Adietro Quando Le Dette Città Si Profondorono E Questo Lo Fu Figliuolo D'Aram Fratello D'Abraham Sarra Moglie D'Abraham E Melcala La Moglie Di Neiser Furono Sorelle Del Detto Lo Sarra Aveva L XXX Anni Quando Isaac Fu Generato In Lei E Abraham Aveva Già Auto Un Altro Figliuolo Chiamato Ismael Di 13 Grado Anni In Generato Di Agar Sua Cameriera E Quando Isaac Ave Ottavo Di Abraham Il Fece Circoncidere E Così Ismael Che Aveva 13 Grado Anni E Per Questa Cagione E Giudei Che Discendono Da Abraham Si Fanno Circoncidere L'Ottavo Di E Saracini Che Sono Discesi Da Ismael Si Fanno Circoncidere Nel 13 Grado Anno Item Questo Mar Morto Entra Nel Fiume Giordano Ivi Si Perde Perché Più Oltre Non Corre E Ivi Entra Proprio Di Lungi Una Lega Del Fiume Giordano Dalla Chiesa Di Santo Giovanni Battista Verso Occidente Al Quanto Di Sopra Dove Comunemente Si Bagnono I Cristiani E A Una Lega Di Lungi Dal Fiume Giordano È La Riviera Di Loz La Quale Passò Iacob Venendo Di Mesopotania Del Fiume Giordano E Del Luogo Ove Fusso Pellito Iob E Altri Luoghi Il Fiume Giordano Non è Molto Grande Né Molto Profondo Ma Mena Di Buon Pesci E Viene Dal Monte Libano Da Due Fonti Chiamati Giore Dam E Da Queste Due Fonti Prese Il Nome Del Fiume Giordano E Passa Per Un Lago Che È Chiamato Maran Poi Passa Per Lo Mare Di Tiberia E Passa Sotto Le Montagne Di Gelboe E Ivi Da Luna Costa E L'altra Della Riviera Sono Molte Belle Valle E Durono Giù Infino Al Diserto Di Faraham Queste Montagne E Dividono Il Reame Di Soria Infino Al Paese Di Finice Sopra Di Questi Monti Crescono Cedri Altissimi E Portano Pomi Grossi E Lunghi Ed È La Grossezza Come Il Capo D' Un Uomo Questo Fiume Giordano Divide La Terra Di Galilea Dalla Terra Di Idumea E La Terra Di Bostorum Gran Piano E Bello Chiamato Insaracinesco Meldam Che Vuol Dire In Nostra Lingua Fiera Ovvero Mercato Però Che N Questo Piano Spesse Volte Si Fanno Fiere E Vi Ritorna L'Acqua Grande E Lata Qui Vi In Questo Piano Si È La Tomba Del Pazientissimo Iob In Questo Fiume Giordiano Fu Cristo Battezzato E Vi Fu Dita La Voce Del Padre Dicendo Ic est Filius Meius Dilectus E Lo Spirito Santo Discese Sopra Lui In Forma Di Colomba E Così A Questo Battesimo Fu Tutta La Trinità Pel Miso Di Questo Fiume Pasorono E Figliuoli Di Isri Alad Piedisciutti E I Vimi Sono Pietre Per Lo Miracolo Di Dio Che Aveva Da Parte Ritratte E Sostenute L'acque In Questo Fiume Giordano Si Lavò Naman Di Siria Uomo Molto Ricco Malebroso E Fu Subito Guarito Intorno Al Fiume Giordano Sono Molte Chiese Ove Abitavano Molti Cristiani I Via Presso È La Città Di Ai La Quale Fu Assalita Da Josue Presa I Tem Le Valle Del Fiume Giordano E Di Mambre Sono Molte Belle Item Dalla Montagna Sopradetta Dove Il Nostro Signore Digiunò XL Di A Due Leghe Di Lungi Verso Galilea È Un Bello E Alto Monte Sopra Il Quale Il Nimico Portò Il Nostro Signore La Terza Volta Per Tentarlo E Di Qui Vi Gli Mostrò Tutto Il Piano Del Paese Dicendo Tutto Ciò Che Tu Vedi Ti Darò Se Tutti Inginocchi E Adorerami Item Dal Mare Morto Andando Verso Oriente Fuori De Confini Della Terra Di Promissione È Un Bello Castello E Forte Nel Monte Il Quale È Del Soldano E Chiamasi In Saracinesco Barut Che Vuol Dire In Nostra Lingua Ponte Reale Questo Castello Fece Fare Baldelor In Re Di Francia Il Quale Conquistò Questo Paese E Dentro Vimisse Cristiani Per Guardarlo E Però Fu Chiamato Monte Reale E Di Sotto A Questo Castello È Una Villa Chiamata Sobecca I Vid Intorno Dimorono Molti Cristiani Sotto Trebuto E Da Qui Infino A Nazer Razz In Gerusalem Sono Tre Giornate E Vassi Per La Provincia Di Galilea Per Ramata Per Sofonia E Per Lo Alto Monte Di Efraim Dove Elena E Anna Sic Madre Di Samuel Profeta Di Moravono Qui Nacque Questo Profeta E Fu Soppellito Al Monte Di Giorgia Come Di Sopradissi Da Poi Si Va Asillo Dove Da Ilia Profeta Fu Custodita L'arca Di Dio Insieme Con Le Sante Reliquie I Vi Faceva Sacrificio Il Populo Di Ebron Al Nostro Signore I V Gli Rendero Noi Loro Doni I Vi Parlò Il Dio A Samuel E Rivelogli La Mutazione Dell'ordine Del Sacrificio Del Sacerdozio E Del Misterio Del Sacramento Assai Appresso Alla Sinistra E Gabbaum E Dal E Poi Vassi Persichem Altrimenti Chiamata Sicar Nella Provincia De Samaritani Ivi è una Bella Valletta E Fruttuosa E Ivi è una Molto Bella E Buona Città Chiamata Neopoli E Di Qua Gerusalemme Una Giornata E Una Fonte Dove Parlò Giù Alla San Maritana E Ivi Solleva Esere Una Chiesa Ma È Stata Abbandonata E Abbattuta E Allato A Questa Fonte Fece Fare Robos Due Vasi D'Oro E Se Gli Faceva Adoperare E A Un Pose Nome Adam E All'altro Bezzal It Ha Una Lega Dalla Città Di Siccare La Città Di Luzza In Questa Città Di Morò Abramo Un Gran Tempo Siccare X Leghe Di Lungi Da Gerusalemme Ed Chiamata Neopoli 61 Che Vuol Dire Città Novella E Qui Vi È La Sepoltura Di Iosef Figliuolo Di Iacob Il Quale Governò Egitto E Gli Giudei Vanno In Pellegrinaggio In Quello Luogo Divotamente Perché È Portorono D'Egitto L'ossa Sua Equibile Sopelirono In Questa Città Fureina La Figliuola Di Iacob Chiamata Dina Per Cui E Dua Fratelli Uccisono Molte Persone E Assai Male Feciò Nella Città Ivi Da Lato È Il Monte Di Garisim Ove E Samaritani Adoravano I Tem In Su Questo Monte Vole Abraham Sacrificare Il Suo Figliuolo Isac Ivi Dal Lato È La Valle Di Dotain E Ivi È La Citerna Dove Fuggitato Iosef Da Fratelli Inanzi Che Lo Vende Sono E Questo È Di Lungi Due Leghe Da Sicar Di Lassi Va San Maria Che Ora Si Chiama Sabasta E Questa È La Principal Città Del Dodicesimo Tribù Di Isreal Ma La Città Non È Ora Si Grande Come Solleva Ivi Fu Sepolto San Giovanni Battista Fra Due Profeti Eliseo E Abdam Ma Egli Fu Dicapitato Nel Castello Di Maccia Rimap Presso Il Mare Morto E Poi Fu Da Suoi Discepoli Trasportato E Sotterrato In San Maria Come Giuliano Appostata Fece Ardere Il Corpo Di Santo Giovanni E Gittare La Cenere Al Vento Questo Giuliano Appostata Fece Ardere L'ossa Sua E Gittare La Cenere Al Vento Ma Rimase Intero Il Dito Col Quale Mostrò Il Nostro Signore Giù Cristo Dicendo E Chia Newsday Però Che Mai Non Potè Ardere E Questo Dito Fece Santa Te Chia Vergine Mettere In Questi Monti Ove Ora Se Come Teodosio Imperatore Trovò Il Capo Di San Giovanni Battista In Questa Città Medesima Di Sabasta Solevano Essere Molto Chiese Ma Furono Abbattute Ivi Era Il Capo Di Santo Giovanni In Uno Muro Serrato Ma Teodosio Imperatore Il Fece Cavare Fuori E Trovò Lo Avilupato In Un Drappo Tutto Insanguinato E Così Il Fece Portare A Constantinopoli Ehi vi è ancora La parte di dietro della testa e quella dinanzi è ancora nella chiesa 62 di Santo Salvestro, ove sono monaci del cordone, e ancora questa parte di testa è tutta abruciata 63 e quasi meisa arsa, perché lo imperatore Giuliano sopradetto per la sua cattiva volontà la fece ardere insieme con l'altre ossa, e così apare. Questo è provato per papi e per imperadori. E la mascella di sotto è una parte delle genge e dell'ossa e il piattello ove fu messo il capo, quando gli fu tagliato, sono a Genova, e le genovesi ne fanno gran festa, e simile festa fanno e saracini di lui. Alcuni dicono, che l capo di Santo Giovanni è in Ammiani in Fiandra, e altri dicono che questo è il capo di Santo Giovanni Vescovo. Io non so, Dio il sa, ma in qualunque terra si fa onore al buon Santo Giovanni, è ben fatto. Dalla città di Sabasta in fino a Gerusalemme sono dodicesimo. Leghe D'una fonte che si muta quattro volte di colore l'anno. Nelle montagne di questo paese è una fonte che iiii Volte l'anno si muta di colore, alcuna volta è verde, e alcuna volta è rossa, una chiara, una altra torbida, e chiamasi la fonte di Iacom. Le gente di questo paese si chiamano Sanmaritani, e furono dagli apostoli convertiti e battezzati, ma egli non hanno mantenuto la loro dottrina, e mantengono legge per loro discordante da cristiani, saracini e giudei e pagani. Egliono credono bene in uno solo Dio, e dicono che non è altro che uno solo Dio, il quale ogni cosa creò e ogni uomo giudicherà, e tengono alla Bibbia quanto alla lettera, e li via libri di mui secol salterio, come fanno i giudei, e dicono, che è sono diritti figliuoli di Dio, E più d'altra gente amono Dio, e che è sono egli nuovi propri eredi, a chi Dio promisse la eredità. Questi hanno diverso abito dall'altra gente. Per differenziarsi dagli altri, egli ono si inviluppano le teste con un lenzuolo rosso, e li saracini si inviluppano lo teste con uno lenzuolo bianco, e li cristiani, che abitano in quel paese, si inviluppano le teste con uno panno bianco, e li giudei con uno panno giallo. In questo paese dimorano molti giudei che pagono trebuto, come fanno i cristiani, e se volessi sapere le lettere 64 dei giudei, che sono in quel paese e altrove, sono così fatte con i loro nomi, come vedete qui di sotto. Delle città che sono nella provincia di Galilea, e dove nascerà Anticristo, e dove sarà nutrito, e dove regnerà. Da questo paese dei San Maritani, del quale vu ho parlato, si va al piano di Galilea, lasciando i monti da una parte. Ed è Galilea una delle terre delle province di Promissione, e in questa provincia sono queste città, cioè, Naim, Caffarnaum, Beczaida e Corosaim. Da Beczaida fu San Piero e Santo Andrea, a quattro leghe da Corosaim è la città di Siidar, di cui il Salterio parla, Abitavicum abitantibus siidar. Anticristo nascerà, come dice il profeta, de Babylonia coluberexied, quito tam mundum devorabit. Questo Anticristo sarà nutrito in Beczaida e regnerà in Schaffarnum, e però dice la scrittura, Vittibi, Corosaim. Vittibi, Bethsaida. Vittibi, Caffarnaum. E tutte quelle città sono di Galilea, e sono ii grado. Leghe da Nazeraz. Di questa città si fu Simone Cananeo e la femmina Canania, della qual parla il Vangelio. Ivi fece il nostro signore il primo miracolo alla cena dello architriclino, quando mutò l'acqua in vino. Nei confini di Galilea, appresso i monti, fu presa l'arca di Dio, e dall'altra parte è il monte Ender Rehrman, e ladintorno va un fiume del torrente Zion, altrimenti chiamato il torrente Radamain. Ivi da lato, Barat, figliuolo da Bimalesh, insieme con il figliuolo di Elbora Profetessa, vinse l'oste di Idumer, quando il recifaro fu morto con Jebel moglie di Ebaretat, oltre il fiume Giordano, per forza della ispada uccise Zeber e Salamana. Eavulegedanein è la città di Egeraol, che altrimenti è chiamata Zaraim, della quale città fu Gezebuella, malvagia reina, la qual per forza tolse la vigna di Nabot. Appresso a questa città è il campo di Magredi, nel quale il re Oria fu ucciso dal re di Egitto, e di poi fu portato e soppellito nel monte Zion. A una lega da Zezioel sono le montagne di Gelboe, ove sole Gionatasi, che fu così bello, morirono. Per quella cagione David gli mala disse nel salterio, dicendo, Mantis Gelboe, Necros, Necpluvia. A una lega dal monte Gelboe, verso oriente, è la città di Sacofe, la quale è chiamata Bethsham, sopra le mura di questa città fu appiccata la testa del re Sol. Del luogo dove nacque nostra donna, e di quanto tempo era quando fu annunziata dall'angelo, e quanto tempo visse dopo la passione. Da poi si va a Nazerrat per la montagna dal lato al piano di Gelboe. Nazerrat soleva essere gran città e bella, ma ora è una cattiva villa di case sparte, in quanto ella non è murata, e siede in una piccola valle con monti intorno. Ivi nacque nostra donna, e però portò Cristo il pronome di questa villa. E Iosef tolse per moglie nostra donna, esendo d'anni tredicio, Ivi salutò l'alangelo Gabriello, dicendo, Ave, Maria gratia plena et ci qui vi soleva essere una chiesa, ma fu distrutta, nella quale era uno grande altare. E Ivi al lato è uno pilastro di quella chiesa, e qui vi è fatto una piccola abitazione per ricevere l'offerte dei pellegrini, essi la guardano molto bene e saracini per l'utile che ne tragono. Questi saracini qua sono più cattivi e crudeli che altrove, e hanno guasto tutte le chiese. Ivi è il fonte di Gabriele, dove si soleva bagnare il nostro Signore quando era piccolino. Di questa fonte lui portò i spesse volte l'acqua a sua madre, e in questa fonte lavò assai volte la nostra donna e panni del suo figliolo Giucristo, e da qui infino in Gerusalemme sono tre giornate a Nazareth, Sic, dove fu nutrito il nostro Signore. Nazareth si è a dire fiore di giardino, e per buona cagione è chiamata fiore, però che in lui fu nutrito il fiore e l frutto di vita, cioè Giucristo. Da Nazareth, a due leghe, è la città di Sepor, sopra la via che va di Naser Razzacon, e da meisa lega di là da Naser Razzelo Salto del nostro Signore, perché avendolo e Giudei menatolo sopra uno alto monte, e volendolo gittare per ucciderlo, Iesù Cristo passò pel miso loro e salì fuori, e montò sopra una alta montagna, nella quale al presente si begono li passi, e per questo, quegli che hanno paura dei nemici o di altra gente di male a Feir, di Kino, Iesù Sautem Transiens, per Medium. Il loro mi va, a memoria che Giucristo passò per il miso e Giudei crudeli e scampò sanamente da loro, così sicuramente possono passare e scampare delle mani degli inimici loro. Dopo questo dicano questi due versi del Saltero, questi versi si dicono tre volte, e da poi si passa sicuramente, e sappiate che nostra donna partorì nel quinto decimo anno, e conversò col suo figliuolo Benedetto Tren tredici. Anni e tre mesi, e, dopo la passione del nostro Signore, visse tre tredicio grado anni. Del monte Tabor, e come il giudicio sarà il dì di Pasqua. I tem, da Naser Razz si va al monte Tabor e non vuè altro che i leghe, il quale è bel monte e alto, ove solleva esere assai chiese, ma sono distrutte, e ancora vuè un luogo che si chiama la Scuola di Dio, ove solleva ammaestrare e suoi discepoli, e apriva loro e segreti di Dio. A piede il monte Tabor, Melchisedesh, che fuori di Salem, chiamata poi Jerusalem, al declinare del monte, il scontrò Abraham, il quale ritornava dalla battaglia, nella quale aveva morto il re Amalesh. I tem, in questa montagna si trasfigurò il nostro Signore dinanzi a San Piero e Santo Jacopo e Santo Giovanni, cui vidono spiritualmente Moise e Elia profeta, e imperò disse Santo Piero a Cristo, Bonum esteno e siichese, si vis, facciamo siichtria tabernacula. Si viudirono la voce del Padre, dicendo, Iich est filius meius dilectus, in quomi i bene complacui, e Iesù Cristo li comandò che non dice sono ad alcuno questa visione, infino che non fossi risuscitato da morte a vita. In questo monte e in questo luogo medesimo il dì del giudicio i angeli suoneranno i trombe, e risuciteranno tutti e morti, che sono morti da poi che fu creato il mondo, e tutti verranno in corpo e in anima dinanzi al cospetto di Dio al giudicio nella vale di Iosafat, e sarà questo giudicio il dì di Pasqua, in quell'ora medesima che risuscitò il nostro Signore, e sarà cominciato questo giudicio nell'ora che l nostro Signore discese all'inferno per rispogliarlo, però che in questa ora spoglierà il mondo e rimunererà gl amici suoi in grazia, e l'inimici appena perpetua gli condannerà. E in quel tempo harà ciascuno il merito delle sue opere, o bene o male, se la gran misericordia di Dio non anticipa la sua giustizia. Item, ha una lega dal monte Tabor è il monte di Iman, e Ivi fu la città di Naim, inanzi alla porta della quale il nostro Signore è risuscitò e il figliuolo della vedova. Item, ha tre leghe da Nazareth è il castello di Saffia, dove furono i figliuoli di Zebedeo e i figliuoli d'Alfeo, e, a vo leghe da Nazareth, è il monte di Caim, di sotto il quale è una fonte, e qui vi allato Lamech, padre di Noè, ucciso Caim con una saetta, perché Caim andava Pemonti a modo d'una bestia, e vivette in quella forma più di cicigrado. Anni, in sino al tempo di Noè. Da Saffia si va al mare di Galilea e alla città di Tiberia, che siede sopra questo mare, e quantunque si chiami mare, non di meno non è mare né braccio di mare, anzi è uno lago d'acqua dolce, il quale è lungo ci grado. Stadi è largo quarantesimo, e son vi dentro di buon pesci, e pel miso vi corre il fiume Giordano. La città non è troppo grande, ma assai magnificenzie vi sono, e laddove si parte il fiume Giordano, all'uscire del mare di Galilea, è un ponte grande, per lo quale si passa dalla terra di Promissione nella terra del Re Balsam e nella terra di Gerusalem, le quale sono tutte d'intorno al fiume Giordano, in fino al cominciamento del mare di Tiberia, e di là si può andare in Damasco in tre giorni per la regione Traconidia, la quale regione dura dal monte Iman infino al mare di Galilea o al mare di Genezareth, che è tutto un mare. Questo è il lago sopradetto, ma è muta il nome per le cittade che vi sono sopra, e sopra a questo mare andò il nostro Signore a pie asciutti, e vi rilevò San Piero, quando era già miso un annegato, quando disse, modi che figli dei, quale dubitasti. E dopo la sua resurrezione apparve un'altra volta a suoi discepoli sopra questo mare, e chiamandogli che pesca sono, empierono le rete di gran pesci. E in questo mare navigò i su molte volte, e qui vi chiamò San Piero e Santo Andrea, San Jacopo e San Giovanni, figliuoli di Zebedeo. Nella città di Tiberia si è la tavola sopra la quale il nostro Signore mangiò con suoi discepoli dopo la resurrezione, e il qual non conò buono, se non al rompere del pane, come dice il Vangelo, et conioverunti iuem infraczione panis. E appresso alla città di Tiberia è il monte, ove il nostro Signore con via pani e due pesci saziò via mila persone. In questa città per ira fu gittato un tizzone ardente dietro a giù Cristo, il capo del tizzone percosse in terra, e subito rinverdì e crebe in un grande albero, e al presente cresce, e la scorza è ancora abbruciata. Dove nacque Santa Anna Item, al capo di questo monte, in verso settentrione, è uno forte castello chiamato Saffor, et è posto appresso di Schaffarnau nella terra di Promissione, non è castello si forte, e di sotto è una buona villa, chiamata Saffor. In questo castello nacque Santa Anna, madre di nostra donna, e di sotto fu la casa di Centurione, e questo luogo fu chiamato Galilea dalle gente che furono date alle tribù di Zabulon e Neftali. E ritornando da questo castello, a XXX, Miglia, è la città di Nan, che altrimenti è chiamata Selmas. Di questa fu Cesaro figliuolo d'Apollo, il quale sedeva appresso del monte di Libano, dove comincia il fiume Giordano. Ivi comincia la terra di Promissione, ed ora infino a Bersabè di lungo andando, verso Bisa, infino a Misodi, e tiene per largo C grado. LXXX leghe, e da Jerusalema al Giaffo sono LX. Leghe Lombarde, che sono piccole, queste non sono leghe di Guascogna, né di Provenza, né della Magna, le quale sono grande. E sappiate che la terra di Promissione è in Siria, perché il reame di Siria dura d'Arabia in fino a Colizia, cioè la Grande Armenia, e questo è da mezzo di verso Bisa, e da Oriente in verso Occidente, dal Gran Diserto d'Arabia in sino al Mare d'Occidente. E in questo reame di Siria sono più province, come è Palestina, Gaza, Galilea e Giudea, e senza molte altre di questo paese. dell'usanza di questo paese, e di diverse maniere di cristiani e di LOR costumi, e come e fanno la loro confessione, e delle autorità, le quale allegono per loro opinione. Egli hanno una usanza, che quando una città o un castello ha intorno l'assedio e non possono mandare fuori e messaggi, e gli leggono le lettere al collo a certi loro usati colombi talmente amaestrati, e quali portano e riportano i loro messaggi, perché questi colombi sono nutriti che vanno dall'un luogo all'altro, e quali luoghi si usano comunemente. E sappiate, che tra questi saracini, in ogni parte dimorono molti cristiani di molte maniere e di molti nomi, tutti battezzati, e hanno diverse lingue e diversi costumi, ma tutti credono in Dio Padre e Figliuolo e Spirito Santo, e tuttavia mancano in alcuno articolo della fede. Alcuni si chiamano Giacobini, perché Santo Jacopo si convertì e Santo Giovanni Battista gli battezzò. Questi dicono che solo a Dio si debbe confessare e peccati, e non e agluomini, perché si debbe chiamare in colpa inverso colui che si offende, e dicono, che né Dio, né i profeti non ordinorono mai che né uno si confessassi da altri che da Dio, siccome disse Moise nella Bibbia, e per questo disse David nel Salterio, confite bor tibi, domini, in toto corde meo, e altrove, delictum miam cognitum tibi feci, qui ad aus mei usestuet confite bor tibi, però che sanno tutta la Bibbia e il Salterio, ma non allegono le autorità latine, anzi nel loro linguaggio assai convenientemente, sicché dicono, che David e gli altri profeti si concordiano con i nostri dottori e con alcune delle loro opinione, e massime con Santo Agostino, dove dice, qui scelera sua cogitat et com versus fuerit, veniam in veniat, con Gregorio, domini ipotius mentem quam verba inspicis respicis, et com santo Ilario, longorum temporum crimina inictu oculi per eunt si cordis nata fuerit com punctio. E però dicono, che solo a Dio si debbono confessare e sua peccati, e a lui promettere demendare. Però, quando si vogliono confessare, s'accendono fuoco a lato a loro e si vigettono dentro incenso e altre spezie odorifere, e nel fumo si confessono a Dio, e dimandono misericordia. Ed è vero, che questo confessare è naturale e primitivo, ma i santi padri e papi che sono venuti da poi, hanno ordinato di fare la confessione all'uomo, e per buona cagione, perché egli hanno riguardato che niuna malizia può essere sanata, e non si può dare buona medicina, se prima non si sa la qualitade e non si conosce la natura del male, e per lo simile non si può dare buona penitenzia, se prima non si sa la qualitade del peccato, però che i peccati non sono e quali nei luoghi e nei tempi, e però si conviene sapere la qualità dei peccati, e, secondo quegli, dare la debita penitenzia. I tem, vi sono altri cristiani chiamati soriani, e tengono il miso della fede tra noi e greci, e glino portano barbe a modo che fanno i greci, e fanno sacrificio di pane lievito, e nel loro parlare usano lettere saracinesche, ma nel misterio della chiesa usano lettere greche, e fanno la loro confessione a modo di jacopini di sopradetti. Altri cristiani qui vi sono, chiamati giorgiani, e quali convertì santo Giorgio, e lui onorono più che altro santo di paradiso, e sempre lo chiamano in ogni suo aiuto. Questi, che vennono del reame di Giorgia, portano chieriche rase tonde, cioè i preti, e i laici quadrata la portano, e questi tengono la lingua greca 65. E altri vi sono chiamati cristiani dalla cintura. Altri sono ariani, altri nubiani, altri indiani, che sono della terra del prete Giovanni, e tutti questi hanno alcuno articolo della fede nostra e negli altri variono, e perché troppo sarebbe lungo il parlare di tutti, però di ciò farò fine. Del sito di Damasco, e da cui fu edificato, e della bellezza e abbondanzia sua, e come santo Paolo, il quale leggeva fisica in Damasco, fu convertito. Poi che io vu ho divisa tu alcuna parte delle genti che dimorano in fra quegli termini, io voglio ritornare al mio cammino. Per ritornare di qua dunque, chi vuole ritornare dalla terra di Galilea, della quale io ho parlato, è a avvenire per Damasco, che è molta bella città e molto nobile e piena d'ogni mercatanzia, è tre giornate di lungi dal mare, e via giornate di lungi da Gerusalem. Tutto le loro mercatanzie portano sopra cammelli, cavagli, muli e dromedari e altre bestie in fino alla città, e le mercatanzie vengono per mare, cioè di India, di Persia, Caldea e della grande Armenia e da altre nazioni 66. Questa città edificò Eliseo Damasco, famiglio e spenditure d'Abraham, prima che fosse nato Isaac, perché essi crede a rimanere erede d'Abraham, e chiamò la città del suo proprio nome, Damasco. In quella piazza dove fu edificato Damasco, Caino uccise il suo fratello Eibal, e al lato di Damasco è il Monte Seir. In questa città e di fuori sono assai fontane e molti bigiardini e assai diversi frutti, niente una città si potrebbe comparare con questa di begli giardini e di begli palagi. La città è grande, e ben murata a doppie mura, e è ben pulita. Ivi sono molti fisici, e Santo Paolo, prima che fossi convertito, Ivi era fisico per mantenere il corpo in sanità de', ma da poi la conversione, diventò fisico dell'anime, o Santo Luca Evangelista fu suo discepolo, per imparare fisica, e molti altri, e però che San Paolo teneva scuola di fisica, e Ivi appresso Damasco fu convertito. E da poi 3D alla sua conversione, nella città stette senza vedere, né bere, né mangiare, e in questi 3D fu aperto il cielo, ove è vedeva di molti secreti del nostro Signore. Assai appresso a Damasco è un castello, chiamato Arcis. Qui vi descrive il sito della chiesa di Nostra Donna di Sardemaco e della immagine sua, la quale è Ivi dipinta con diversi colori, e poi descrive la valle di Beliar, la città di Tripoli e la città di Baruti, ove Santo Giorgio uccise il dragone. Di Damasco si viene alla chiesa della Vergine Maria di Sardemac, che è voleghe di lungi da Damasco, e siede sopra a un sasso, e qui vi è un bello luogo similiante a un castello, e vi è assai belle chiese. Qui vi dimorono monaci cristiani, e di sotto alla chiesa è una bella volta, ove dimorono cristiani, ed è vi molto buono vino, e nella chiesa di rieto al grande altare nel muro, è una bella tavola di legno, dove è la immagine di Nostra Donna, e fu già dipinta di colori, e quali poi si convertirono in carne per divin miracolo, e la detta tavola sempre è unta a modo d'olio d'uliva, e di sotto è un vaso bene acconcio per ricorre l'olio che gocciola, o di questo olio è donato a pellegrini che si lavano, però che questo olio viene per divino miracolo, e questo olio si libera il cristiano da molte malattie, e si dicono, che chi guarda questo olio nettamente, in fine di sette anni si si converte in carne e in sangue, da Sardemax si va per la valle di Beliar, la quale è molta bella e fruttifera, e giace questa valle fra montagne, e sono quivi di belle riviere e di biprati e di grandi passechar per vestiame, e vassi per le montagne e di Libano, che durano dalla grande Armenia verso Bisa, infino a Adam, che è in verso Misodi, al cominciamento della terra di promissione, siccome è detto di sopra. Queste montagne sono fruttifere, qui vi sono di belle fontane, cedri e cipressi, e molti altri alberi, qui vi sono di molte belle ville e ben popolate. Dal capo di queste montagne, fra la città di Arca e la città di Bafian, è una riviera chiamata Sabbatecor, però che il sabato corre fieramente e gl altri giorni di poco o niente. E tra queste montagne è un'altra riviera, la quale di notte si ghiaccia fortemente, e ld non è punto agghiacciata. E, ritornando per queste montagne, si va a una montagna grande e alta, chiamata la Gran Montagna, dove è una gran città chiamata Tripoli. In questa città dimorono molti cristiani buoni, secondo la nostra legge. Di qui vi si va a Barut, dove San Giorgio uccise il dragone, qui vi è buona villa e buon castello forte, come è sopradetto, ed è tre giornate di qua da Sardemacabarut, e sedicesimo. Leghe dalla città di Sidona in mare. Chi vuole rivenire per diverso Cipro, ovvero vien per terra infino al porto di Soran, ovvero di Tiro, e di là si viene in Cipro in poco tempo, perché gli è sotto, o veramente si va dal porto di Tiro più dritto senza andare in Cipro, perché si torce ad arrivare ad alcuni porti di Grecia, e dopo si viene a quelle parte che altre volte vuoi scritte. E poi che io vuoi dette e mostrate le vie per le quali si va primamente, per lo più lungo cammino, a Babilonia e al monte Sinai e altri luoghi, e quali vuoi di sopradetto, e per quel cammino si ritorna per le terre di promissione, ora vi vuoi descrivere la diritta via per andare direttamente alla santa città di Gerusalemme. Però che molti vanno a Gerusalemme, che non hanno intenzione di passare più oltre, o perché non hanno sufficiente compagnia, o perché non possono sostenere le fatiche, o perché hanno dubbio di passare e diserti, o perché hanno fretta di tornare alle moglie o a figliuoli, o per altre ragione volcagione, qui brevemente dirò dove si può andare senza mettere troppo tempo, e senza lungo indugio, siccome altre volte vuo detto, della via più breve per andare alla terra santa per mare, e delle cose che si trovano per lo cammino. Chi dalle parti occidentali si va per Francia, e per Borgogna, e per Lombardia, al porto di Vinegia, o di Genova, o ad altro porto di che i confini, vassi per mare all'isola di Jeff, chiede Genovesi, e poi s'arriva in Grecia al porto di Mirot, o di Valona, o di Duraso a uno degli altri porti, poi si va per terra per dirizzarsi, e assai presto si torna al mare, e vassi diritto in Cipri senza entrare nell'isola di Rodi, anzi si lascia da lato, chi vuole, e arrivassi al porto di Famagosta, il quale è principale porto di Cipri, ovvero al porto di Limisa, e poi s'entra in mare, e vassi, passando il porto di Tiro, e, senza montare altrove, si passa per mare, costeggiando tuttavia da questa banda in fino alla città del Jaffo, e questo si è il più propinco porto a Gerusalem. Da questo a Gerusalem non è altro che una giornata emiso, che sono leghe sedicesimo, sì che, andando da Jaffo, si va per terra alla città di Rama, la quale è assai presso al Jaffo, ed è bella città e dilettevole. E di fuori di Rama, verso Misodi, è una chiesa di nostra donna, dove il nostro Signore si mostrò in tre ombre, che significano la Trinità. Ivi appresso è un'altra città, chiamata Diospoli, e soleva esere chiamata Sibda, ed è bene abitata, e vi è una chiesa di San Giorgio, dove fu lapidato. Di là si va al castello de Maus, e di poi al monte Sora, dove giace Samuel profeta, e di qui si va alla città di Gerusalem, e appresso il camino, si è ramata e il monte Modon, onde fu matati a spadre di Maccabeo, e i vi sono le loro tombe. Item, al lato aramata è la villa di Tehuk, della qual fu Amos profeta, i vigiaciono e santi pellegrini, che muoiono in Gerusalem, altre volte avendone parlato, al presente non vi dirò più. Io voglio ancora ritornare a un'altra via, per la quale si va la major parte per terra. Di molte altre diverse vie per andare al detto luogo santo per terra, e dei luoghi e quali si trovano per la via, e dei costumi di quelle gente e di molte altre cose. Per quelli che non possono sostenere il movimento del mare, che, quantunque si patisca più fatica e più pena, non di meno gli piace andare per terra quanto più possono. Come altra volta vuo detto si va dal cum porto di Lombardia, e passasi in Grecia, e poi in Gostantinopoli, e passasi pel braccio di San Giorgio, e vassi a Ruffinello, dove è un forte castello, e poi si va per Cappadocia, che è un gran paese, dove sono gran monti, e vassi per Turchia al porto di Kinamont, e alla città di Nica, che è appresso di questa città leghe settimo. E Turchi Latol sono all'OM per adore dei romani, ed è molta forte città di mura e di torre, dall'altro lato è un lago grande e largo e lì è una riviera chiamata Lelai. Di là si va per le Alpe di Neromonte, e per la valle di Malabruno, e per lo stretto delle montagne, e per la villa di Dormanolc, e per le ville che sono sopra il Rodai e sopra Francona, che sono molte buone riviere. Da poi si va ad Antiochia, i vi intorno sono molti belli monti e boschi e grande abbondanzia di bestie salvatiche da caccia. E puosi andare per uno altro camino, per gli piani di Romania. Su per le coste è una bella torre, chiamata Florenza, e di sopra, fra le montagne, è la città di Torsont, e la città di Nongimac, e a Sera e Meremistra. E quando sono passate le montagne, si va per la città di Maroste, e per Artesa, dove è un gran ponte sopra la riviera di Ferma, la quale riviera si chiama Faifar, ed è Gran Riviera, e porta Naviglio, e corre fortemente, e viene dalle fonte e dalle montagne verso la città di Damasco. Ivi è un'altra riviera, che viene dalle montagne di Libano, chiamata Albana, che corre appresso Damasco. Al passar di questa riviera, Santo e Ostachio perse due figliuoli, avendo ancora perso la moglie. Questa riviera passa per gli piani di Arcadia, e va infino al Mar Rosso. E poi si va alla città di Fermina, dove sono molti bagni caldi, e poi si va alla città di Fern. Tra Fermina e Fern sono di belli boschi, e poi si va in Antiochia che vu è presso a 20. Leghe Antiochia è bella città e ben fornita di mura e di torre ed è molta grande, e soleva essere lunga due leghe e larga una lega e miso. Per questa città corre la detta riviera di Farfar, e soleva avere intorno alle mura Cigrado. E l torre, e per ciascuno pilastro del ponte era una torre. Questa è la più nobile città del reame di Soria, e a ottavo. Leghe è il porto di Santo Simone. Qui vi entra Farfar in mare. Da Antiochia si va alla città di Schiavonia e poi a Gibel, e poi a Cortexa. I viallato è la terra della Cammilla, dove è uno forte castello chiamato Mahomec. E da Cortexa si va a Tripoli, e al passare per lo stretto De Monti è la città di Gibeloc, e poi a Baruti a sopra il mare, e poi si va alla città d'Acri. E i vi sono due vie per andare a Gerusalem, la sinistra va a Damasco e per lo fiume Giordano, e la destra va per la marina e per la terra di Flagania. E da lato sono le montagne in sino alla città di Caifas, dove Caifas fu signore. Alconi la chiamano Castello Pellegrino. E dai vi infino a Gerusalem si sono ben tre giornate, e si si va per Cesare a Filipense, per Giaffo, per Rama, per lo castello di Emmaus, e poi a Gerusalem. Io vi ho dimostrato alcune vie per terra e per mare, per le quali si può andare alle terre di promissione, e quantunque altre vie vi siano, secondo che gl uomini si muovono, non di meno queste e altre tornano a un fine. Ancora lì è un'altra via, per la quale si può andare per terra senza mare in sino a Gerusalem, e perché questa è troppo faticosa via, pochi vanno per essa, ma vassi per Alamania, e per Bretania fino in Prascia, e poi per Tartaria infino in Gerusalem. Questa Tartaria risponde al gran cane, del quale io parlerò poi, però che in fin qui dura la sua signoria, e tutti i principi di questa Tartaria li rendono trebuto. Questa è cattiva terra e arenosa e poco fruttifera, perché poche biade e poco vino vi nasce, né frutta, né legname, ma i vie è multitudine di bestiame, e però non mangiono altro che carne senza pane e beono la broda e latte di bestie, e mangiono cani, lupi, gate, topi e ogni bestia, e in luogo di legne ardono sterco di cavallo ed altre bestie seccato al sole, e il loro principe e altre genti non mangiono se non è una volta il di e poco mangiono. Questa è brutta gente e immonda e di mala natura. In questo paese la state casca spesso tempesta e fulgori e saette e uccidono molte gente, e in un subito è gran caldo in questo paese, e pel simile in un subito è gran freddo, e questa mutazione è da ogni tempo, e pertanto questo si è un brutto paese, povero e cattivo, e i principi loro che governano il paese, e il qual loro chiamano batri, stanno alla città di Ordia. E veramente nieno valente uomo dovrebbe stare, né abitare in questo paese, impero che l paese non è pur degno che vu entrino cani. Questo paese sarebbe buono per seminare ginestre, spine e roghi, però che ad altra cosa non vale, ma pure in alcuni luoghi è buona terra, ma è di rado. Io non sono però stato per quella via, ma sono stato per altre terre che vi confinano in quella costa. Io non andai mai per quella a Jerusalem, per la qualcosa io no ve la potrei ben divisare. Ma se questa materia piace ad alcuno valente uomo, il quale sia stato per questa via, piacendo a lui vi può questo aggiungere, a ciò che quelli che vogliono fare questa via per queste parte, egli non possino sapere qual cammino è voglino tenere, però che malagevolmente si può tenere per questa via, salvo per gran freddura, e questo è per l'acqua e cattive e mari che sono in quelle parti, che non si possono passare, se non quando sono fortemente ghiacciate, però che, se non fossino ghiacciate, non è uomo né cavallo che vi potessi andare, e dura tre giornate questa mala via, passando per Prascia infino alla terra abitabile dei Saracini. E li cristiani che vanno a combattere con costoro, conviensi portare dietro vittovaglie, però che non ne troverebbero, e conviene che tutte si facino caricare per lo ghiaccio con carri senza ruote, che loro chiamano Solins, e tanto vi dimorono, quanto basta loro le vittovaglie che glino portano con loro, però che la non non se ne trova per moneta. E quando gli esploratori di quelle gente vengono venire e cristiani contra loro, e fugono alle ville e fortezze, gridando, era, era, e subito sarmono essi si ragunono insieme. E sappiate, che in quelle parte è maggiore ghiaccio che di qua, e però a ciascuno stufe, nelle quale fanno i fatti loro, perché sono nelle parte settentrionale presso Bissa, ove fanno grandissimi freddi, però che le sole si è di lungi molto da quel paese a dietro, sotto lo polo artico. Ivi è tanto freddo che non si può abitare, e o l'opposito, a mandiritta, verso Misodi è tanto caldo, che il paese è inabitabile, però che quando il sole è a Misodi, gitta e sparge i suoi razzi direttamente sopra di quelle parte. Della legge di Mahometto e della opinione dei Saracini, e delle opinioni che hanno dopo la morte loro, e dove l'anima loro vada, e in qual luogo, e di quel che tengono del paradiso e dell'inferno, e della fede che hanno. E perché io ho parlato dei Saracini e dei loro paesi, se voi volete sapere alcuna parte della loro legge, io ve la dirò secondo che si trova nel loro Alcorano. Alcuni chiamano questo libro Mesaf e alcuni chiamano Armen, secondo le lingue del paese, e il quale libro gli dette Mahometto, nel quale io spesse volte leggendo ho veduto e trovato scritto, che è buoni anderanno in paradiso e i cattivi all'inferno. E questo credono e Saracini, e che gli domanda, che credono del paradiso, e gli ono rispondono, che l'eparadiso è un luogo delicato, nel quale luogo si trova ad ogni tempo di ciascuna maniera di frutti, e de fiumi di latte e di mele e di vino sempre corrente, ed acque dolce, e che qui vi son case belle e nobile, secondo il merito di ciascuno, adornate di pietre preziose, d'oro e d'ariento, e ciascuno harà damigelle e sempre userà coloro, e sempre le troverà più belle. I tem, lor credono e odono volentieri parlare della Vergine Maria e della incarnazione di Dio, e dicono bene che Maria fu annunziata dall'angelo, e come Santo Gabriello le disse, che l'era da Dio eletta, quando gli annunziò la incarnazione di Gesù Cristo, e che la concepette e partorivergine. E questo medesimo testimonia il loro alcorano, e dice questo libro che, Iesù Cristo, come nacque, che subito parlò e fu santo profeta e verace in parole e in fatti, è vero e pietoso e diritto senza vizio. E dice questo libro, che quando l'angelo annunziò la incarnazione, la Vergine Maria era giovane e aveva gran paura, però che uno, chiamato Tam, il quale era incantatore e sortiero, era nel paese e fecesi spesse volte in forma d'angelo, e andava a dormire con le fanciulle, e Maria Allora si teme, che questo Tam non la volessi ingannare sotto spezzi ed angelo, e scongiurò l'angelo, che lì dicessi, se gli era colui. E l'angelo rispose, che di nulla dubitassi, che esso era certo messo di Dio. I tem, questo libro dice, che, quando ella ebbe partorito sotto uno albero di palma, dove era il presepio del bue e dell'asino, che la si vergognava aver partorito e pianeva forte, dicendo, che la vorrebbe essere morta. Allora il figliuolo parlò, confortandola, e disse, Madre, non ti dubitare punto, che Dio ha mostrato in te il suo segreto per la salute del mondo. In molti altri luoghi dice il libro al Corano, che è le nostro Signore parlò, come nacque. E dice questo libro, che Gio fu mandato da Dio Onnipotente per esere spettacolo, e semplò e specchio a ciascheduno uomo. E per lo simile questo al Corano dice, che il Dì del giudicio Dio verrà a giudicare ogni gente e ai buoni trarrà a esse e ai cattivi condannerà all'inferno. E dice, che tra tutti i profeti, Gio fu il più eccellente e il più propinco a Dio. E dice, che fece Evangeli, nei quali sono di buone dottrine e sapienzia e dilettazione e chiarezza e verità e predicazione verace. E quegli che credono in Dio dicono, che Egli è vero profeta e più che profeta e senza peccato, e che illuminò e ciechi e liberò gl infermi e risuscitò e morti, e che il mondo vive in Lui. Quando loro vecono Evangeli del nostro Signore, gli legono volentieri, e specialmente quello dove è scritto, Missus Estangelaus Gabriel. Il quale Evangelo, gli uomini litterati spesse volte dicon con loro orazioni e bacionlo e tengonlo con grande riverenzia e divozione. I tem, è digiunono un mese fra l'anno, e non mangiono infino a notte, e tutto questo mese non usano confemine, ma gl infermi non sono costretti a questo digiuno. I tem, il detto libro parla dei giudei che sono cattivi, e che non vogliono credere a Giù che fosse per parte di Dio e che egli mentono falsamente di Maria e del suo figliolo, dicendo che egli o no avevano crocifisso Giù figliolo di Maria, però che non fu mai crucifisso, come dicono, anzi il fece i Dio a scendere a S.E. Sanza morte e Sanza magagna, ma trasformò la sua forma 67 in uno, chiamato Judas Scariot, e questo crucifisso nove giudei, pensando che fusi Giù, che era salito in cielo vivo, a giudicare il mondo. E però dicono, che i cristiani hanno poco conoscimento, che semplicemente e falsamente credono, che Giù Cristo fossi crucifisso, che avrebbe fatto contro alla sua giustizia a sofferire che Giù Cristo, il quale era innocente, fossi senza colpa stato messo a morte, sic, e in questo articolo dicono che noi falliamo, però che la grande giustizia di Dio non potrebbe così fatta cosa sofferire, e in questo manca la loro fede. Essi confesson bene, che furono buone l'opere sue, e che son verace parole li Evangeli e le sue dottrine, e veri e suoi miracoli, e che la benedetta Vergine Maria fu santa e buona e vergine prima e poi dopo la natività di Giù Cristo, e che quegli che credono perfettamente in Dio, saranno salvati. E perché son tanti propinquia la nostra legge, leggermente si convertiscono alla fede cristiana, quando si predica distintamente la fede e la leg di Cristo, e se gli dichiarano le profezie, e dicono che sanno bene per profezie, che la leg di Macometto fallerà, come hanno fallite quelle dei Giudei, e che la fede cristiana durerà infino alla fine del mondo. Nota qui la opinione dei Saracini della legge. E chi gli domanda di ciò che credono, e rispondono, noi crediamo in Dio creatore del cielo e della terra e di tutte le altre cose, il quale ha fatto ogni cosa, e senza lui niente è fatto, e crediamo che vero sia quello che Dio ha detto per gli santi profeti. Item, Macometto comandò nel suo libro al Corano, che ciascuno avesse due o tre o quattro moglie, infino a nove, delle amiche tante quante se ne potessino avere, e se alcune delle moglie falliscono contro Amariti, lui le può cacciare di casa e separarla da lui e torre un'altra, ma è di bisogno che gli dia parte della sua roba. E quando si parla loro del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, è dicono, che sono tre persone e non uno Dio, perché e loro al Corani non parlano. punto della Trinità. Quando si dice loro che L Figliuolo è la persona del Padre Dio, è dicono bene che sanno che Dio ha parola che altrimenti non sarebbe vivo. Item, quando si parla loro della Incarnazione, a che modo Dio per la parola dell'Angelo mandò la sua sapienzia, e obombrossi nella Vergine Maria, e che per la parola di Dio saranno i morti risuscitati al di del giudicio, e gli dicono, che questo è vero, e che gran forza ha la parola di Dio, e così dice il loro libro al Coram, dove dice, che l'Angelo parlò a Maria, dicendo il Dio evangelica parola di sua bocca, e sarà il suo nome chiamato Giù Cristo. E dicono che Abraham fu amico di Dio, e dicono che Muise fu imbasciatore di Dio e che Giù Cristo fu la parola e lo Spirito Santo di Dio, e Macometto fu diritto messo di Dio. Ma dicono bene che di questi i grado, il più eccellente e il più degno fu Jesù Cristo, sì che egli hanno molti articoli buoni della nostra fede, avenga Dio che non abino perfetta leg, secondo e cristiani. E, come io ho detto di sopra, leggermente si convertirebbero, perché egli hanno la Bibbia e li Vangeli di profeti scritti nella loro lingua, e fanno stima assai della Santa Scrittura, ma egli o no non intendono la lettera spirituale, anzi quanto alla scorza, fanno come i Giudei, che non intendono la lettera spiritualmente, ma corporalmente. Per questo sono persecutori de veri e savi cristiani che la intendono spiritualmente, e però dice San Paolo, Lictera Enimo Cidit, Spirita Sautem Vivificat. I Tem, e Saracini dicono, che i Giudei sono cattivi, imperò che glanno volta 68 la leg che Dio mandò per Muise. E dicono che cristiani sono cattivi, perché non oservono i comandamenti degli Evangeli dati a loro da Giù Cristo. Delle parole che mi disse il soldano in secreto, le quali ci confondono. E però io vi voglio dire quello che mi disse una volta il soldano al Cairo. Egli fece votare la sua camera ad ogni maniera di gente, di signori ed altri baroni, perché voleva parlare con me co di secreto. Domandòmi, in che modo si governano i cristiani nel vostro paese. Io risposi, bene, per la Divina Grazia. E lui mi disse, che veramente non fanno, perché i vostri prelati non istimono il servire a Dio, e gli ono dovrebbero dare esempio di ben fare alla comune gente, e dovrebbero andare a templi a servire a Dio, e gli vanno tutto di per le taverne giocando, vendo e mangiando, a modo di bestie. E così i cristiani si sforzano, in ogni maniera che possono, di barattarsi e ingannarsi l'un l'altro, e sono tanto superbi, che non si sanno vestire, né contentarsi mai, perché quando vestono corto, e quando lungo, o larghi, o rastretti, e quando ricamati, e quando intagliati, ed in ogni modo si divisano con cinture e con librere, e con truffe e con buffe, e gli ono dovrebbero essere semplici e umili e mansueti e meritevoli e caritativi, siccome fu Gesù Cristo, nel quale loro credono. Ma è fanno il contrario e a rovescio, e sono tutti inclinati a malfare, e tanto sono cupidi e avari, che per poco argento e vendono i figliuoli, le sorelle e le loro proprie moglie per fare meritrice, essi si tolgono le moglie l'uno all'altro, e non si mantengono fede, anzi non osservano la loro legge, che Gio Cristo ha loro dato per la loro propria salute. Così per li loro propri peccati hanno perduta questa terra, che noi teniamo, e il vostro Dio si ce l'ha data e concessa nelle nostre mani, non tanto per la nostra fede, ma per li vostri peccati, perché noi sappiamo di certo, che quando voi servirete bene il vostro Dio, Lui vi vorrà aiutare, e noi non potremo contro a voi. E ben sappiamo per profezia, che cristiani regneranno in questa terra, quando egli serviranno al suo Dio più devotamente che non fanno ora, ma mentre che egli non stanno in così brutta vita e con tanti peccati, come è sono al presente, noi non abbiamo punto dubbio di loro, perché il loro Dio non gli aiuterà punto. E allora gli adi mandai qualmente sapeva così bene gli stati d'intorno dei principi dei cristiani e il comune stato loro. E lui mi rispose, che ciò sapeva per la gente che mandava per ogni parte e in ogni paese, in guisa di mercà tanti di pietre preziose, di moscado e di balsamo, e altre cose per sapere il governo d'ogni paese. Di poi fece chiamare nella camera sua i signori che prima aveva cacciati fuori, e mostrò mi quattro di questi che erano gran signori in quel paese, e quali si mi divisarono così bene il paese dei cristiani, come se fossino nati in detti paesi, e parlavano franceschi nobilmente, e similmente il soldano, di che molto mi maravigliai. Ai lasso! Quanta vergogna e quanto danno è a tutti i cristiani e alla nostra legge, che gente, che non hanno fede, né legge, ci vanno biassimando e ispregiando e riprendendo. Quegli che per gli nostri buoni esempi e nostra accettabile vita dovrebbero convertirsi alla fede di Gesù Cristo, sono per le tristizie nostre e nostri errori dilungati totalmente. Ma noi siamo per gli errori nostri e per le nostre tristizie estratti e dilungati totalmente dalla vera e santa fede. Onde non è maraviglia, se loro ci chiamano cattivi, perché è dicono il vero. Ma dicono, che le saracini sono buoni e leali, però che egli ono guardano interamente il comandamento del santo libro al Corano, che Dio li mandò per lo santo messo e profeta Maometto, al quale dicono, che l'angelo Gabriello spesse volte parlava, mostrandogli la volontà di Dio. Della vita di Maometto, dove è nacque, e quando cominciò a regnare, e in qual luogo e in che tempo. Sappiate, che Maometto nacque in Arabia, e fu un povero vetturale che andava dietro a cammelli comercà tanti, e tanto vuandò, che una volta arrivò comercà tanti in Egitto, e allora era dei cristiani. Nei diserti d'Arabia era una cappella, dove stava un romito, e quando Maometto entrò in questa cappella, Lucio, il quale era piccolo e basso, per lo entrare di Maometto venne grande e largo a modo come una entrata ad un gran palazzo. E sappiate, che questo fu il primo miracolo che lui fece in sua gioventù. E da poi cominciò Maometto a venire Savio e Ricco, e da poi fu governatore della terra principale di Corondaria, e quella così saviamente governò, che, morto il principale, lui tolse la sua donna per moglie, chiamata Cadiga. E la donna, poi che ebbe conosciuto che Maometto cascava del male caduco, e la si dolse assai averlo tolto per marito. E Maometto tosto si seppe riparare, e di elle a intendere che ogni volta che cadeva, l'angelo Gabriello gli veniva a parlare, e che per lo grande splendore dell'angelo, il quale non potendo la sua vista sostenere, conveniva che cadesi, e però dicono i saracini, che l'angelo gli veniva spesso a parlare. E questo Maometto regnò in Arabia negli anni del nostro signore Vucigrado. X, e fu della generazione di Ismael, figliuolo d'Abraham e di Agar che fu sua cameriera, e però vi sono saracini che si chiamano Ismaeliti, e altri vi sono propri saracini di Sara, altri son chiamati Moabit e altri Monit, per li due figliuoli delle figliuole di Lotò, che furono gran signori in terra, cioè Moabit e Aman. Della cagione perché i saracini non beono vino, e della festa che fanno quando un cristiano si fa saracino. I Tem, Maometto amava un valente eremita, il quale stava nel diserto, una lega di lungi dal monte Sinai, per la via che va da Arabia in verso Caldea e in verso Judea, a una giornata, dove i mercatanti vanno per montagna. E tanto stava Maometto con questo eremita, che a suoi servi rincresceva l'aspettare, perché Maometto si dilettava delle parole dello eremita, e faceva fare vigilia a famigli, di che loro pensorono d'uccidere questo eremita. E avenne che, essendo Maometto ubriaco una notte e dormendo lui, i sua famigli presono una spada di Maometto e uccisono il romita buono, e poi rimisono la spada nel suo luogo, tutta insanguinata. E la mattina, quando fu digestito il vino, Maometto si svegliò e trovò il buono e valente eremita che era morto, e volendo far giustizia ad emicidiali, gli dettono a intendere e famigli, insieme concordati, che lui stesso l'avea morto per imbriachezza, e mostrorogli la spada propria sanguinosa, la quale come la vide, credette che ciò fossi vero che dicevano e famigli. E allora mala disse il vino e i bevitori di quello, e per questo e saracini di voti mai non beono vino. Ma molti di loro ancora vi sono, che nascosamente ne beono volentieri, ma se si sapesse, sarebbero ripresi da chi è sopra ciò, e beon bene buone bevande dolce e nutritive, che fanno delle cannelle di che si fa il zucchero, di buon sapore, e fa buono appetito. Item, quando avviene che alcun cristiano si fa saracino, o per semplicità, o per cattività, o per povertà, gli archi flammi, ovvero flammi che lo ricevono, dicono la Elesh, Hello, e la Macomet, Rosal, ala Bet 69, ciò è a dire, non è Dio altro che un solo e Macometto fu suo messaggio. Ma poi che io vuoi scritto parte della sua fede e legge, io vi dinoterò le loro lettere e nome delle figure, come le chiamano, le quali sono qui di sotto 70. E ancora hanno quattro lettere più, per diversità del loro linguaggio, perché egli parlano molto nella gola, siccome noi abbiamo in nostro linguaggio di Inghilterra due lettere, che non sono nel suo linguaggio, cioè Y e Z, che sono a bocchè lì. Fine del volume primo. Indice. Al cortese lettore pagina settimo trattato bellissimo delle più maravigliose cose e più nobile che si truovino nelle parte del mondo, scritte e raccolte dallo strenuissimo cavalieri Asprondoro, Giovanni Mandavilla francese che vi citò quasi tutte le parte del mondo abitabili, ridotto in lingua toscana trequidi scrive il primo cammino d'andare al santo sepolcro nove della chiesa di Santa Sofia undici della immagine di Iustiniano Imperatore Ivi in Gostantinopoli è la croce del nostro Signore dodici la descrizione della croce quattordici della opinione d'alcuni cristiani del legno della croce quindici della immagine della croce e chi la trovò sedici della grandezza della croce diciassette della corona delle spine Ivi della virtù che hanno le spine delle quali fu fatta la corona al nostro Signore 18 del corpo di Santo Giovanni Grisostimo 20 del corpo di Santo Luca Ivi d'uno vaso che si riempie per esse è medesimo Ivi della città di Gostantinopoli 21 delle isole che sono in Grecia Ivi onde nacque Aristotile e dove giace Ivi del Monte Olimpio 22 del Monte Attalante dove è l'aere puro e netto Ivi della Belleisa di Costantinopoli 23 del corpo di Hermes 24 come il Papa scrisse a Greci che volessino essere uniti Ivi della risposta che è feciò 95 dello errore dei greci contro alla consecrazione del sacramento Ivi 1 altro errore 26 un altro errore Ivi di molti altri errori dei greci 27 di ciò che fa lo imperatore 28 del corpo di Santo Nicolò 29 dell'isola di Sivo sic dove cresce il mastice Ivi dell'isola di Patemos dove scrisse Santo Giovanni l'Apocalisse Ivi della città de di Efeson dove Santo Giovanni passò di questa vita 30 della città di Maiolica 31 dell'isola di Colcos e dell'isola di Crete della quale fu signore Ipocrasivi come la figliola di Pocras fu trasmutata ad una bella fanciulla in uno orribile dragone 32 in Cipro nasce Buon Vino il quale il primo anno è rosso e poi diventa Bianco 35 qui mette la cagione perché abissò questa città di Sotalia con l'isola e fu per uno orribile peccato 35 dell'isola di Cipri Nicosia e famagosta 36 la croce di Dismas 37 dove giace il corpo di Santo Girolamo e dove giace Santo Ilarione Ivi del porto di Tiro Ivi degli Roloni granchi e della fonte di che parla la santa scrittura 38 di Safon, Sidonai, Barutti, Sidona e Dammasco 39 del Giafo che edificò Iaf e Ivi di Andromades giugante 40 del Grande Monte, chiamato la scala di Iri 41 come Sansone Amazò e Filistei al Palazzo 42 di Cesaria e del Castello dei Pellegrini, di Ascalan, del Giafo, e come in Babilonia di Mora il Soldano Ivi della Grande Babilonia, la quale edificò Nebrot I Re 51 come il Re Dario Partie il fiume in 4.600 rivoli piccoli per lo giuramento che gli aveva fatto a dispartirlo 52 lo imperatore di Persia tiene la Grande Babilonia Ivi della città di Mecha, dove giace Machometto 53 di Aaron padre d'Abraham, Sik, e Defien, che fu gran teologo 54 come il Nilo cresce e discresce 56 del paese d'Egitto, o della cagione perché qui vi sono. Uomini astronomi 57 delle isole d'Egitto e degli Nubiani che nascono neri come Mori 58 qui fa menzione d'uno mostro, il quale trovò il Romito nel diserto 59 come è fatta la Fenice 61 del Cairo e delle cose che vi sono i vi come si coglie il balsamo, e dove nasce, e come non fruttifica se non si lavora per mano dei cristiani, e come si conosce 63 per quante vie s'entra in mare per andare in Gerusalem 68 dell'isola di Sicilia e di certe maniere di serpe che conoscono e figliuoli legittimi da Bastardi, e del Monte Mungibello 69 della via che va per lo porto di Pisa 70 della via che va dall'isola di Rodi all'isola di Crete, e da Crete all'isola di Cipro Ivi perché si chiama Mare Rosso 73 del Monte Sinai, ove Moisse parlò con Dio 74 della chiesa di Santa Caterina e della sepoltura sua Ivi come si estingue la sua lampè da quando il proposto muore 76 della cappella di Elia profeta che si chiama Oreb 78 del luogo dove fu soppellita Santa Caterina 79 come si debba torre con miato da e monaci. 80 del modo come s'arma questa gente 81 della villa di Bersabè, ove dimorò Abraham Ivi della casa d'Abraham 83 in questo luogo abitò Adamo e Teva, poiché furono cacciati di Paradiso Ivi d'una spezie di terra che si mangia in luogo di spezie 84 della profezia, che un signore d'Occidente guadagnerà la terra di promissione con lo adiutorio dei cristiani 85 della città di Betlemme del sito suo e del campo fiorito, e perché si dice campo fiorito 86 del luogo ove nacque Cristo 87 del presepio del nostro Signore, e dove cascò la stella dei 3 Magi 88 come fu chiamata Gerusalem, la quale prima si chiamava Jebul 91 delle città che sono intorno a Gerusalem 92 delle chiese e luoghi che sono in Gerusalem 93 d'una lampana che sempre arde innanzi al sepolcro santo, la quale il venerdì santo si accende da per esse è stessa, e del monte Calvario, e dove fu trovato il capo d'Adamo, e di molte altre cose che Ivi sono 94 come Giulio Cesare ordinò l'anno di dodicesimo mesi, che prima non era se non di X96 delle colonne che piangono la morte di Gesù Cristo 97 come Gostantino fece fare il morso del suo cavallo del ferro de Chiovi Santi, e della vittoria che di ciò ebbe 98 qui si fa menzione di molti luoghi santi e di gran divozione 99 dell'onore che fanno e Saracini alle lettere del soldano 102 qui descrive quanto durò il tempio di Salamone 103 qui descrive la forma del tempio 104 qui si fa menzione delle reliquie dei giudei che erano nell'arca 105 del nome del tempio di Salamone 108 della crudeltà di Erode e della vita sua 110 qui si fa menzione come è furono tre erodi 111 qui fa menzione di molti luoghi santi e di voti 112 del monte Zion dove erano soppelliti David e Salamone e molti altri recento 14 qui fa menzione di molti altri luoghi santi e di voti i VDXXI martori e quali Raguno e Lione per volontà di Dio e non una notte e del monte Giulia dove giace Samuel profeta 117 della chiesa di nostra donna e del tempo che aveva quando murì 118 qui si fa menzione da alcuni luoghi santi 120 del monte dove digiunò il nostro signore e fu tentato 123 della natura del mare morto e della lunghezza sua 124 del fiume Giordano e del luogo dove fu soppellito Young e altri luoghi 128 come Giuliano appostata fece ardere il corpo di Santo Giovanni e gittare la cenere al vento 132 come Teodosio imperatore trovò il capo di San Giovanni Battista 133 d'una fonte che si muta quattro volte di colore l'anno 134 delle città che sono nella provincia di Galilea e dove nascerà Anticristo e dove sarà nutrito e dove regnerà 135 del luogo dove nacque nostra donna e di quanto tempo era quando fu annunziata dall'angelo e quanto tempo visse dopo la passione 137 del monte Tabor e come il giudizio sarà il dì di Pasqua 140 dove nacque Santa Anna 143 dell'usanza di questo paese e di diverse maniera di cristiani e di loro costumi e come è fanno la loro confessione e delle autorità le quale allegono per loro opinione 145 del sito di Damasco e da cui fu edificato e della belezza e abbondanzia sua e come santo Paolo e il quale leggeva fisica in Damasco fu convertito 148 qui vi descrive il sito della chiesa di nostra donna di Sardemaco e della immagine sua la quale è vi dipinta con diversi colori e poi descrive la valle di Beliar la città di Tripoli e la città di Baruti dove santo Giorgio uccise il dragone 150 della via più breve per andare alla terra santa per mare e delle cose che si trovano per lo cammino 153 di molte altre diverse vie per andare al detto luogo santo per terra e dei luoghi e quali si trovano per la via e dei costumi di quelle gente e di molte altre cose 155 della leg di maometto e della opinione dei saracini e delle opinioni che hanno dopo la morte loro e dove l'anima loro vada e in qual luogo e di quel che tengono del paradiso e dell'inferno e della fede che hanno 161 nota qui la opinione dei saracini della legge 166 delle parole che mi disse il soldano in secreto le quali ci confondono 168 della vita di maometto dove è nacque e quando cominciò a regnare e in qual luogo e in che tempo 171 della cagione perché i saracini non veono vino e della festa che fanno quando un cristiano si fa saracino 173 emendazioni pag diciannovesimo lin 21 al cairo corregge in alcataio pag 29 lin 8 le porte si larar in le parte pag 32 lin 18 forte ardito correggi in forte e ardito pag 43 lin 4 si vi innanzi si larar in si vi innanzi pag 80 alla nota 1 mansione vale propriamente fermata posata stanza onde qui vi male si interpreterebbe magione secondo che eroneamente dubitai pag 98 lin 3 chiodi auti si larar in chiodi santi pag 108 lin 21 trattino 22 molto bella in una pag 148 lin 22 dove legge è avvenire per damasco si corregga in è avvenire per damasco pag 166 lin 25 è la persona si larar in è la parola 71 note uno oltre i viaggi lasciò e ziandio il manda vila un copioso lapidario nel quale si divisano i vari ordini delle pietre orientali con le loro virtù e proprietà nonché le isole e i paesi speciali ove ciascuna di per esse e si ritrova trading se ne conoscono e tutte e tre in lingua francese la prima di lione senza data ma del sec 15 in ottavo pic di fo 24 la seconda senza aver una nota tipografica appartenente al mille e 535 circa in 16 di fo 28 e la terza di parigi mille e 561 in 12 2 è in contraddizione con ciò che dicesi più sopra il manda vila fu veramente inglese via alla pagina 7 li 20 tre scherni e beffe derisioni e simili nel vocale registransi caleffare e caleffatore ma non caleffo 4 una postilla marginale di mano di am salvini dice di fronte alla parola volgare le romance punto 5 e per la città d'orpen e per lo castello di nice burgess coderic 6 10 altri fiumi coderic 7 ungheria e per mezzo zeffe e per mezzo traccia e tentra coderic 8 mantiene la sua dolcezza resurgie entro nel mare e meschiasi con l'acqua marina di poi coderic 9 occidente coderic est 10 un grazioso opuscolo fu stampato ultimamente a vienna intorno alle diverse opinioni sull'origine della croce del professore adolfo musafia vienna 1870 11 cod magl le scale 12 il cod magl legge costantemente pietra in luogo di piastra 13 qui manca il sopraddetto alfabeto nei codici e nelle stampe 14 nica e kinetton coderic 15 giorgio dove giace il corpo di santo nicolao e verso molti altri luoghi la vede coderic le stampe leggono come sopra 16 questa rubrica manca ai due cad mss sta però nelle stampe del mille e 1488 e mille e 1492 17 ho seguito la les del coderic nella maggior parte di questo capitolo variano assai le lez delle stampe ed mss fra loro 18 il coderic qui a una lacuna le stampe leggono torse e il cod magl corse 19 qui ripiglia il coderic 20 isola già gran tempo tolsono allo m per adore solleva coderic le stampe leggono come sopra 21 sono 300 leghe coderic 22 questa rubrica manca ai cad è però nelle stampe 23 qui il sussidio del coderic 23 qui il sussidio del coderic vien meno per mancanza di una carta ci gioveremo al bisogno delle stampe 24 le stampe calife ed del 1488 e calife ed del 1492 25 qui ripiglia il coderic 26 e voglio che voi sappiate che quando il soldano vuole mettere in istato un cavaliere ovvero altro gentile uomo coderic 27 240 leghe coderic 28 senza scalzarsi coderic 29 così i cad le stampe hanno vividità forse perverdezza verdura verdura verdità e simili 30 di gun altrimenti nominata nilo coderic 31 vie sotterranee va nelle loro citerne e che gli togliessi quella acqua egli non potrebbero resistere coderic le stampe leggono e tanno le loro citerne sopra quella acqua 32 che vuol dire la città del sole coderic 33 così leggono anche le stampe il coderic a rama brocca per rama dicesi per tutta la provincia di romagna 34 in signif di falsificare adulterare e simili 35 si per se leggessi comunemente nelle antiche scritture il coderic a e se gli è un rosso o nero ec 36 così il cod magl e le stampe il ms ric legge e così hanno quegli del paese nelle loro croniche 37 mancane cad e nelle stampe 38 nel coderic manca al contrario nelle stampe leggessi al contorno 39 così il cod magl e le stampe sopra la detta riviera del nilo coderic 40 così amendoicad e le stampe 41 il coderic a per giunta e più altre chiese sono sopra il detto monte 42 il coderic a questo luogo legge nel modo seguente e dicono le genti che tutto è un luogo medesimo ed è tutto un paese perché l'uno monte e l'altro si chiama sinai ma dall'uno all'altro è una grandissima via e nel mezzo tra l'uno monte e l'altro è una valle profonda 43 così i cad e le stampe forse maggione 44 così mss e le stampe 45 questo avverbio può così a se non seguito dal che mi giugno nuovo ha fatto 46 così i cad e le stampe 47 è in contraddizione con quello che l'autore disse più sopra 48 così i cad e le stampe 49 questa versione leggessi soltanto nelle stampe 50 questi e simili scerpelloni sono scambiati a vicenda nelle stampe e nei codici e non vi si è potuto rimediare 51 nota maniera efficace che tanto innamorò il cesari della quale egli parla nel dialogo delle grazie le stampe leggono gocciono e il codric gittono 52 così le stampe e il cod magl il codric legge quando ella lo vide credette che gli fossi uno frate del cordone che così si chiamavano 53 una torsa vale 10 piedi 54 si poteva narrare sciocchezza maggiore 55 il codric a residenza e le stampe e il cod magl stagio ostaggio che vale stallo cioè stanza dimora 56 così il cod magl e le stampe il rig legge ancora sasso 57 così le stampe e il cod magl 57 così le stampe e il cod magl il rig offrire colombe e tortore 58 codric crozoro 59 clia fa samata dal nostro signore codric le stampe amica del nostro signore 60 d'india da quella di arabia codric 61 qui il nostro autore confondesi che con neopoli non ricorda quel che disse poco più sopra e di due città ne fa una sola ma non è nuovo 62 dinanzi per insino al mento è a roma nella chiesa codric 63 le stampe leggono è tutta bruscolata 64 mancano nei cad e nelle stampe come pur vedemmo altre volte 65 così il cod magl e le stampe il codric 67 così le stampe i due cad leggono la sua morte 68 così il cod magl e le antiche stampe 69 così le stampe e il cod magl nel rig manca 70 manca nelle stampe e ne cad come altresì vedemmo alla pagina 28 e come altresì vedremo altre volte più innanzi 71 i cad leggo un veramente persona malediz del 1488 molto più ragionevolmente a parola nota del trascrittore ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute correggendo senza annotazione minimi errori tipografici le correzioni e emendazioni indicate a fine libro sono state riportate nel testo copertina creata dal trascrittore e posta nel pubblico dominio asterisco 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 end of the project gutenberg ebook uno viaggi di gio domanda villa volono asterisco 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 updated editions will replace the previous one the old editions will be renamed creating the works from print editions not protected by us copyright law means that no one owns a united states copyright in these works so the foundation and you can copy and distribute it in the united states without permission and without paying copyright royalties special rules set forth in the general terms of use a part of this license apply to copying and distributing project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works to protect the project gutenberg simbolo di marchio registrato concept and trademark project gutenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for an ebook except by following the terms of the trademark license including paying royalties for use of the project gutenberg trademark if you do not charge anything for copies of the trademark license is very easy if you do not charge anything for copies of this ebook complying with the trademark license is very easy you may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works reports performance and research project gutenberg ebooks maybe modified and printed and given away you made so practically anything in the united states with the books not protected by us copyright law redistribution is subject to the trademark license especially commercial redistribution start full license the full project gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project gutenberg simbolo di marchio registrato registrato mission of promoting the free distribution of electronic works by using or distributing this work or any other work associated in any way with the phrase project gutenberg you agree to comply with all the terms of the full project gutenberg simbolo di marchio registrato license available with this file or online at www.gutenberg.org barra license section 1 general terms of use and redistributing project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works 1.a by reading or using any part of this project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work work you indicate you indicate understand agree to and accept all the terms of this license and intellectual property trademark barra copyright agreement agreement if you do not agree to abide by all the terms of this agreement you must see using and return or destroy all copies of project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works in your possession if you pay the fee for obtaining a copy of for access to a project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8 1.b project gutenberg is a registered trademark it may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement there are a few things that you can do with most project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works even without complying with the full terms of this agreement see paragraph 1.cibilo there are a lot of things you can do with project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works if you follow the terms of this agreement and help us preserve free future access to project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works see paragraph 1.e.bilo 1.c the project gutenberg literary archive foundation the foundation or pglaff tons a compilation copyright in the collection of project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the united states if an individual work is unprotected by copyright law in the united states and you are located in the united states we do not claim a right to prevent you from copying distributing performing displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to project gutenberg are removed of course we hope that you will support the project gutenberg simbolo di marchio registrato mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project gutenberg simbolo di marchio registrato works in compliance with the terms of this agreement for keeping the project gutenberg simbolo di marchio registrato name associated with the work you can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full project gutenberg simbolo di marchio registrato license when you share it without charge with actors 1.d the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work copyright laws in most countries are in a constant state of change if you are outside the united states check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading copying displaying performing distributing or creating derivative works based on this work or any other project gutenberg simbolo di marchio registrato work the foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the united states 1.e unless you have removed all references to project gutenberg 1.e.1 the following sentence with active links to or order immediate access to the full project gutenberg simbolo di marchio registrato license must appear permanently whenever any copy of a project gutenberg simbolo di marchio registrato work anywhere con which the phrase project gutenberg appears or with which the phrase project gutenberg is associated is accessed displayed displayed performed viewed copied or distributed this ebook is for the use of anyone anywhere in the united states and most other parts of the world at in August and with almost no restrictions whatsoever you may copy it give it away or reuse it under the terms of the project gutenberg license included with this ebook or online if you are not located in the united states you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook 1.e.2 if an individual project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work is derived from texts not protected by us copyright law does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder the work can be copied and distributed to anyone in the united states without paying any fees or charges if you are redistributing or providing access to a work with the phrase project gutenberg associated with or appearing on the work you must comply with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the project gutenberg simbolo di marchio registrato trademark has set for in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9 1.1.1 1.3 ihan individual project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work is posted with the permission of the copyright holder your rose and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder Additional terms will be linked to the project Gutenberg simbolo di marchio registrato license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg simbolo di marchio registrato license terms from this work or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg simbolo di marchio registrato. 1.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg simbolo di marchio registrato license. 1.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg simbolo di marchio registrato work in a format other than plain vanilla ash or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg simbolo di marchio registrato website, www.gutenberg.org. 2.6 You must, at 9 additional cost, at 9 additional cost, 4 expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ash or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg simbolo di marchio registrato licences specified in paragraph 1.1.1.1.1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg simbolo di marchio registrato works unless you comply with paragraph 1.1.8 or 1.1.9. 1.1.8 You may charge a reasonable fee for copies or for providing access to or distributing project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg simbolo di marchio registrato works calculated using the method you already used to calculate your application. The fees of to the owner of the project Gutenberg simbolo di marchio registrato trademark, but he is agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg literary archive foundation. Royalty Payments must be paid with in 60 days following which you prepare, or are legally required to prepare, your period of tax returns. Royalty Payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4. information about donations to the project Gutenberg literary archive foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that s-barra he does not agree to the terms of the full project Gutenberg simbolo di marchio registrato license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg simbolo di marchio registrato works. You provide, in accordance with paragraph 1.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of disagreement for free distribution of project Gutenberg simbolo di marchio registrato works. 1.9.1, if you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work or group of works on different terms done are set 4 in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg literary archive foundation, the manager of the project Gutenberg simbolo di marchio registrato trademark. contact the foundation asset forze in section 3 bilo 1.f 1.f punto 1 project gutenberg valentine send employees x pen can si darà vale farti tu hai denta fai do copyright research on transcribe and prove free works not protected by us copyright lo in creating the project gutenberg simbolo di marchio registrato collection despite these efforts project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works and the medium on which they may be stored may contain defects such as but not limited to incomplete in a chiaritor corrupt data transcription errors a copyright order intellectual property infringement al defective or damage disco roder medium a computer virus or computer codes that damage or cannot be read by your equipment 1.f punto 2 limited granti disclaimer of damages except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f punto 3 the project gutenberg literary archive foundation the owner of the project gutenberg simbolo di marchio registrato trademark and any other party distributing a project gutenberg simbolo di marchio registrato elettronic work under disagreement disclaim all liability to you for damage cost send expenses including legal fees you agree that you ignore remedies for negligence strict liability breccio ferranti or breccio contract except dose provided in paragraf 1.f punto 3 you agree that the foundation the trademark owner and any distributor under disagreement will not be liable to you for actual direct indirect consequential punitive or incidental damage si venifugive notice of the possibility of suc damage 1.f punto 3 limited right of replacement or refund if you discover the effect in this electronic work within 90 days of receiving you can receive a refund of the money if any you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from if you received the work on a physical medium you must return the medium with your written explanation the person orientated it provided you with the the defective work may elect to provide a replacement copy in l'umofa refund if you received the work electronically the person orientated providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in l'umofa refund if the second copy is also defective you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem 1.f punto 4 except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f punto 3 this work is provided to you a cs with no other branches of any kind express or implied including beauty not limited to branches of merchant ability or fitness for any purpose 1.f punto 5 some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages if any disclaimer or limitation set forth in disagreement violates the law of the state applicable to disagreement the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law the invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions 1.f punto 6 indemnity you agree to indemnify and hold the foundation the trademark owner any agent or employee of the foundation of the foundation anyone providing copies of project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works in accordance with this agreement and any volunteers associated with the production promotion and distribution of project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works armless from all liability costs from all liability costs and expenses including legal fees that arise directly or indirectly from many of the following which you do or cause a two hacker a distribution of this or any project gutenberg simbolo di marchio registrato work b alteration ma da fa cash on or additions or deletions to any project gutenberg simbolo di marchio registrato work and c any defect you cause section 2 information about the mission of project gutenberg simbolo di marchio registrato project gutenberg simbolo di marchio registrato is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete old mid-aged and new computers mid-aged and new computers it exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching project gutenberg simbolo di marchio registrato s goals and insuring that the project gutenberg simbolo di marchio registrato collection will remain freely available for generations to come in 2001 the project gutenberg literary archive foundation was created to provide secure and permanent future for project gutenberg simbolo di marchio registrato and future generations to learn more about the project gutenberg literary riav pdata rie qui arch away archived foundation and along your efforts and şey heights can help si search chance 3 and 4 and the foundation information ifula information pvv rumors going olduğutemberg punto org covid poverty on.org set change 300 information about the project gutenberg literary archive foundation the project gutenberg literary archived foundation is a non profit 501 c3 è già che i shana il corporation organized under dello soft estate of mississippi and granted tax exempt status by the internal revenue service the foundation s e n or federal tax identifica che i shannon beris 64 trattino 6 2 2 1 5 4 1 contributions to the project gutenberg literary archive foundation art tax deductible to the full extent permitted by us federal laws and your status laws the foundation s business offices located dati 809 north 1500 west salt lake city 884 116 801 596 1887 email contact link send up to date contact information cambi found at the foundation s website and official page at www.gutenberg.org barra contact section 4 information about donations to the project gutenberg literary archive foundation project gutenberg simbolo di marchio registrato di pensapane and canate survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machinery a double form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment many small donations unto dollari 5 dollari al particolarly important to maintaining tax exempt status with the rs the foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the united states compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements we do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance to send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate while we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such state su approche stati unit with the first to donate international donations are greatly accepted but we cannot make any statements concerning tax 3 at ment of donations received from outside the united states us lo salone swan power small staff please check the project gutenberg web pages for current donation i chan mezzan 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 mezzand addresses donations are except a dina numero for the raise including checks online payment send credit card donations to donate please visit www.gutenberg.org barra donate section 5 general information about project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works professor michael s art was the originator of the project gutenberg simbolo di marchio registrato concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone for 40 years i produced and distributed project gutenberg simbolo di marchio registrato e books with only a luce network of volunteer support project gutenberg simbolo di marchio registrato e books are of uncreated from several printed editions all of which are confirmed as not protected by copyright in the us unless a copyright notices included tas we don't necessarily keep e books in compliance with any particular paper edition most people start at our website which is the main pg search facility www.gutenberg.org this website includes information about project gutenberg simbolo di marchio registrato including how to make donations to the project gutenberg literary archive foundation how to help produce our new ebooks and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks